Bentornati sul canale. Inseriamo un testo di un nuovo autore. Spero vi piaccia. Un abbraccio e buon ascolto. Gli eterni principi della verità che trascendono tempo e luogo. Fu un pensatore di proporzioni immense che, per il bene delle persone nei secoli a venire, perseverò nello sforzo di scoprire la fonte della creazione e di liberare l'esistenza umana da tutti gli impedimenti. Se nell'età presente dovessimo provare a immaginare che tipo di persona fosse il Buddha Shakyamuni, quale ritratto ne uscirebbe? Questo è stato lo spirito piuttosto ingenuo, curioso e in un certo senso audace, che ha portato alla stesura di questo libro. Ma per costruire un'immagine del Buddha Shakyamuni, si ha bisogno per prima cosa di fatti storici, date precise, fonti la cui affidabilità sia fuori discussione, e tali materiali, fatemelo dire in apertura, sono purtroppo scarsi. Questo è dovuto in parte al fatto che il Buddha visse in tempi molto lontani, e in parte alla mancanza di interesse per la conservazione delle testimonianze storiche che caratterizzava l'antica società indiana. Ma qualunque sia la causa di queste lacune documentarie, è estremamente difficile formarsi un quadro accurato del Buddha. Allo stesso tempo è possibile, e forse persino necessario, che lo scrittore eserciti notevolmente la sua immaginazione. In questo senso, nonostante il grande intervallo di tempo che mi separa dal Buddha Shakyamuni, credo che le mie esperienze personali e la pratica religiosa mi abbiano permesso di crearmi una certa idea di lui come individuo. Ecco perché ho intitolato la versione giapponese originale Iwatakushi no Shakyamuni, la mia visione di Shakyamuni, e il motivo per cui il sottotitolo dell'edizione inglese è un'interpretazione biografica. È mia ferma convinzione che si possa cercare di scoprire e capire un altro essere umano solo attraverso il mezzo della nostra stessa identità di esseri umani, ed è su queste premesse che ho tentato di oltrepassare la barriera del tempo e di avvicinare l'uomo che chiamiamo Buddha. Da questo punto di vista, il mio ritratto di Shakyamuni, invece di essere tracciato rigorosamente secondo le fonti, è fortemente influenzato dall'immagine che mi sono formato nella mente di lui come leader di un'organizzazione religiosa. Per la soggettività di questo approccio, posso solo chiedere ai miei lettori di essere indulgenti. A questo proposito, può essere bene notare che la religione buddista è interessata principalmente alla questione se una persona realizzi nel suo intimo il Dharma, o i principi della verità eterna. Per questa ragione è meno importante, dal punto di vista religioso, chiedere quali fossero le parole e gli atti specifici del Buddha Shakyamuni come personaggio storico che non scoprire la natura del Dharma cui egli si risvegliò e domandarsi se altre persone possono ottenere questa stessa condizione. Il ritratto di un uomo che ha ottenuto il Dharma, questo è il vero Buddha Shakyamuni, ed è lui che desideriamo conoscere. Se questo libro è letto alla luce di queste particolari caratteristiche della religione buddista, e se serve in qualche minima misura da ponte spirituale tra Oriente e Occidente, allora le mie speranze come autore saranno più che gratificate. Per chiudere, vorrei esprimere il mio profondo apprezzamento al professor Burton Watson per il tempo e l'impegno che ha profuso nel preparare la versione inglese di questo lavoro. Dal 1976, quando questa edizione inglese è apparsa per la prima volta, è stata tradotta e pubblicata in almeno 18 lingue. Come suo autore sono immensamente lieto che si sia conquistato un pubblico di lettori che si estende in tutto il mondo. La pubblicazione della nuova edizione risponde alle richieste di molti lettori. È mia speranza sincera che coloro che si impegnano per creare una società migliore trovino questo volume utile per comprendere la vita del sommo maestro orientale di saggezza umana. Daisaku Ikeda nota del traduttore come indicato da Daisaku Ikeda nella sua prefazione all'edizione inglese, il testo originale giapponese si intitola Watakushi no Shakuzon kan, la mia visione di Shakyamuni, Shakuzon è la comune designazione giapponese per il Buddha Shakyamuni. Il lavoro originale fu elaborato sotto forma di dialogo tra Daisaku Ikeda e un membro della Soka Gakkai, ma con il permesso dell'autore, per consentire una lettura più scorrevole, l'ho rielaborata in forma narrativa, facendo attenzione naturalmente a conservare tutto il materiale legato ai fatti e alle riflessioni contenute nell'originale. I nomi personali in sanscrito e in pali, i nomi dei luoghi e i termini tecnici sono stati inseriti nel testo nella forma latina trascritta che sembra più adatta ai lettori inglesi, senza gli elaborati segni diacritici richiesti dall'indologia ortodossa. Un punto toccato da Daisaku Ikeda nella sua prefazione merita qui un accenno particolare, a beneficio dei lettori occidentali. Religioni come il giudaismo, il cristianesimo e l'islamismo pongono un grande accento su determinati eventi storici o personaggi e, di conseguenza, sono molto interessate alle questioni storiche. Il buddismo invece si interessa soprattutto al Dharma, o sintesi della verità religiosa, e non tanto all'ora esatta, al luogo o alla persona da cui fu predicato. Daisaku Ikeda è il dinamico presidente della Soka Gakkati Internazionale, Un'organizzazione laica che promuove il buddismo di Nikiren. Come leader spirituale di milioni di aderenti alla Soka Gakkati Internazionale in Giappone e sempre più a livello mondiale, Ikeda è fortemente interessato a scoprire tutto ciò che si può sapere sul Buddha Shakyamuni, il fondatore storico del buddismo. Ma se, come conseguenza della spiacevole scarsità di fonti attendibili, il suo resoconto sulla vita di Shakyamuni necessariamente include molte supposizioni e congetture, questo non intacca in alcun modo la validità degli insegnamenti buddhisti. Ciò che è importante, come nota lo stesso Ikeda, non è la distinzione tra verità storica e leggenda nei racconti sulla vita di Shakyamuni, ma fino a che punto sia il fatto documentato sia la leggenda incarnino le verità senza tempo del buddismo e siano significativi per noi oggi. Burton Vatsony, il giovane Shakyamuni Shakyamuni, Nell'udire questo nome, tutti gli asiatici pensano immancabilmente al buddismo, poiché fu il fondatore di questa grande religione mondiale. Ma chi fu quest'uomo straordinario, quando e dove visse, in quali circostanze iniziò a predicare la nuova fede? Queste sono alcune delle domande a cui cercherò di dare una risposta in queste pagine. Mi sono costruito un'immagine del tipo di persona che doveva essere, un uomo che, per quanto concentrato sulle diverse asserzioni filosofiche del suo tempo, non dimenticava mai di sorridere, un saggio che, talvolta con aria distaccata, talvolta con espressione fiera, altre volte in silenzio e serenità, percorreva la propria strada senza turbamenti, una strada ispirata ai principi che portava impressi nel cuore. È questa l'immagine di Shakyamuni che spero di rappresentare qui. Non era un uomo il cui insegnamento si basasse su una logica severa o convincente o su dogmi appassionati, è nemmeno un uomo che padroneggiasse un vasto sistema filosofico capace di spostare le montagne. Era piuttosto un uomo che, parlando un linguaggio sorprendentemente semplice e immediato e utilizzando aneddoti e analogie che chiunque poteva comprendere, cercava di risvegliare in ogni individuo lo spirito che dimora nell'intimo di tutte le persone. Con questo non voglio suggerire che Shakyamuni non possedesse alcuna filosofia. Quando si rivolge a tutto il genere umano con quel modo modesto, si coglie nelle sue parole chiare e semplici l'eco di un regno diverso, quello dell'uomo veramente illuminato, che ha affrontato e vinto l'oscurità dentro di sé, giungendo alla verità. Questa è la mia visione personale di Shakyamuni. È questo l'uomo, uno fra i molti che hanno cercato la via, che dal lungo tempo ammiro e dal quale mi sono sentito attratto. Ed è questo l'uomo che desidero descrivere, più che il fondatore divinizzato e venerato di una religione. Ho cercato di delineare in poche parole l'immagine che mi sono fatto di Shakyamuni come uomo. Ma se tentiamo di andare oltre questo semplice profilo e verifichiamo i fatti concreti della sua vita e dei suoi insegnamenti, ci ritroviamo di fronte a una deprecabile mancanza di informazioni storiche e biografiche accurate. Sulla base delle fonti che sono state trasmesse, infatti, è quasi impossibile ricostruire con certezza la vita e la personalità di quest'uomo che visse più di duemila anni fa. Inoltre, poiché fu un grande leader religioso, i suoi discepoli e seguaci nelle epoche successive si sono impegnati, animati dallo zelo, a esaltarlo e deificarlo, e intorno al suo nome si è accumulata una quantità di materiali leggendari che serve soltanto a oscurare ulteriormente i pochi fatti conosciuti che lo riguardano. In primo luogo, è difficile persino stabilire il periodo esatto in cui è vissuto. La gente dell'antica India, dove visse Shakyamuni, era meno interessata a tenere traccia degli eventi storici o dei cambiamenti e delle trasformazioni nella società umana, di quanto non lo fosse a scoprire le verità eterne che si celano dietro gli eventi quotidiani nel mondo fenomenico. Persino nel caso di una figura di interesse e importanza così straordinari come Shakyamuni, coloro che si impegnarono a conservarne e tramandarne il pensiero e gli insegnamenti religiosi non lasciarono alcun preciso dettaglio biografico relativo all'uomo stesso. Questo tipico atteggiamento indiano verso il tempo è stato definito come non curante. Ma vista da un'altra prospettiva, è stata questa tendenza culturale di indifferenza verso il tempo e il rifiuto a farsi condizionare da esso, questa ricerca di un punto fisso da cui sondare l'essenza che si cela dietro i cicli eternamente in trasformazione del proprio ambiente, a dare origine alla profonda filosofia e religione rappresentate dal Buddismo. A quanto pare, la popolazione indiana ha una natura fortemente filosofica e contemplativa. Sia il Buddismo sia la filosofia del Brahmanesimo che l'ha preceduto primeggiano nel pensiero speculativo e hanno raggiunto un livello straordinariamente elevato di sviluppo filosofico, probabilmente il più elevato al mondo al tempo della loro nascita. Così, anche se l'India può esasperare chiunque cerchi dati storici o biografici, è un paese che possiede un fascino infinito per uno studioso di filosofia e del pensiero religioso. A questo punto diventa importante capire questa indole fondamentale della popolazione indiana, perché sarà utile nel fare luce su alcuni dei problemi che incontreremo quando arriveremo a esaminare gli insegnamenti del Buddismo. All'inizio ho sottolineato l'insufficienza di dati attendibili sulla vita di Shakyamuni, ma questo non significa che non esista alcuna fonte. Esistono in realtà diverse biografie a lui dedicate, in particolare le gesta del Buddha, di Ashwagosha, famoso poeta indiano vissuto nell'Io nel due secolo. Ma queste opere furono redatte o affidate alla scrittura solo alcuni secoli dopo la morte di Shakyamuni, e sembrano contenere una porzione piuttosto ampia di pura leggenda. A mio parere l'approccio giusto non è quello di tentare di riconoscere e scartare gli elementi leggendari, ma di considerare come e perché tali leggende possano aver avuto origine. Ho la sensazione che in questo modo riusciremo ad avvicinarci alla verità. I sutra, o sacre scritture che conservano gli insegnamenti di Shakyamuni, inoltre, contengono spesso passi descrittivi che ci permettono di determinare almeno un profilo del tipo di persona che fu. A causa della mancanza di accurate informazioni storiche, oggi non vi è accordo tra gli studiosi riguardo alle date esatte in cui visse Shakyamuni, Anche se in genere si ritiene che sia vissuto tra il V e il V secolo avanti Cristo lasciamo da parte il problema della datazione e concentriamo la nostra attenzione su ciò che si può conoscere della vita e della personalità del fondatore della religione buddista. I nomi di Shakyamuni, possiamo cominciare prendendo in considerazione i vari nomi che gli furono attribuiti. È ormai opinione comune che Shakyamuni fosse il figlio del governante di un piccolo regno guidato dai membri della tribù, o clan, degli Shakyamuni. Shakuzon, il nome con cui è conosciuto in Giappone, è l'abbreviazione giapponese della versione cinese del titolo sanscrito Shakyamuni Bhagavat, che letteralmente significa saggio degli Shakyamuni, l'onorato dal mondo, una designazione che sottolinea il rispetto dovuto al fondatore di una grande religione. Fin dai tempi remoti in India fu anche chiamato Buddha, termine dal quale deriva la parola Buddismo. Abitualmente è noto con questo nome nell'Asia meridionale e sudorientale e nelle nazioni dell'Occidente. La parola Buddha in sanscrito significa il risvegliato o colui che è illuminato alla verità eterna e definitiva. Gli scritti buddisti tendono a utilizzare il termine Buddha per riferirsi non solo a Shakyamuni, ma a ogni essere che incarni gli ideali primari della fede buddista, tanto che alcuni studiosi dichiarano che non è mai stato considerato un nome proprio. Nelle scritture del buddismo delle origini, tanto in Sri Lanka, Thailandia, Indonesia, quanto in altri paesi dove è prevalente la scuola buddista Theravada, egli è noto anche come Gautama Buddha. Attualmente tutti concordano sul fatto che Gautama fosse il suo nome di famiglia, designazione che deriva dal particolare ramo della tribù Shaky a cui apparteneva. Nei resoconti storici, infine, ci si imbatte spesso nel nome Siddhartha, che sembra sia quello attribuito ogli nell'infanzia. Come il termine Buddha, anche questo ha un significato speciale in sanscrito e può essere tradotto come scopo raggiunto o giustizia fatta. Secondo quanto si legge nelle gesta del Buddha, Shakyamuni ricevette questo nome perché alla sua nascita il regno degli Shakyadi venne ricco e fiorente, e tutti i desideri di suo padre Shuddhodana si realizzarono. Alcuni studiosi sostengono però che Siddhartha non fosse in realtà il nome di Shakyamuni, ma un termine rispettoso usato in epoche successive dai suoi discepoli, in onore della sua illuminazione. La tribù degli Shakyamuni, si dice che la tribù in cui nacque Shakyamuni avesse il proprio quartier generale in una città fortificata, chiamata Capilavastu. L'esatta collocazione geografica è stata lungo oggetto di discussione. Pare si trovasse tra le colline meridionali ai piedi dell'Himalaya, a nord dell'area in cui il fiume Gangesi allarga a formare un delta. I più recenti studi archeologici indicano che si trovava nella regione Terai dell'attuale territorio del Nepal. Secondo i resoconti tradizionali, però, Shakyamuni nacque non nella città stessa, ma nei giardini di Lumbini, situati a circa 15 miglia da Capilavastu. All'epoca della nascita di Shakyamuni varie città si erano sviluppate in questa regione dell'India, ed è probabile che Capilavastu, come altre città dell'epoca, non fosse molto grande, soprattutto se paragonata a importanti centri come Raiagria, la capitale dello stato di Magada. Il monaco e pellegrino cinese Xuanzang, 600-664, nel Datang Xiu-Yi, cronache delle regioni occidentali al tempo della grande dinastia Tang, il resoconto dei suoi viaggi in India, osserva che il clima della terra degli Shakyam era caldo e la terra piuttosto fertile. Le prime scritture buddiste contengono frequenti accenni al riso, il che indicherebbe che la gente dell'epoca treva il proprio sostentamento soprattutto dall'agricoltura. Faremmo dunque bene a immaginarci Capilavastu come una tranquilla città di provincia. Quanto alla popolazione della zona, si racconta che sommando le tribù degli Shakyam e dei Coliglia si arrivava a contare un milione di persone. Questo numero naturalmente non indica l'entità della popolazione della sola città di Capilavastu, e non si basa nemmeno su un censimento accurato. A ogni modo sembra una cifra eccessiva per tribù di importanza secondaria come gli Shakyam Ecolia, ed è prudente ipotizzare che, come per la letteratura antica, il numero di un milione indichi semplicemente il concetto di numerosa. C'è stata una lunga discussione riguardo l'etnia a cui appartenevano gli Shakyam. Lo storico britannico Vincent Smith ha avanzato la teoria secondo cui Shakyamuni apparteneva alla tribù delle colline affiliata ai Gurkha e avente caratteristiche etniche vicine a quelle dei tibetani, teoria che legherebbe Shakyamuni ai mongoli. Questa ipotesi si basa su indagini recenti che indicano che le colline ai piedi dell'Himalaya erano un tempo abitate da popolazioni di etnia birmano-tibetana. Più comune, però, è l'opinione secondo cui Shakyamuni e i suoi compagni di tribù fossero di discendenza indo-ariana. Questa opinione è confortata dal fatto che gli Shakyamuni parlassero orgogliosamente di se stessi come discendenti del sole, con suetudine diffusa tra le popolazioni di stirpe indo-ariana. Gli antichi nivedici indiani infatti indicano il dio del sole come una tra le prime divinità adorate dalle popolazioni indo-ariane. Inoltre, vari testi in cinese definiscono gli Shakyamuni il popolo generato dal sole, ulteriore conferma che essi rivendicassero un rapporto speciale con il sole e fossero quindi indo-ariani. Mi sembra però piuttosto inverosimile presupporre una discendenza indo-ariana esclusivamente dall'adorazione del sole, poiché questa è una forma di religione comune a quasi tutte le popolazioni dei tempi antichi. Basti pensare all'adorazione della dea del sole Amaterasu in Giappone. Ci sono poi numerosi esempi di famiglie regnanti nell'antichità che dichiaravano di essere discendenti del sole. Il sole era l'oggetto di adorazione più universalmente riconosciuto tra le popolazioni dell'antichità, e per Shakyamuni dichiarare di essere un discendente del sole forse è stato semplicemente un modo di rispettare e onorare i suoi antenati. Un'ulteriore complicazione proviene dal fatto che le scritture parlano di Shakyamuni come del discendente di un mitico antenato di nome Ikshvaku, o re Kannada Zucchero, fondatore della famiglia reale della tribù dei Puru. Nei Veda, le primissime scritture dei conquistatori indo-ariani dell'India, la popolazione Puru viene descritta come namica degli indo-ariani. Alcuni studiosi sostengono quindi che se il re Kannada Zucchero era da vero antenato di Shakyamuni e del suo popolo, essi non potevano essere stati membri della razza indo-arianna. In fin dei conti, non credo si è possibile determinare con sicurezza l'origine etnica di Shakyamuni, che visse così tanti secoli fa. Non si può però negare che nei modi di pensare associati al buddismo ci siano caratteristiche che suggeriscono fortemente una connessione con le popolazioni indo-ariane e la loro cultura. Qualunque sia l'origine etnica del suo fondatore, è indubbio che il buddismo si sia sviluppato all'interno della sfera culturale indo-ariana. Lo scenario storico, cosa sappiamo della situazione politica in India nel periodo in cui si narra sia vissuto Shakyamuni? Le scritture buddiste e altri scritti parlano di sedici grandi regni, probabilmente stati tribali in lotta tra loro per la supremazia. Tra questi, i più importanti erano i regni di Magada, Kosala, Vrihi, Vatsa e avanti. Oltre a questi stati più grandi, troviamo menzione di varie tribù, come i Bagga, i Bulli, i Moria, i Malla, e i Colia, e gli Shakyamuni già citati in precedenza. I più importanti tra questi grandi regni furono quello di Kosala, governato dal re Prasenait, e di Magada, governato dal re Bimbisara. Il secondo, in particolare, traendo vantaggio dalla saggezza politica e dall'intraprendenza di re Bimbisara, con il tempo assorbì il Kosala e il Vrihi e fondò la dinastia imperiale nota come Mauria. Il terzo sovrano di questa dinastia fu il famoso imperatore Ashoka, che nel tre secolo avanti Cristo riuscì a unificare sotto il suo governo tutti i territori dell'India, tranne la punta meridionale del subcontinente. Durante il periodo della predicazione di Shakyamuni, il regno di Magada era ancora un nuovo arrivato tra i contendenti per il potere. Solo dopo l'ascesa al trono del re Bimbisara ebbe un'espansione rapida, allargando il suo potere al di fuori della sua zona naturale d'influenza, lungo i tratti mediani del Gange, fino a controllare buona parte della regione dell'odierno Biarr, a sud del Gange. Durante il cosiddetto periodo dei sedici grandi regni, gli Shakyamuni dovevano aver avuto una posizione relativamente debole. La loro base a Kapilavastu non era, come abbiamo visto, un centro di grande importanza o potere. In realtà gli Shakyamuni erano con ogni probabilità politicamente dipendenti dal Kosala, il potente stato a ovest che controllava gran parte della zona orientale di quello che è oggi lo stato dell'Uttar Pradesh. Questo è suggerito da un passo delle antiche scritture che descrive come Shakyamuni abbia viaggiato a sud lungo il Gange e abbia avuto un colloquio con Bimbisara, il re del Magada. Di fronte alle domande del re, Shakyamuni rispose di essere un membro di una tribù che sin dall'antichità dipendeva dal Kosala. Potremmo quindi concludere che gli Shakyamuni erano i regnanti di un piccolo stato semi-autonomo che aveva la sua capitale a Kapilavastu e dipendeva dal regno di Kosala. Gli studiosi non concordano sull'esatta struttura politica di questi piccoli stati tribali. Alcuni li considerano repubbliche aristocratiche governate da un consiglio tribale di anziani che deliberava sulle politiche dello Stato. A sostegno di questa ipotesi viene sottolineato che probabilmente il re degli Shakyamuni veniva eletto da dieci capi e scelto all'interno di quello stesso gruppo. Altri studiosi invece ritengono che gli stati tribali dell'India in quel periodo si stessero organizzando in un solo Stato potente e altamente centralizzato e che se non erano vere e proprie autocrazie erano quantomeno oligarchie guidate da un'elite. Qualunque possa essere stata la struttura politica dello Stato degli Shakyam, è certo che il Paese era piccolo e debole e quasi inevitabilmente destinato a essere annesso a uno o all'altro dei grandi regni confinanti. Shakyamuni era il figlio del regnante di questo piccolo Stato tribale, le cui fortune erano decisamente in declino. Un giorno avrebbe avuto sulle spalle il compito di guidarlo attraverso il suo cupo e precario futuro ed è per tale ragione che le aspettative riposte in lui erano grandi. Possiamo essere sicuri che ciò che lui stesso pensava della sua posizione e della possibilità di realizzare tali aspettative ebbe un collegamento diretto con la successiva decisione di lasciare la città di Capilavastu e rinunciare al proprio ruolo di erede al trono, abbracciando una rigorosa vita religiosa. La famiglia di Shakyamuni, prima di prendere in considerazione i motivi che portarono Shakyamuni a rinunciare alla sua vita principesca, vediamo se c'è possibile formarci un'immagine più chiara di lui come persona, esaminando quello che sappiamo sui membri della famiglia a lui più prossimi. Suo padre, come abbiamo già ricordato, era Shudodhana, un nome che nelle prime traduzioni cinesi delle scritture buddiste divenne Ying Fan Bang, o re puro riso. Ci si potrebbe chiedere come si è arrivato ad avere un nome tanto curioso, il termine sanscrito in realtà significa farinata pura d'avena nel latte e si riferisce a una pietanza preparata bollendo il riso nel latte con aggiunta di fagioli e burro. Veniva considerata la principale ghiottoneria del tempo e a quanto sembra il padre di Shakyamuni ricevette quel nome perché, come capo della tribù Shakyamuni, era appropriato immaginare che cenasse con i cibi più raffinati. Il titolo è prova ulteriore del fatto che gli Shakyamuni fossero soprattutto un popolo di agricoltori e pastori. È importante notare inoltre, come sottolineato dal noto studioso buddista Yimena Kamura, che il padre di Shakyamuni era denominato semplicemente re e non grande re, come era costume con i regnanti degli stati più potenti dell'epoca, altra indicazione della relativa debolezza della tribù degli Shakyamuni. La madre di Shakyamuni veniva comunemente chiamata regina Maya. Le scritture le rendono omaggio con l'epiteto grande Maya e utilizzano varie frasi elogiative per descriverla, ma danno pochissime indicazioni sulla sua identità. Si presume che fosse la figlia di una famiglia influente della tribù degli Shakyamuni, e la leggenda aggiunge che era imparentata per parte di padre con la tribù dei Coliglia, vicini degli Shakyamuni. Nelle antiche scritture viene riportata una diatriba riguardante il diritto sull'acqua tra gli Shakyamuni, e alcuni studiosi hanno dedotto che le due tribù vivessero sulle due sponde del fiume Roini. Secondo i resoconti tradizionali, la regina Maya diede alla luce Shakyamuni nei giardini di Lumbini dopo essere partita da Capilavastu per far visita alla famiglia, e morì una settimana dopo. Il bambino fu allevato dalla zia materna Maprayapati. È stato anche ipotizzato che la morte prematura della madre, di cui il giovane principe seppe negli anni successivi, abbia stimolato in lui la consapevolezza della natura transitoria della vita e lo abbia spinto a rinunciare alla sua esistenza regale. Che la notizia della morte della madre sia stato il motivo vero che lo spinse a rivolgersi alla vita religiosa mi sembra discutibile. Ma per un giovane di grande sensibilità come immagino sia stato il giovane Shakyamuni, la morte di un parente stretto era destinata a provocare una scossa profonda e a lasciargli l'impressione che la sofferenza fosse un elemento fondamentale dell'esistenza. La giovinezza di Shakyamuni, la natura sensibile del giovane Shakyamuni si esprime anche in un passo nelle scritture in cui, dopo aver intrapreso la vita religiosa e aver ottenuto l'illuminazione, egli ripercorre i primi anni e dice, anche se sono cresciuto nella ricchezza, ero per natura molto sensibile. Questo mi ha portato a chiedermi perché, anche se tutti gli uomini sono destinati a sperimentare invecchiamento, malattia e morte, e nessuno vi può sfuggire, essi guardano all'invecchiamento, alla malattia e alla morte degli altri uomini con paura, disgusto e disprezzo. Non mi sembrava giusto, e in quel momento tutta la gioia della giovinezza e l'orgoglio e il coraggio che derivavano dalla mia buona salute mi abbandonarono. Shakyamuni fu in seguito descritto come dotato di 32 caratteristiche maggiori e 80 segni minori. Le 32 caratteristiche maggiori includono dita molto lunghe, braccia che si estendono oltre le ginocchia, 40 denti e altri tratti fuori della norma. Se li avesse davvero posseduti, sarebbe stato una specie di mostro, e infatti simili descrizioni non vanno prese alla lettera. Anche il bramanesimo, la religione dominante in India al tempo di Shakyamuni, parla di 32 tratti insoliti che distinguono il Shakravartin, o re che mette in moto la ruota, il governante ideale. È probabile che i discepoli di Shakyamuni, nel desiderio di esaltare il loro grande maestro e sottolinearne la perfezione, abbiamo semplicemente preso a prestito i 32 tratti fisici distintivi dal bramanesimo, applicandoli al Buddha. Nel passo dedicato ai ricordi citato in precedenza, Shakyamuni dice di sé che era di corporatura snella, molto delicato, e che era stato educato con grande cura. Anche se fosse stato magro e ipersensibile, non dobbiamo per forza immaginarlo come il tipo di ragazzo pallido e studioso. In fondo era figlio di un re e doveva sottoporsi al tipo di allenamento che lo avrebbe messo in grado di succedere al padre quando fosse arrivato il momento. La leggenda riporta infatti che Shuddodana si assicurò che il figlio, sulle cui spalle avrebbe poggiato il destino del clan degli Shakyamuni, ricevesse un'istruzione sia nelle arti civili sia in quelle militari. Poiché Shakyamuni di natura era invece un giovane introspettivo e inclina alla filosofia, il padre sicuramente si impegnò perché gli fosse impartita un'appropriata educazione fisica, oltre che un'istruzione intellettuale e morale. Questo è forse ciò che Shakyamuni intendeva quando disse che era stato educato con grande cura. Shakyamuni dichiara inoltre che la biancheria intima e altri indumenti erano tutti di seta e che per tutto il giorno un servitore reggeva un parasole per proteggere la sua testa. Aveva tre palazzi, uno per l'inverno, uno per l'estate e uno per la stagione delle piogge, dove viveva circondato da dame di compagnia, ballerini e musicisti pronti a servirlo e a intrattenerlo. Non sappiamo se ogni dettaglio di questa descrizione sia da prendere alla lettera, ma essa ci dà qualche indicazione delle cure e delle attenzioni con cui fu allevato il giovane principe. Un altro episodio tramandato nelle scritture fornisce qualche indicazione sull'aspetto fisico di Shakyamuni. Si dice che dopo aver intrapreso la vita religiosa visitasse lo stato di Magada e avesse un colloquio con il re Bimbisara. Quest'ultimo rimase così impressionato dal portamento e dall'aspetto di Shakyamuni che lo pregò di prendere il comando dell'esercito di Magada. Inutile dire che Shakyamuni rifiutò la richiesta. Non sappiamo quanta preparazione avesse ricevuto nelle arti militari, ma è chiaro che se il re si era sentito di rivolgergli una simile richiesta, doveva esserci qualcosa nel suo aspetto e nel portamento che lo caratterizzava come un leader naturale. Non vi è dubbio che durante la sua giovinezza il destino della sua stessa gente abbia occupato un posto importante nei suoi pensieri, dato che Shakyamuni era ben consapevole che lo stato degli Shakyamuni era piccolo e debole, e costantemente minacciato dai suoi vicini. La sua profonda sensibilità e la devozione alla giustizia devono averlo spinto a riflettere giorno e notte su come trovare il modo di mettere in salvo il suo popolo. Se si dedicò alla meditazione e all'introspezione nonostante l'ambiente affettuoso e accogliente in cui era cresciuto, doveva essere profondamente preoccupato per il futuro ruolo di leader che era destinato a ricoprire. Credo che la migliore descrizione possibile per il giovane Shakyamuni sia quella di umanista e ricercatore della verità, dotato di un profondo senso di giustizia. Tra gli eventi più importanti degli anni della giovinezza ci fu il matrimonio con Yashodhara. Alcune leggende raccontano che la conquistò in una prova con le armi superando vari rivali, incluso il cugino Devadatta. Si tramanda anche che, dopo che Shakyamuni ottenne l'illuminazione e partì per un giro di predicazione in altre parti dell'India, Devadatta si recò a Capilavastu e tentò di sedurre Yashodhara in assenza del marito. Ma anche se Shakyamuni e Devadatta erano cugini, sembra avessero età molto diverse e probabilmente non c'è nulla di vero nella storia della loro rivalità per la mano di Yashodhara. La stessa Yashodhara era una cugina di Shakyamuni ma, a parte questo, non ci è stato tramandato quasi niente su di lei. Sicuramente questo è dipeso in parte dal fatto che i discepoli e seguaci di Shakyamuni erano soprattutto interessati al periodo successivo della sua vita, quando rinunciò alla famiglia per ottenere l'illuminazione, e riservavano scarsa attenzione agli eventi della giovinezza. Può anche essere un indizio del fatto che Yashodhara non svolse un ruolo molto decisivo nella vita del marito, ma fu invece modesta e riservata, come si addiceva a una donna indiana dai Natali nobili. Se avesse avuto un pessimo carattere, come la moglie di Socrate, la storia forse avrebbe tramandato un resoconto più dettagliato su di lei. Ma le mogli dei grandi pensatori e filosofi in genere non sono oggetto di attenzione, e Yashodhara non fa eccezione. Non si sa a quale tascia che Amuni si sposò, alcuni racconti affermano che avesse sedici anni, altri che ne avesse diciannove o forse di più. Yashodhara gli diede un'erede, un figlio maschio di nome Raulla, che in seguito divenne uno dei dieci principali discepoli del Buddha. Su questo punto tutti i racconti concordano ma, a parte questo, non si sa nulla della vita matrimoniale di Shakyamuni. Se si accetta la teoria che si sia sposato a sedici anni è facile immaginare che suo padre, preoccupato per il futuro di quel figlio dal carattere introspettivo, combinò un matrimonio in giovanissima età con la speranza che si sistemassa in fretta e si preparasse alla successione al trono. Le nozze, per quanto scintillanti e lussuose, non riuscirono a eliminare dalla mente di Shakyamuni la profonda ansia che provava per le questioni relative all'invecchiamento, alla malattia e alla morte, ne vi riuscirono le gioie della vita matrimoniale. Nel frattempo nacque Raulla, un evento di grande importanza, ora Shakyamuni aveva un'erede che avrebbe portato avanti la linea di successione, mentre lui stesso era libero, se lo desiderava, di rinunciare al suo diritto al trono e di intraprendere la vita religiosa. 2 La grande partenza, ci sono varie ipotesi su quanti anni avesse Shakyamuni quando decise di lasciare la famiglia e di abbracciare la vita religiosa, un evento che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma l'intera storia spirituale del mondo. Alcune fonti riportano che aveva 19 anni quando intraprese questo passo fondamentale, altre che ne aveva 21. Se accettiamo la prima ipotesi, Shakyamuni si sarebbe sposato all'età di 16 anni e dopo aver avuto un figlio avrebbe deciso molto presto di rinunciare alla vita familiare e di cercare l'illuminazione. Come vedremo in seguito, egli studiò con due saggi bramani ma, insoddisfatto del loro insegnamento, li lasciò per praticare da solo l'ascesi religiosa. Dopo aver praticato le austerità fino a ridursi a pelle e ossa, si rese conto che simili esercizi non lo avrebbero portato alla liberazione. Alla fine si sedette ai piedi di un albero di pipal, ficus religiosa, nella foresta vicino a Buddha Gaia, si immerse nella meditazione e ottenne l'illuminazione. Secondo molti resoconti, all'epoca aveva 30 anni. Se ipotizziamo che avesse rinunciato alla famiglia all'età di 19 anni, avrebbe passato 12 anni a ricercare la vera via. Le prime scritture, comunque, riportano le parole dello stesso Shakyamuni, che dichiarò di aver abbracciato la vita religiosa all'età di 29 anni e di aver raggiunto l'illuminazione sette anni dopo, quando ne aveva 35 o 36. Abbiamo già accennato alla situazione politica nell'India settentrionale a quel tempo e abbiamo detto che lo stato degli Shakyamuni era costantemente minacciato dai vicini più potenti, in particolare dallo stato di Magada. Se una delle considerazioni che condussero Shakyamuni a rinunciare alla vita mondana fu la preoccupazione per le precarie sorti della sua tribù, allora è più probabile che fece la sua scelta intorno ai 30 anni. Il Magada era in lotta per la supremazia politica nella regione relativamente da poco tempo e raggiunse una posizione predominante solo dopo l'ascesa al trono del re Bimbisara. Il re Bimbisara divenne sovrano del Magada a 15 anni e, da quanto sappiamo, era di 5 anni più giovane di Shakyamuni. Shakyamuni doveva già essere sui vent'anni quando assistette alla rapida espansione del potere e delle fortune dello stato di Magada e arrivò a comprendere quale minaccia rappresentasse per la sopravvivenza della sua stessa gente. In fin dei conti, possiamo solo ipotizzare quanti anni avesse Shakyamuni quando abbracciò la vita religiosa. Ma credo sia più importante indagare in profondità i motivi che lo spinsero a compiere un simile passo, dato che erano intimamente legati alla natura dell'illuminazione che ottenne e quindi alla vera essenza del buddismo in quanto religione. La tradizione indica i cosiddetti quattro incontri all'origine della decisione di Shakyamuni di abbracciare la vita religiosa. Secondo i primi resoconti, Shakyamuni era confinato nel palazzo reale e il padre cercava di impedirgli di conoscere le sofferenze del mondo. In quattro occasioni però il giovane riuscì ad avventurarsi oltre i cancelli del palazzo in compagnia del suo Auriga. Uscendo dal cancello orientale del palazzo per una gita di piacere, Shakyamuni si trovò di fronte alla vista di un uomo anziano, uscendo dal cancello meridionale in un'altra occasione, vide un uomo malato, e quando uscì dal cancello occidentale, vide un cadavere. Infine, uscendo dal cancello settentrionale, osservò un uomo che aveva abbracciato la vita religiosa, ne rimase così profondamente colpito da decidere di lasciare il proprio palazzo e di iniziare quello stesso stile di vita. Un racconto di questo genere, con la sua pulita asimmetria, differisce per natura da ciò che chiameremmo un resoconto oggettivo dei fatti. Ma riassume in forma simbolica il percorso compiuto da Shakyamuni per arrivare a rinunciare al mondo, poiché focalizza l'attenzione sul punto di partenza essenziale della religione buddista, la questione della sofferenza umana. Shakyamuni, giovane sensibile e riflessivo, meditò sicuramente sull'essenza della vita e tentò attraverso il proprio intelletto acuto e indagatore di trovare le risposte alle domande che gli affollavano la mente. Possiamo a ragione supporre dai suoi insegnamenti successivi che fosse particolarmente angustiato dai problemi di nascita, invecchiamento, malattia e morte, sofferenze inevitabilmente legate all'esistenza stessa dell'uomo. La molla che lo spinse ad abbracciare la vita religiosa, e divenne così il punto di partenza di tutta la religione buddista, fu un ardente desiderio di trascendere le sofferenze innate alla vita umana. Cosa sono gli esseri umani? Cos'è la vita? Queste erano le domande che Shakyamuni si poneva. E dato che l'umanità e la vita umana in fondo sono solo una parte della misteriosa forza vitale che attimo dopo attimo pulsa nel mondo, egli cominciò a interrogarsi sulla natura di quella stessa forza vitale. Il buddismo ha continuato a prosperare e la sua luce non è mai stata offuscata nei secoli proprio perché si occupa di questioni fondamentali legate alla vita e all'esistenza. Si ipotizza che la decisione di abbracciare la vita religiosa di Shakyamuni, oltre che dal desiderio di trovare una soluzione al problema della sofferenza umana, fesse anche fortemente influenzata dal proprio temperamento introspettivo e dalla funesta situazione politica e sociale affrontata dalla gente della tribù Shakyamuni. Anche se indubbiamente si tormentava per il destino che sembrava riservato alla sua gente, non significa che l'unica strada che gli rimaneva aperta fosse quella di diventare una sceta. Dato che era l'erede predestinato al trono, una logica soluzione sarebbe stata per lui quella di mettere insieme un esercito e sfidare la potenza dei suoi vicini. Ma egli scelse di non percorrere questa strada. Mi piace pensare che istintivamente la rifiutò per la sua natura profondamente umanitaria. In generale, i giovani dell'India al tempo di Shakyamuni, e in particolare quelli che appartenevano a famiglie nobili o potenti, coltivavano due sogni. Il primo era diventare un Shakravartin, o un re che mette in moto la ruota, un grande leader in grado di guidare il proprio regno verso una posizione di supremazia nel mondo temporale. L'altro era diventare un Buddha, un saggio illuminato in grado di agire come maestro spirituale per gli uomini e le donne della sua epoca. Sembra che Shakyamuni scelse con una certa consapevolezza di inseguire il secondo ideale. Pur vivendo nel lusso, quando spinse lo sguardo oltre il palazzo reale, Shakyamuni vide le lotte e le sofferenze quotidiane degli uomini e donne comuni della sua tribù. Chi lo accudiva fece del suo meglio per celargli quella vista spiacevole, ma più cercava di proteggerlo dalla realtà, più si faceva acuta e profonda in quel giovane sensibile la determinazione di affrontarla. La leggenda delle quattro passeggiate fuori dai cancelli del palazzo trasmette in forma simbolica i meccanismi della sua mente a quel tempo. Poiché Shakyamuni sapeva che la guerra non può mai costituire una soluzione duratura al problema della sofferenza umana, non cercò di assistere il suo popolo ricorrendo alle armi, al contrario, imboccò la strada che nel tempo avrebbe condotto alla saggezza. Invece di diventare un re che esercita il potere politico e temporale, scelse di diventare un re filosofo nel regno metafisico. Invece di cercare qualche fugace attimo di gloria per la sua gente nel mondo mutevole del potere politico, scelse di dare loro una gioia duratura immutabile, basata sulla verità fondamentale. Sebbene Shakyamuni avesse rinunciato a ogni dignità regale nel mondo temporale, successivamente i suoi discepoli gli tributarono ugualmente il titolo di Chakravartin, o Monarca Ideale. Che un simile titolo, in origine appropriato solo per un leader politico o sociale, venisse usato per un leader spirituale, è stato interpretato da qualcuno come una indicazione che Shakyamuni e i suoi discepoli soffrissero di una sorta di complesso di inferiorità politica, che combatterono dandosi un'area di successo nella sfera secolare. Questa dichiarazione mi pare però di dubbia validità. I primi buddhisti erano infatti soliti prendere concetti e termini prevalenti nel bramanesimo e adattarli al loro uso. Personalmente ritengo che, nell'adottare il termine Shakyamuni e applicandolo al Buddha, il loro intento fesse unicamente quello di enfatizzare la validità universale degli insegnamenti di Shakyamuni. Per quanto riguarda la decisione di Shakyamuni di abbandonare la famiglia e abbracciare la vita religiosa, va ricordato che nell'India antica un simile passo non implicava mai un atteggiamento pessimista o disperato. Oggi, coloro che scelgono la vita religiosa sono visti come persone che lasciano la vita normale per isolarsi in un mondo a sé. Ma non era così nell'India antica, che aveva una lunga e ben radicata tradizione di ascetismo e di ricerca spirituale. Al tempo di Shakyamuni era piuttosto comune che un intellettuale abbondasse la propria casa, si recasse nella foresta e cercasse di scoprire la verità dell'esistenza umana. Ben lontana dall'essere considerata eccentrica, una simile azione non era neppure molto insolita. L'unica differenza nel caso di Shakyamuni fu che egli scelse molto presto questa via. Ritengo che questo avvenne perché la sua passione per la ricerca della verità era molto più forte rispetto agli altri uomini. Non stava più semplicemente seguendo il costume dell'epoca, ma obbedendo a forze che si sprigionavano dall'intimità del suo essere. La vita ascetica era considerata un mezzo per perseguire la propria ricerca filosofica e cercare di scoprire le verità fondamentali dell'esistenza umana. Abbracciando quella vita, una persona si allontanava naturalmente dalla struttura consueta della società e della cultura e, in un certo senso, ne ripudiava i valori. Ma lo faceva per meditare e scoprire nuovi ideali e valori, per poi tornare nella società dove avrebbe potuto insegnare agli altri e guidarli a partire da una nuova e più elevata dimensione. Ecco perché il buddismo, la religione fondata da Shakyamuni, non si è mai isolato o staccato dalla società e dall'epoca storica in cui opera. È sempre stato consapevole del bisogno di scoprire, attraverso un approccio filosofico peculiare, una soluzione fondamentale ai problemi della società e dell'epoca in cui si sviluppa. L'ascetismo e la società indiana, ma quando e in che circostanze ha avuto inizio in India questa consuetudine di abbandonare la famiglia e dedicarsi alla vita dell'asceta religioso? Il grande poeta e filosofo Rabindranath Tagore ha osservato, la civiltà greca fu costruita con mattoni d'argilla, mentre la civiltà indiana è nata nella foresta. Mi chiedo se l'ascetismo in India non abbia avuto la sua genesi nell'attrazione tipicamente indiana per la foresta e nell'abitudine dei rifugiarvisi per meditare e perfezionare la propria saggezza e comprensione delle cose. Questa abitudine è stata a lungo parte della tradizione indiana, e anche oggi esistono fitte foreste lungo il fiume Gange dove gruppi di persone si ritirano alla ricerca di un luogo appartato in cui condurre una vita comunitaria dedicata alla ricerca di una più profonda comprensione filosofica. È piuttosto plausibile che, come ha detto Tagore, la civiltà e la filosofia indiana siano nate nella foresta, piuttosto che in città. Nell'antica storia indiana c'è un periodo noto come l'era delle araniaca o trattati della foresta, che risale a poco prima del cosiddetto periodo dell'Eupanishad, circa 300 anni prima dell'epoca di Shakyamuni. Sembrerebbe che, come indicano gli scritti che danno il nome al periodo, l'abitudine di ritirarsi nella foresta per meditare risalga almeno a quest'epoca, che corrisponderebbe all'otto o nove secolo avanti Cristo al tempo di Shakyamuni era diventata una convenzione tra i membri della classe più elevata a ritirarsi nella foresta per un periodo di meditazione e riflessione. I membri della classe agiata, ovvero persone appartenenti soprattutto alla classe dei Bramani, dividevano la propria vita in quattro periodi distinti, 1, Bramasciarino periodo degli studi, 2, Griasta, vita in famiglia, 3, Vanaprasta, vita nella foresta, e, 4, Sanyasin, isolamento e nomadismo. Il primo periodo, quello degli studi, iniziava all'età di sette o otto anni e durava circa dodici anni, periodo durante il quale si riceveva dai maestri un'istruzione sulle dottrine e pratiche del Bramanesimo. Una volta completati questi studi, si tornava nella propria famiglia, ci si sposava e si entrava nella seconda fase. Questo periodo, il più lungo dei quattro, durava circa trent'anni, dai venti ai cinquant'anni circa. Durante questa fase della vita un uomo compiva sacrifici per gli antenati e addempiva ad altri doveri rituali, cresceva una propria famiglia e prendeva parte attiva nella società in qualità di capofamiglia. Quando aveva portato a termine i suoi doveri come capofamiglia e aveva generato un'erede a cui trasmettere gli obblighi verso la famiglia, era libero di ritirarsi nella foresta e, riflettendo in tranquillità sui primi cinquant'anni vissuti, poteva cercare di immergersi nella vita della natura che lo circondava, nell'intento di giungere alla piena maturità filosofica. Dopo questo periodo di ascetismo e di pratica religiosa, usciva dalla foresta e trascorreva l'ultimo periodo della vita peregrinando da un luogo all'altro in povertà, contando sull'elemosina per il proprio sostentamento. Come vedremo in seguito, si trattava di una vita con un forte orientamento religioso e filosofico. Nel mondo moderno potremmo comparare la prima fase al periodo dell'istruzione scolastica e la seconda agli anni da dedicare al lavoro o alla professione prima della pensione. Ma non vi è un equivalente del terzo e del quarto periodo, dedicati alla riflessione e al nomadismo. Naturalmente gli antichi bramani vivevano in una società molto meno complessa di quella di oggi, e indubbiamente a quel tempo c'erano minori esigenze. Inoltre, poiché rappresentavano la classe più alta della società e avevano schiavi che lavoravano al loro servizio per provvedere a ogni loro bisogno, erano liberi di dedicarsi ad altre questioni. Ma qualunque condizione sociale fesse stata necessaria per consentire una tradizione di questo genere, il fatto che i primi bramani mettessero in atto un simile percorso esistenziale in quattro periodi indica quanto fosse profondamente radicata nella vita indiana l'abitudine alla meditazione filosofica e quale grande importanza gli indiani attribuissero alla filosofia e alla religione. È ammirevole che una persona, qualunque età abbia, utilizzi i pochi anni che le sono concessi in questa vita per esaminare le realtà dell'esistenza umana e tenti, sulla base di ciò che scopre, di formulare una chiara filosofia personale. Anche nell'antica Cina notiamo il desiderio di collegare i periodi dell'esistenza a qualche comprensione approfondita del significato e a un approccio più adeguato all'esistenza umana. A trent'anni ero indipendente scrive Confucio, a quaranta ero libero dai debiti, a cinquanta ho compreso la volontà del cielo. In contrasto con la gente dell'antichità, che sembrava ricercare attivamente un progresso e un senso alla propria vita, gli uomini moderni sembrano sballottati dai cambiamenti della vita, come se fossero in baglia delle onde e sommersi da un diluvio di conoscenze e informazioni che non riescono a comprendere o controllare. Ma lasciando perdere le digressioni malinconiche e tornando all'India antica, non mi pare che si possa identificare un periodo storico preciso in cui questo concetto dei quattro periodi della vita si sia sviluppato nella classe bramanica. Sembra che esistesse già da molto tempo prima dell'epoca di Shakyamuni e fornisce un utile punto di riferimento per comprendere la sua vita. Quando consideriamo la vita di Shakyamuni nei termini delle quattro fasi tradizionali, vediamo subito che egli abbandonò la famiglia abbracciando la vita ascetica durante la seconda fase e non durante la terza, in largo anticipo anche rispetto alla seconda fase. Si è spesso asserito che Shakyamuni stesse semplicemente seguendo il costume della sua classe e dell'epoca quando lasciò la sua casa. Ma lungi dal seguire il costume dei suoi tempi, come abbiamo visto, lasciò la famiglia a un'età precoce rispetto a quanto richiesto dalla tradizione, e questo costituisce un indizio di quanto fosse intenso il suo desiderio di mettersi alla ricerca della verità. L'ingresso di Shakyamuni nella vita religiosa era motivato da impulsi molto più profondi di quelli che spingevano le persone comuni della sua epoca a seguire semplicemente un'antica usanza. Partenza e peregrinazioni Sulla partenza di Shakyamuni dal palazzo le scritture riportano varie leggende di natura drammatica. Mettendo per il momento da parte quelle palesemente romanzate, possiamo notare che Shakyamuni, dopo essere giunto a questa sua importante decisione, si confidò con il padre. Questo era prevedibile, dato che il padre si era sempre preoccupato per la sensibilità di Shakyamuni e per la sua forte tendenza all'introspezione. Shuddodana si era particolarmente impegnato nel corso della crescita del giovane per correggere questi tratti del carattere di Shakyamuni. Inoltre, se accettiamo ciò che dicono le scritture, Shuddodana doveva aver già presagito quale fosse il tipo di vita a cui il figlio era destinato, dopo la nascita di Shakyamuni ai giardini di Lumbini, quando fu portato al palazzo di Capilavastu, suo padre mandò infatti a chiamare un rinomato indovino di nome Asita e gli chiese di prevedere il futuro di Shakyamuni. Dopo aver esaminato i tratti del neonato, Asita aveva concluso, i segni che porta indicano che potrebbe diventare un monarca universale che governerà il mondo o un Buddha che rinuncerà alla vita familiare e condurrà il mondo alla salvezza. Ma, sebbene i segni indichino entrambe queste possibilità, credo che questo principe diventerà sicuramente un Buddha. Si sarebbe tentati di liquidare questa leggenda semplicemente come un'altra manifestazione del processo di deificazione che ebbe luogo dopo l'illuminazione di Shakyamuni. D'altra parte, predizioni, astrologia e altri metodi divinatori erano pratiche comuni nella società dell'epoca di Shakyamuni, e non vi è niente di sorprendente nella chiamata di un indovino da parte di Shuddodana perché prevedesse il futuro del figlio. Quanto al contenuto della profezia di Asita, mi piace interpretarlo come un tributo a qualche qualità indefinibile presente nell'infante Shakyamuni, che lo distingueva dagli altri bambini. Simili profezie abbondano quando si ha a che fare con celebri personaggi storici, si dice che sin dall'infanzia avevano una espressione nobile, un comportamento coraggioso, o una cattivante dolcezza che lasciava presagire un futuro straordinario. Anche Shakyamuni viene descritto nelle scritture con un viso luminoso come la luna, che catturava lo sguardo delle persone, e membra che luccicavano come oro prezioso. Descrizioni di questo genere potrebbero anche essere solo invenzioni di discepoli zelanti negli anni successivi. Eppure non sorprende che il veggente Asita trovasse qualcosa di attraente e insolito nei tratti del neonato Shakyamuni e che le sue predizioni della futura buddità alimentassero la prensione di Shuddhodana per quel figlio malinconico. Shakyamuni era sicuramente consapevole delle paure del padre e quindi, quando arrivò alla decisione di rinunciare alla vita familiare, comunicò le sue intenzioni al padre con franchezza. Anche se la notizia non dovette sorprenderlo, Shuddhodana rimase colpito dalla gravità della decisione del figlio, e tentò di dissuaderlo. Come ultima risorsa, sembra che Shuddhodana abbia attuato misure coercitive per impedire la partenza del figlio dalla città. Una notte però Shakyamuni riuscì a uscire dalla città di Kapilavastu in groppa all'amato destriero Kantaka, accompagnato dal domestico Shandaka. Inizialmente Shakyamuni entrò nel territorio dei Coliglia e da lì si diresse a sud attraverso il fiume Anouma. Poi si tagliò i capelli, si liberò di gioielli e ornamenti, li consegnò a Shandaka, che rimandò a Kapilavastu, comunicando che non sarebbe tornato in città finché non avesse realizzato l'obiettivo per cui aveva abbracciato la vita religiosa, e cioè non avesse ottenuto l'illuminazione. Da quel momento viaggiò da solo, vestito come un monaco mendicante, dirigendosi a sud, attraverso gli stati di Manevri, in direzione del Magada. La distanza tra Kapilavastu e Raiagria, la capitale del Magada, era di circa 600 chilometri. Risulta che le attività commerciali fervessero a quel tempo, e Shakyamuni viaggiò di certo lungo le piste carovaniere che attraversavano quell'area. Sappiamo che negli anni successivi alla sua illuminazione e li si unì spesso alle carovane dei mercanti quando intraprendeva i suoi viaggi di proselitismo. Ma prima di descrivere le attività di Shakyamuni nel Magada, ritorniamo su due punti già toccati in precedenza. Il primo è il fatto che Shakyamuni si tagliò i capelli quando abbracciò la vita religiosa. Alcuni studiosi affermano che il costume della tonsura era già praticato da vari asceti bramani prima dell'epoca di Shakyamuni. Dopo la sua epoca, comunque, arrivò a essere considerato come un segno distintivo dei membri dell'ordine buddista. I documenti riportano che i membri di quell'ordine erano definiti Munda, un termine che significa colui che è sottoposto a tonsura. Sebbene la tonsura fosse praticata da asceti di altri gruppi religiosi nell'epoca precedente rispetto a quella di Shakyamuni, non doveva essere una vera e propria consuetudine. Sappiamo, dagli epiteti con cui venivano chiamati, che i bramani portavano i capelli raccolti o intrecciati, mentre i seguaci del jainismo si strappavano capelli e peli della barba, uno a uno. Anche se la pratica della tonsura esisteva prima dei tempi di Shakyamuni, dopo di lui fu associata in modo particolare ai seguaci del buddismo. Il secondo punto degno di nota è che Shakyamuni adottò l'abito del monaco mendicante. Ai suoi tempi la questua era ampiamente praticata da coloro che sceglievano il vagabondaggio ed era considerata abituale e addirittura lodevole. Tale usanza risaliva probabilmente a diversi secoli prima dell'epoca di Shakyamuni ed era forse antica e quanto la ricerca ascetica. Una persona che avesse intrapreso un'esistenza ascetica e completato la sua preparazione religiosa veniva chiamata Bikku, in sanscrito Bikshu, un termine pali che significa colui che mendica il cibo. Nell'India antica erano considerate persone da rispettare, e la gente comune era felicissima di offrire loro nutrimento, perché credeva, così facendo, di accumulare un buon karma, o buone cause che avrebbero prodotto effetti positivi. Lungi dal mostrarsi ossequiosi o servili nelle loro richieste, questi mendicanti camminavano per strada con un atteggiamento di grande dignità, abbigliati con vesti appropriate e non indossando i brandelli dei comuni mendicanti. Quando ricevevano un'offerta, si accomiatavano in fretta senza preoccuparsi di ringraziare la persona che l'aveva elargita, la quale in fin dei conti aveva incrementato i propri meriti. Se la loro presenza davanti alla porta non veniva notata dai membri della famiglia, scuotevano gli anelli metallici attaccati alla punta del loro bastone per attirare l'attenzione. Tale comportamento sembra indicare che alla pratica dell'elemosina fosse attribuito un significato religioso. D'altro canto, la persona che riceveva del cibo in offerta, doveva mangiarlo con un sentimento di gratitudine, anche se era semplice o insipido. A questo proposito mi chiedo se la mendicità, e il relativo obbligo di mangiare qualunque cibo fesse offerto, non rappresentasse in un certo senso una forma di sfida o protesta verso i tabù della società indiana. I tabù a cui mi riferisco erano le rigide regole che governavano il sistema di caste dell'India antica, secondo cui tutte le persone erano divise in quattro classi principali, i bramani, o la classe sacerdotale, gli kshatriya, o la classe dei guerrieri, i vaishyas, mercanti e proprietari terrieri, e gli shudras, i contadini o i servi appartenenti alla popolazione aborigena. Oltre a questa basilare divisione in classi, con il tempo si svilupparono varie divisioni in caste. Membri di caste diverse avevano il divieto di sposarsi tra loro, mangiare insieme o frequentarsi liberamente, e non potevano neanche mangiare il cibo che era stato preparato da una persona appartenente a un'altra casta. Tali restrizioni erano osservate con particolare puntigliosità dai membri delle caste più elevate, che avrebbero preferito morire di fame piuttosto che mangiare del cibo proveniente dalle mani di una persona di casta inferiore, e quindi contaminato. In una società così rigidamente segregazionista come quella dell'India antica, la figura del mendicante religioso che errava di villaggio in villaggio e mangiava qualunque cosa gli fosse offerta rappresentava certamente un'anomalia. Come accennato in precedenza, un bico in origine era una persona che aveva completato il suo periodo di formazione nella vita ascetica e per questa ragione era generalmente rispettato dalla popolazione. Questo concetto mutò nel corso dei secoli e all'epoca di Shakyamuni erano già comparsi asceti che consideravano la mendicità stessa come una forma di pratica religiosa. Questo nuovo gruppo di asceti mendicanti comprendeva pensatori che si rifiutavano di riconoscere le restrizioni del tradizionale sistema sociale bramanico e che cercavano deliberatamente di sfidare e spezzare l'antico ordine delle cose. E vi riuscirono tanto più efficacemente anche in virtù del grande rispetto accordato tradizionalmente in India a chi si votava una vita ascetica. Ho già accennato alle due figure ideali nell'antico pensiero indiano, ovvero il monarca universale e il saggio illuminato. Il mendicante rappresentava la persona che aveva già completato le pratiche che conducevano all'illuminazione o che aveva perlomeno compiuto grandi progressi in quella direzione. Di fronte a un'incarnazione di quello ideale, era più che naturale provare per lui venerazione e rispetto e offrirli con gioia del cibo, sperando di trarne beneficio per il proprio destino karmico. Il rispetto per l'uomo di religione aveva radici molto profonde nella società indiana, per cui la classe più elevata era quella dei sacerdoti bramani. Si può dunque capire come, quando si incontrava un vero uomo di fede, le distinzioni di classe e di casta venissero accantonate nell'atto stesso di donargli un'offerta sincera. La nascita di una nuova cultura, Shakyamuni viaggiò dunque verso sud, avendo scelto lo stato di Magada come destinazione finale. Sono state avanzate diverse ipotesi sul motivo per cui scelse il Magada e non uno degli altri stati dell'epoca. I regni più potenti erano il Magada e il Kosala, ma il secondo si trovava troppo vicino alla patria di Shakyamuni e la controllava politicamente. Se fosse andato nel Kosala e si fosse scoperto che il principe di uno stato vassallo aveva abbracciato la vita religiosa, ci sarebbero state sicuramente polemiche a non finire. Forse Shakyamuni sarebbe anche stato costretto a tornare a Capilavastu, la città dalla quale solo da poco era riuscito, con grande sforzo, a fuggire. È probabilmente con questo pensiero in mente che egli scelse di dirigersi verso il Magada, dove il pericolo di un rimpatrio forzato era decisamente minore. A parte queste ragioni del tutto personali, è probabile che Shakyamuni scegliesse di dirigersi verso il Magada perché lo considerave il centro di una nuova cultura che stava nascendo proprio in quel periodo. La società indiana a quel tempo stava attraversando un processo di radicale mutamento. I membri della classe bramanica, che in precedenza erano stati considerati quasi come esseri divini, stavano iniziando a perdere la loro autorevolezza, e stavano cambiando anche le tradizionali strutture della società che li aveva visti predominare. In parte, questa trasformazione era il risultato della corruzione e degenerazione all'interno delle fila degli stessi bramani, ma fu accelerata dai profondi cambiamenti sociali che ebbero luogo quando gli invasori ariani, che erano entrati in India da nord-ovest qualche secolo prima, ampliarono a est e a sud la zona sottoposta al loro dominio. Con lo sviluppo del commercio e degli scambi, i ricchi mercanti, forti del potere garantito dalle loro ricchezze, cominciarono a sfidare l'autorità dei bramani. Inoltre, parallelamente all'espansione territoriale degli ariani, acquistavano potere i membri della classe degli Kshatriya, i guerrieri che gestivano la politica degli stati in formazione. Col tempo il loro potere divenne maggiore di quello dei loro presunti superiori, i sacerdoti. Già prima e anche negli anni in cui visse Shakyamuni, c'erano membri della classe degli Kshatriya pronti a sfidare i sacerdoti non solo su questioni di potere e priorità sociale, ma anche nel campo della filosofia e della religione. Le Upanishad, gli scritti religiosi che risalgono a un periodo appena successivo a quello delle Araniaka, o trattati della foresta, offrono molte prove della sfida lanciata dagli Kshatriya all'autorità dei bramani. In uno di questi testi si racconta di un re che discusse apertamente con un sacerdote sottolineando gli errori dottrinali presenti nelle dottrine religiose bramaniche. Secondo il racconto, il saggio bramano ammise la sconfitta e pregò il re di diventare suo maestro. Simili aneddoti sono testimonianze del fatto che gli Kshatriya stavano iniziando a superare i bramani non sono a livello sociale ma anche intellettuale. Si potrebbe anche dire che l'intera filosofia alla base dell'Eupanishad, con il suo scetticismo e l'incessante interrogativo sulle credenze accettate, riflettesse il punto di vista del nuovo gruppo in ascesa. Il leader della classe degli Kshatriya, insieme alla nuova classe di ricchi mercanti nota come Shrestin, presero le distanze dai modelli della vecchia società tribale dei bramani e si adoperarono per costruire un nuovo tipo di struttura sociale sotto la guida di un monarca. All'epoca di Shachiamuni questi cambiamenti sociali stavano prendendo piede con grande rapidità, e al centro della nuova società e cultura che stavano iniziando a emergere c'era lo stato di Magada. La storia insegna che i filosofi, i pensatori e i rivoluzionari veramente capaci di creare una nuova era si impadroniscono della parte migliore delle culture e delle ideologie del loro tempo, per poi trascenderle e dare vita a un sistema filosofico originale. Senza dubbio, Shachiamuni scelse di recarsi nel Magada perché desiderava confrontarsi con la nuova cultura e il pensiero che lì si stavano sviluppando. È importante notare che proprio nel Magada egli si dedicò alle severe austerità religiose, ottenne l'illuminazione e iniziò a predicare la religione buddista, e che tra i primi convertiti ci furono il re Bimbisara del Magada e molti shresden, o mercanti facoltosi, di quello stato. Anche il re Prasenait del Kosala dimostrò grande rispetto per Shachiamuni e sostenne le sue attività religiose. Si direbbe che il buddismo fosse perfettamente in grado di riflettere e assorbire le tendenze e il pensiero della nuova cultura e della nuova società, e con il tempo divenne la religione più legata a essa. Questo non significa, tuttavia, che il buddismo si rivolgesse solo ai mercanti e ai membri della classe dominante. Sin dall'inizio fu una religione che rifiutava ogni distinzione di classe e di casta e si appellava in ugual misura a tutti gli individui, senza dare importanza alla loro posizione nella società. Non di meno, il sostegno offerto dai ricchi mercanti all'ordine buddista è spesso citato nelle scritture. Uno di loro donò il monastero del Boschetto di Bambù a Raiagria e un altro monastero nella città di Shravasti, nel Kosala. Il più conosciuto di questi mecenati fu Sudatta, che si dice fosse l'uomo più ricco del Kosala e che divenne noto anche con il nome di Anatapindada, o soccorritore dei bisognosi, per la generosità con cui divise la propria ricchezza con i poveri. Uno degli aspetti più importanti e caratteristici di questa nuova cultura che si stava sviluppando nel Magada e nel Kosala fu la comparsa di pensatori che rifiutavano apertamente la tradizione vedica l'autorità del vecchio ordine sociale bramanico. La loro presenza è molto importante, perché indica quanto furono radicali i cambiamenti che presero piede nella società, sotto la guida di uomini che osarono liberarsi completamente dalle dottrine del bramanesimo. Questi uomini venivano definiti Sishramana, parola che significa colui che pratica l'austerità religiosa. In origine questo termine era usato per tutti gli ascetti in generale, cioè gli uomini che, nelle quattro fasi tradizionali della vita descritte in precedenza, erano entrati nella terza fase e si erano recati nella foresta per praticare l'ascesi e la meditazione. All'epoca di Shakyamuni il termine era stato esteso a tutti gli ascetti che rigettavano il bramanesimo e l'ordine sociale che rappresentava. Pare che il Magada sia stato un luogo di ritrovo per questi Sishramana. Successivamente Shakyamuni fu chiamato Gautama Sishramana, perché era considerato appartenente a questo gruppo di pensatori riformisti. Sebbene all'inizio abbia frequentato le nuove scuole di pensiero che stavano sbocciando, l'illuminazione alla quale giunsa in seguito fu di un livello totalmente diverso e di banaltra portata rispetto a quella degli altri Sishramana del suo tempo. I sei maestri non buddhisti, definire le dottrine insegnate da questi nuovi pensatori dell'epoca di Shakyamuni non è un compito semplice, dato che erano ben lontani dal concordare tra loro e propugnavano una vasta gamma di idee diverse. Le scritture buddiste citano sei uomini che ebbero una funzione di guida tra i pensatori Shakyamuni. Noti come sei maestri eretici o non buddhisti, sono Makkali Gosala, Purana Kassapa, Ayita Khesakambala, Pakudaka Kshayana, Sanyaia Belatti Putta e Niganta Nataputta. Di questi il più famoso è Niganta Nataputta, che fondò la religione nota come jainismo. Era un membro della classe degli Kshatriya nato nella nobile e prestigiosa tribù dei Kshavi, ma lasciò la sua famiglia e scelse la vita ascetica, cercando la liberazione attraverso una disciplina rigida e una rigorosa eliminazione di tutti i desideri. Il principale precetto per i seguaci della religione jainista è il divieto di togliere la vita. L'ingiunzione è interpretata con tale rigore che si devono prendere le più complicate precauzioni per evitare di uccidere inavvertitamente anche il più minuscolo insetto. Questa ingiunzione e altri precetti del jainismo presentano una straordinaria somiglianza con i cinque precetti stabiliti da Shakyamuni, ma per sua natura il buddismo rifiuta l'ascetismo estremo imposto da Aniganta Nataputta e suoi seguaci. Per un certo periodo lo stesso Shakyamuni praticò tali rigori, ma li abbandonò quando si rese conto che si limitavano a infliggere sofferenza al corpo senza condurre all'illuminazione. Un altro pensatore che sembra abbia goduto di uno straordinario seguito tra gli intellettuali del tempo fu Ayita Chesa Kambala. Dichiarando che tutto nell'universo era costituito dai quattro elementi fondamentali di terra, acqua, fuoco e vento, egli predicò una dottrina di totale materialismo. Dato che il mondo era costituito di sola materia, della vita non rimaneva niente quando il corpo periva, e quindi il fatto che la persona compisse azioni buone o cattive nella sua esistenza non aveva alcuna importanza. La popolarità di una dottrina così amorale riflette il clima intellettuale dell'epoca. Gli insegnamenti religiosi del bramanesimo, che in precedenza erano stati considerati sacri e inviolabili, erano stati sfidati e in qualche caso apertamente respinti. Questo naturalmente portò a mettere in discussione anche i precetti morali impartiti dal bramanesimo. L'atteggiamento di negazione delle norme morali tradizionali è un tratto distintivo condiviso da tutti e sei i pensatori non buddhisti. In un certo senso, questo tipo di pensiero rappresentava un grande passo in avanti, perché implicava il tentativo di liberare l'uomo dal timore della collera divina e dalle spietate imposizioni di un rigido sistema sociale. D'altra parte, non si può negare che tali filosofie tendano a degenerare nel nichilismo e nella decadenza morale. Da questo punto di vista Shakyamuni, anche se veniva chiamato Shramana, si distingueva profondamente dagli altri filosofi, poiché nei suoi insegnamenti non vi era traccia di antisocialità. Sanyaia Belatiputta, un altro dei sei maestri non buddhisti, era rinomato per il suo nichilismo e lo scetticismo. Mise in discussione la dottrina dell'immortalità dell'atman, o se, spiegata nell'Eupanishad, e negò il principio eterno del Brahman, sostenendo che non esistesse un principio del genere, eterno e immutabile. Tra i più autorevoli discepoli di Sanyaia Belatiputta c'erano due uomini, Shariputra e Maud Gagliayana che, sempre più insoddisfatti del nichilismo e del negativismo delle dottrine del loro maestro, decisero di diventare seguaci del buddismo, dopo essere rimasti profondamente impressionati dall'aspetto semplice pio di uno dei discepoli di Shakyamuni che ebbero occasione di incontrare. Pare che quando lasciarono Sanyaia, fossero imitati da altri 250 seguaci. Con il tempo, Shariputra e Maud Gagliayana furono annaverati tra i dieci grandi discepoli del Buddha. Secondo la leggenda, Sanyaia si sentì così angustiato per aver perso due dei suoi più promettenti discepoli che sputò sangue. Ma se era un vero scettico, quell'episodio doveva averlo convinto una volta di più della correttezza delle sue opinioni. Troviamo la stessa critica dei valori morali tradizionali negli insegnamenti di Makkali Gosala, che predicava una forma estrema di fatalismo. Poiché ogni cosa appare e scompare secondo le leggi ineluttabili del karma, o causalità, a suo avviso nessuno sforzo di devozione o di rinuncia scetica, per quanto grande, avrebbe potuto avere effetto sul corso degli eventi, rigidamente determinato dal fato. Egli consigliava di accettare la dottrina del samsara, o trasmigrazione, così come era esposta nell'Eupanishad, sostenendo che non vi fosse altra alternativa. La sua era una filosofia di totale rassegnazione, ben illustrata dal celebre modo di dire, sarà quel che sarà. In diretta contraddizione con le opinioni di Makkali Gosala, Purana Cassapa negò l'esistenza di qualunque legge del karma e avanzò la tesi secondo cui tutti i fenomeni erano totalmente privi di significato. Alla fine, questa visione nichilistica lo portò a negare la natura sociale dell'umanità e a ripudiare qualsiasi concetto di moralità e di un giusto ruolo dell'uomo nella società. Tra queste dottrine generalmente nichiliste, gli insegnamenti di Pakuda Kakshayana costituiscono sicuramente un'eccezione. Ai quattro elementi materiali di terra, acqua, fuoco e vento esposti da Aita Kesa Kambala egli aggiunse elementi spirituali quali la sofferenza, il piacere e l'anima. Egli sosteneva anche la dottrina dell'immortalità dell'anima e della sua natura immutabile. Nella sua visione della vita, il compito principale del genere umano era quello di assicurare pace e stabilità alla propria anima. Questi nuovi pensatori esercitavano pratiche religiose basate sulle loro diverse filosofie e, poiché le loro dottrine spesso erano di natura estremista e rappresentavano un deliberato rifiuto della tradizione e della storia passata, le loro pratiche erano ugualmente drastiche e non convenzionali. Tra queste spiccavano il sedere nudi sotto il sole cocente, ricoprire il corpo di fango, mangiare solo erbe selvatiche che crescevano nella foresta e in generale sforzarsi di vivere la vita secondo le modalità più primitive. Per quanto riguarda il clima ideologico, la loro epoca era per certi versi piuttosto simile alla nostra. In termini moderni, erano degli emarginati della società tradizionale bramanica che si riunivano per vivere una vita comunitaria basata su modelli e valori originali. Se spesso sembravano beffarsi delle convenzioni acquisite del comune buonsenso, dietro il loro comportamento c'era il legittimo desiderio di vivere una vita più soddisfacente, sulla base di una nuova filosofia. Per tutti questi aspetti essi somigliano ai ricercatori spirituali della nostra epoca, spesso attratti da yoga, zen e altre correnti della filosofia indiana e orientale. Il fatto che le dottrine dei sei pensatori, persino quelle a tendenza fortemente materialistica e amorale o improntate a un deciso nichilismo, godessero di una notevole popolarità è un altro fattore che induce ad accostare quell'epoca ai tempi moderni. I sei pensatori vissero in un periodo in cui una nuova classe stava venendo alla ribalta e nella società indiana stavano avvenendo profondi cambiamenti. In quel periodo di valori in rapido mutamento, i sei maestri furono i portabandiera di nuove forze che stavano cercando di demolire il rigido sistema di valori creato in precedenza dal bramanesimo. Le tendenze marcatamente nichiliste e negativiste del loro pensiero probabilmente non erano altro che riflessi del clima filosofico dei tempi. Ma con una filosofia esclusivamente negativista non si può risvegliare il tipo di spirito che è in grado di creare una nuova società. Questo era il limite del loro pensiero. Tra le filosofie religiose di quel periodo solo il buddismo, la filosofia di Shakyamuni, trascese l'atteggiamento negativista e fornì una soluzione dialettica definitiva e problemi sollevati dal conflitto tra bramanesimo tradizionale e le forze che cercavano di scardinarlo. Tuttavia non dovremmo considerare la comparsa dei sei maestri e la filosofia di Shakyamuni semplicemente come eventi lontani da noi nello spazio e nel tempo. Per le persone di oggi, che vivono in una società fortemente connotata da epicureismo, nichilismo e decadenza, questi eventi trasmettono un importante messaggio storico. Il filosofo tedesco Carly Aspers ha sottolineato il fatto che Shakyamuni nacque quasi nello stesso periodo in cui in Grecia comparve Socrate, in Cina Confuccio e nel mondo giudaico il profeta Deutero Isaia, il cui pensiero esercitò una influenza importante sul cristianesimo. La comparsa quasi simultanea di questi grandi pensatori, secondo l'opinione di Aspers, segnala in quell'epoca l'alba della civiltà spirituale dell'umanità. Per lo spirito umano fu una prima grande e significativa svolta, il momento in cui diversi sistemi di pensiero comparvero in risposta alle radicali trasformazioni della società antica. Fino al XIX secolo la storia dell'uomo continuò a svilupparsi sulla base dei principi spirituali elaborati all'epoca di quella prima grande svolta. Ma con il XX secolo la civiltà materialistica creata dall'uomo ha improvvisamente iniziato a cambiare, trasformandosi con una rapidità del tutto inaspettata. Ciò che secondo Yaspers è assolutamente necessario a questo punto della storia umana è una nuova filosofia, una nuova religione che possa far fronte al fenomenale avanzamento della scienza e della tecnologia, determinando quindi una seconda svolta spirituale. Quando rivolgiamo la nostra attenzione alla vita e all'epoca di Shakyanumi, non lo facciamo semplicemente perché desideriamo saperne di più sugli eventi del lontano passato, ma perché siamo preoccupati per i bisogni del presente. Ricercando con serietà nel passato, potremmo infatti scoprire, ancora oggi, nuove fonti di nutrimento spirituale. Credo che il grande interesse che oggi molti intellettuali dimostrano per il buddismo sia alimentato dalla speranza di una scoperta di questo genere. Il noto studioso buddista Fumio Masutani ha suggerito che la relazione tra i sei maestri non buddhisti e Shakyamuni fesse paragonabile a quella che esisteva tra i sofisti e Socrate. Gli insegnamenti di Socrate viaggiavano in qualche modo in parallelo, o comunque si avvicinavano, agli insegnamenti dei vari filosofi sofisti, eppure, allo stesso tempo, Socrate superò di gran lunga la dialettica dei sofisti. Allo stesso modo, gli insegnamenti di Shakyamuni furono paralleli a quelli dei sei maestri non buddhisti, ma allo stesso tempo li superarono. E ancora, proprio come la vita politica e culturale greca dell'epoca di Socrate era incentrata nelle città-stato di Atene, Sparta e altre, così la vita nell'India settentrionale all'epoca di Shakyamuni era dominata dalle città-stato di Raiagria nel Magada, Shravasti nel Cosala e altre. Si direbbe che gli sfondi sociali e politici da cui sono nate le grandi filosofie e religioni del mondo siano legati da elementi comuni. Da una condizione di fermento e inquietudine intellettuale sorse nel mondo orientale la filosofia di Shakyamuni che fornì una soluzione dialettica al conflitto tra le dottrine dei sei maestri e quelle delle 95-7 bramaniche, mentre un analogo fermento nel mondo occidentale produceva la filosofia di Socrate. Tre gli anni dell'ascetismo, l'incontro con il re Bimbisara, non abbiamo modo di sapere se Shakyamuni, scegliendo il Magada come luogo per realizzare la sua ascesi religiosa, fesse al corrente della presenza in quel luogo dei sei maestri non buddisti di cui abbiamo parlato in precedenza, né risulta che li abbia mai incontrati durante il suo soggiorno laggiù. A questo riguardo possiamo solo formulare delle ipotesi, sulla base di ciò che sappiamo dell'educazione di Shakyamuni. Capilavastu, città natale di Shakyamuni, doveva avere strutture educative piuttosto buone, poiché pare che alcune famiglie del Cosala, lo stato più potente dal quale dipendevano gli Shakyamuni, mandassero i propri figli a Capilavastu per essere istruiti nelle arti civili e militari. Sembrerebbe che gli Shakyamuni, anche se politicamente deboli e obbligati a porsi sotto la protezione del Cosala, fossero un popolo orgoglioso e vivace che teneva in grande considerazione l'istruzione. Shakyamuni certamente approfondì gli insegnamenti del bramanesimo, anche se le fonti non forniscono il nome di un maestro in particolare che lo avesse istruito. È possibile che avesse frequentato dei corsi regolari come facevano generalmente i giovani della classe bramanica, o che suo padre avesse chiamato a Palazzo degli Insegnanti perché istruissero il figlio in uno dei piacevoli giardini costruiti apposta per lui. Tutto quello che sappiamo è che, secondo la leggenda, il giovane Shakyamuni sbalordì i suoi maestri per la sua vasta erudizione e per i rapidi progressi che compiva nelle lettere e nell'aritmetica. Ma persino in un ambiente intellettuale di quel genere, è improbabile che fosse venuto a conoscenza in modo circostanziato dei nuovi movimenti culturali e filosofici che stavano nascendo nello stato del Magada. Tuttavia, anche se su scala minore, lo stesso tipo di movimenti deve aver avuto luogo anche nel vicino stato del Kosala, e quindi non si può far a meno di avere la sensazione che Shakyamuni, con la sua acuta intelligenza e sensibilità, avesse percepito che nuove forze potenti si agitavano nel mondo fuori Capilavastu. Le confuse voci sulle nuove correnti intellettuali e spirituali, che lo avevano già raggiunto quando era uno studente, possono essergli improvvisamente tornate in mente una volta raggiunta all'età adulta, quando decise di abbracciare la vita religiosa, spingendolo a dirigere il proprio passo verso Magada. Dopo aver raggiunto Raiagria, capitale del Magada, lo stesso luogo nei pressi del quale, tra l'altro, fu più tardi predicato il Sutra del Loto, Shakyamuni si aggirò nella città e nei suoi dintorni, osservando il modo di vivere dei vari asceti e leader religiosi che lì si raccoglievano. Pare che proprio in una di queste occasioni, attirò l'attenzione del governante del Magada, il Reb Imbisara. La tradizione vuole che il re osservasse dall'alto di una torre del palazzo il vasto numero di asceti giunti in città per mendicare, e notasse Shakyamuni, rendendosi conto che non si trattava di una persona comune, ordinò ai suoi servitori di seguire il giovane. Questi obbedirono, e dopo aver appurato che Shakyamuni viveva ai piedi del monte Pandava a ovest della città, tornarono a riferire al Re. Imbisara, accompagnato dalla sua scorta, si recò di persona ai piedi della collina per conoscere il futuro Buddha. Se questo racconto è veritiero, suggerisce che vi fosse qualcosa di straordinario nell'aspetto di Shakyamuni, forse una sorta di indefinibile luminosità, che attirò l'attenzione del Re. Se ne deduce inoltre che il Re possedesse doti di straordinaria percezione per aver notato Shakyamuni in una folla di monaci questuanti. In effetti, dai resoconti storici si comprende che questo Re era un leader fuori del comune. In un periodo in cui la società indiana stava attraversando un processo di cambiamenti tumultuosi e i piccoli stati tribali venivano inghiottiti dai vicini più potenti, il Re Vimbisara non seppe solo proteggere il proprio regno da tale pericolo, ma riuscì a rafforzarlo e a estendere la sua sfera di influenza. Quando il Re raggiunse le pendici del monte Pandava, trovò Shakyamuni seduto a riposare. Avvicinandosi a lui senza esitazione, il Re disse, sei giovane di età, bello di aspetto e sembri di nobili natali. Ti darò tutte le ricchezze che desideri. I miei battaglioni di elefanti e le truppe migliori e più coraggiose del mio esercito sono ai tuoi ordini. Il Re chiese poi ai Shakyamuni dove fosse nato e degli rispose di essere un principe del regno degli Shakyamuni, che si trovava sotto l'egemonia del regno del Kosala. Ma in risposta all'offerta di ricchezze del comando dei suoi eserciti, Shakyamuni replicò, ho lasciato la mia casa e la mia famiglia e non nutro desiderio per le cose terrene. I desideri comportano molti legami e solo quando si è liberi da questi si può trovare pace e riposo. Essendone consapevole, ho abbracciato la vita ascetica per cercare la verità. Questo è il mio unico obiettivo, non desidero altro. Questo passo, tratto da uno dei testi più antichi del canone buddista, spiega il motivo della profonda impressione che Shakyamuni aveva esercitato sul re, tanto da spingerlo a offrire al giovane ricchezze e il comando del suo esercito. Come tutti i grandi leader, il Re Bin Bisara doveva essere costantemente alla ricerca di uomini dalle qualità straordinarie, che potessero essergli d'aiuto nello sviluppo futuro del suo stato, e qualcosa nel portamento di Shakyamuni gli aveva fatto capire di essere in presenza di una persona di quello stampo. Alcuni studiosi hanno pensato che quando il Re Bin Bisara propose a Shakyamuni di mettergli a disposizione il proprio esercito, già sapesse che il giovane era il principe ereditario del regno degli Shakyamuni, i quali erano vassalli del Kosala, il primo rivale dello stato del Magada. Sperava in questo modo di attirare il regno degli Shakyamuni nella propria sfera di influenza politica. Tuttavia non vi è ragione di sospettare che egli avesse dei secondi fini. Le scritture continuano riportando che dopo il rifiuto da parte di Shakyamuni all'offerta del Re, Bin Bisara non insistette oltre. Al contrario gli chiese, non appena Shakyamuni avesse raggiunto l'illuminazione che stava cercando, di concedergli di essere la prima persona ad ascoltare la nuova verità. Ci viene infatti riportato che, dopo che Shakyamuni ebbe ottenuto l'illuminazione, tornò davvero nel Magada, anche se non fu la prima tappa prevista del suo viaggio, il Re Bin Bisara divenne uno dei suoi discepoli. Il Re Bin Bisara è nominato in diverse scritture buddiste e il suo nome è noto ai discepoli del buddismo. Nonostante la gloria che conobbe in gioventù, tuttavia, a quanto sembra i suoi ultimi anni furono sfortunati, si racconta infatti che il figlio Ayata Shatrugli si ribellò, lo imprigionò e lo condannò a morte. Forse a quel tempo aveva già portato a termine la missione del Shramana a sua vita, eppure non si può evitare di riflettere sulla durezza del colpo infertogli dal destino. I due eremiti bramani, secondo le scritture, dopo il suo incontro con il Re Bin Bisara ai piedi del monte Pandava, Shakyamuni scelse due saggi eremiti tra i numerosi asceti della zona, e con loro iniziò la sua pratica religiosa. Quei saggi erano Alara Kalama e Udda Karama Putta. L'anacoreta o saggio eremita è una figura familiare nelle religioni asiatiche. In Cina gli anacoreti sono spesso descritti come capaci di volare e di compiere altre azioni eccezionali. Essi erano presentati dalla religione taoista come figure ideali. In India, dall'epoca dei bramani in poi, troviamo vari esempi di uomini che vissero isolati sulle montagne o nelle foreste cercando l'illuminazione religiosa e che divennero noti per le loro virtù. Questi saggi eremiti erano considerati le massime autorità nelle questioni pertinenti la religione bramanica, ed è tra costoro che Shakyamuni scelse i suoi due insegnanti. Dopo il suo arrivo nel Magada, Shakyamuni sicuramente sentì molto parlare dei cosiddetti sei maestri non buddhisti citati in precedenza, anche se non sappiamo se li abbia realmente incontrati. A ogni modo, probabilmente per la natura troppo radicale del loro pensiero e delle pratiche religiose da loro proposte che in un certo senso rifiutava, egli si rivolse a due uomini di stampo molto diverso. Si può solo ipotizzare il motivo per cui scelse proprio loro, secondo la mia opinione lo fece probabilmente perché erano entrambi maestri di meditazione yoga. Si diceva che Alara Kalama avesse raggiunto attraverso la meditazione lo stadio noto come il regno del nulla, mentre Udhaka Ramaputta aveva raggiunto il regno in cui non vi è né pensiero né assenza di pensiero. Nell'antica India la meditazione yoga, come altre pratiche ascetiche, era tenuta in grande considerazione. Lo yoga probabilmente ebbe origine tra coloro che, nel corso della terza fase della loro esistenza, si erano ritirati nella foresta a riflettere sulla loro vita passata. All'epoca di Shakyamuni, tuttavia, aveva assunto un significato più specificamente filosofico e religioso, non era praticato solo con lo scopo di ottenere la concentrazione della mente e una profonda introspezione, ma anche come una vera emancipazione dal corpo attraverso il controllo della psiche. Nel bramanesimo, e in particolare nella filosofia dell'Evinaya, spirito e materia sono considerati in termini dualistici e sono visti come opposti uno all'altro. È dall'opposizione di corpo e spirito che secondo l'Evinaya hanno origine la sfortuna e la sofferenza. Allo scopo di superare questa opposizione, bisogna risvegliare le funzioni dello spirito puro e immacolato di cui si è dotati alla nascita, finché esso non avrà assorbito in sé tutti gli elementi materiali dell'essere. Questo era ciò che la meditazione yoga insegnava, e all'epoca di Shakyamuni tale metodo era ampiamente utilizzato dagli asceti come forma di disciplina religiosa. Nel mondo odierno, più avanzato da un punto di vista materiale, esiste un notevole interesse per le pratiche meditative dello yoga e dello zen come metodi per gestire la desolazione spirituale della nostra epoca. Anche all'epoca di Shakyamuni c'erano sicuramente persone che si rivolgevano allo yoga per lo stesso motivo, ma a quel tempo tale pratica era molto popolare soprattutto perché era considerata un mezzo per ottenere la liberazione dalle sofferenze connesse alla condizione umana. Questo concetto di emancipazione, espresso dalla parola vimut in sanscrito e gedat zu in giapponese, è tipicamente asiatico. Il concetto che più vi si avvicina in Occidente potrebbe essere quello di libertà, ma emancipazione e libertà non sono la stessa cosa. La libertà in senso occidentale è sempre vista nel contesto dei principi istituzionali della società umana, mentre libertà in senso orientale significa libertà dalle sofferenze inerenti all'esistenza umana, a prescindere dalle istituzioni sociali che ci governano. Considerando questo argomento da un punto di vista globale e storico, si può dire che in passato l'Oriente è stato coinvolto in modo profondo dallo sforzo di ottenere la liberazione dalla fondamentale condizione umana, e nel farlo ha spesso trascurato i problemi della società. Il concetto occidentale di libertà, al contrario, coinvolgendo la ricerca dei diritti di una persona in quanto essere sociale, ha prodotto una serie di cambiamenti e miglioramenti nelle istituzioni della società. In realtà può essere considerato come uno dei fattori che ha portato al predominio della civiltà occidentale sulla civiltà spirituale dell'Oriente nei secoli recenti. Si dovrebbero tuttavia comprendere e apprezzare entrambi i concetti di libertà, senza sprecare troppo tempo a domandarsi quale dei due sia superiore. Vorrei sottolineare che, in considerazione della situazione del mondo contemporaneo, è sicuramente importante cercare di diffondere il concetto orientale di emancipazione. A ogni modo, era piuttosto naturale a quei tempi che Shachiamuni, che si era riproposto di risolvere i grandi problemi causati da malattia, sofferenza e morte dell'uomo, fosse attratto dagli eremi e dai loro metodi di meditazione yoga. Per prima cosa egli studiò con Alara Kalama, del quale si dice che avesse circa 300 discepoli. Non si sa per certo dove fosse situato il suo eremo, alcune fonti lo collocano a Vaischali, una città a poca distanza dal Magada, altri nelle montagne Vindia. Come abbiamo già detto, pare che Alara Kalama avesse raggiunto il regno del nulla, e Odakaramaputta il regno in cui non viene pensiero né assenza di pensiero. Questi stati di samadhi, o concentrazione, furono in seguito incorporati nei metodi buddhisti di meditazione e disciplina. Ma nei dieci stadi di sviluppo verso la buddhità, essi occupano una posizione relativamente bassa, il primo corrisponde allo stadio dell'ascoltatore della voce, Shravaka, ovvero colui che ascolta la dottrina e la comprende solo in via teorica. Il secondo corrisponde allo stadio del Pratieka Buddha, o risvegliato all'origine dipendente, colui che comprende la natura della mente illuminata, ma è interessato solo alla propria salvezza. Sono stadi inferiori a quello del Bodhisattva, che giura di salvare tutta l'umanità, o a quello ottenuto dallo stesso Shakyamuni. Shakyamuni si rese conto molto rapidamente che questi stati di samadhi non erano il suo obiettivo ultimo. Nel sutra noto come il Sutra Agama di media lunghezza, uno dei quattro Sutra Agama, viene riportato che Shakyamuni stupì il suo maestro Alara Kalama per la rapidità con cui raggiunse il regno del nulla, cioè lo stato di vuoto in cui si è liberi da tutti gli attaccamenti terreni. Il maestro gli propose allora di condividere il lavoro di insegnamento ai discepoli. Ma Shakyamuni rifiutò l'offerta e si congedò da Alara Kalama dicendo, questo insegnamento non conduce al distacco filosofico, al soffocamento delle passioni, alla cessazione, alla tranquillità, al sommo risveglio, o al nirvana, ma solo al regno del nulla. L'oggetto della ricerca di Shakyamuni era il tipo di illuminazione che liberava il genere umano dalle sofferenze legate al ciclo di nascita e morte, ma il metodo esposto da Alara Kalama rimaneva ben lontano da questo obiettivo. Shakyamuni si rese conto che l'emancipazione dall'attaccamento agli oggetti terreni era solo una parte della verità ultima e per questa ragione lasciò l'eremo. Più o meno la stessa cosa accadde, secondo il Sutra Gama di media lunghezza, quando Shakyamuni andò a studiare sotto la guida dell'eremita Uddhaka Ramaputta, che pare vivesse nei pressi della città di Raiagria nel Magada e avesse settecento discepoli. Shakyamuni ben presto raggiunse lo stesso livello di Samadhi del suo maestro, il regno in cui non viene pensiero né assenza di pensiero, ma si rese conto che anche questo metodo non conduceva al tipo di illuminazione che stava cercando, e lasciò anche quell'eremo. È difficile dire con esattezza cosa si intende con regno in cui non viene pensiero né assenza di pensiero. Finché una persona ha pensieri o idee, continua a muoversi nel regno della concettualizzazione, mentre la vera illuminazione deve in qualche modo liberarsi del guscio della concettualizzazione e afferrare l'essenza della vita stessa. Allo stesso tempo, ciò che riesce ad afferrare l'essenza è il pensiero stesso, e forse questo è il motivo per cui tale stadio è descritto come realizzazione del regno in cui non vi è né pensiero né assenza di pensiero. Ciò che è importante notare è che Shakyamuni studiò con questo due maestri, entrambi considerati i maggiori maestri di yoga dell'epoca, e raggiunse un livello pari a loro. Rendendosi conto che quei metodi non lo conducevano al suo obiettivo, tuttavia, li abbandonò e si dedicò a una dura pratica ascetica. La pratica yoga era diventata un fine per maestri di yoga come Alara Kalama e Uddhaka Ramaputta, i quali sembravano aver dimenticato l'obiettivo supremo per il quale si adottano simili pratiche, cioè il conseguimento dell'illuminazione. La stessa cosa si può dire di alcuni dei discepoli più superficiali delle discipline odierne basate sulla meditazione. Essi pensano che sia sufficiente sedersi a meditare e calmare la mente. Se lì si volesse criticare, si potrebbe dire che rischiano di confondere un mero stato mentale nebuloso con un nobile livello di conseguimento spirituale. Sia la meditazione yoga sia quella zen sono pratiche eccellenti sviluppate dalle filosofie e dalle religioni asiatiche ma, come chiarisce a Chiamuni, dovrebbero essere usate come metodi per raggiungere una comprensione della verità ultima e non essere considerate un fine in sé stesse. La pratica dell'ascetismo, convinto di non poter ottenere l'illuminazione che stava cercando sotto la guida dei due maestri yoga, Chiamuni decise di dedicarsi a una rigida ascesi. Secondo alcune fonti condusse questa vita per sei anni, secondo altre, per dieci. Egli condusse queste pratiche in una foresta nei pressi del villaggio di Sena nel distretto di Uruvilva, a ovest della città di Raiagria. Pare che questo villaggio fosse situato sul Nairamiana, un affluente del Gange, Buddha Gaia, il luogo dove Chiamuni alla fine raggiunse l'illuminazione, è situato lungo lo stesso fiume. In una delle scritture Chiamuni offre la seguente descrizione vivita del luogo in cui praticava le austerità, seguendo il bene e ricercando la via verso un incomparabile stato di pace, arrivai, nel corso delle mie peregrinazioni nel Magada, al villaggio di Sena nella regione di Uruvilva, e là stabilì la mia residenza. Era un posto delizioso, con le acque chiare del Nairamiana che scorrevano attraverso una terra ricca e fertile. I villaggi sonnecchiavano all'ombra di splendidi alberi lungo attraenti rive e scalinate che scendevano verso l'acqua, e i prati si stendevano in lontananza. Mentre osservavo il luogo, pensai tra me, è un luogo invitante per un giovane di buona famiglia che è pronto allo sforzo. Così mi sedetti e dissi tra me, questo è davvero un luogo propizio per la pratica ascetica. Nella foresta fuori del villaggio di Sena si raccoglievano i bramani che avevano lasciato le loro famiglie e si dedicavano all'ascesi. Praticare le austerità era considerato nella filosofia indiana un metodo per raggiungere un progresso spirituale, come la meditazione yoga, e vi si ricorreva frequentemente. Alla base c'erano gli stessi concetti della dualità di mente e materia e della ricerca dell'emancipazione discussi in precedenza. Sottomettendo il corpo a vari dolorosi processi e imparando a tollerare il dolore e la sofferenza che ne derivavano, si riteneva di poter acquisire la libertà spirituale. Le varie pratiche attuate al tempo di Shakyamuni erano classificate in quattro categorie, controllo della mente, sospensione del respiro, digiuno completo e rigide limitazioni alimentari. Queste discipline erano applicate in obbedienza a una serie di regole specifiche. Nella disciplina per controllare la mente, ad esempio, ci si siede in una ben precisa posizione, si stringono appena i denti, si preme la lingua contro il palato e in questa posizione ci si concentra per riuscire a controllare la mente in modo totale. Potrebbe sembrare relativamente semplice, ma se si persevera per ore, si dice che il respiro si faccia sempre più difficile e il sudore scenda abbondantemente dalle ascelle. L'esercizio per ottenere la sospensione del respiro è considerato uno dei più difficili. Per prima cosa ci si concentra per impedire al respiro di entrare e uscire dal naso o dalla bocca. Si potrebbe supporre che questo porti al soffocamento, ma quando il respiro attraverso il naso e la bocca è sospeso, secondo le fonti dello yoga si inizia a respirare dalle orecchie. Si dice che questo provochi un tintinio violento nelle orecchie, che si rivela estremamente doloroso. Se con l'allenamento si arriva ad arrestare il respiro dalla bocca e dal naso, si procede poi ad arrestare il respiro che passa dalle orecchie, stadio che provoca violenti dolori alla testa, e si continua bloccando il respiro che passa per l'addome, e così via per tutte le altre parti del corpo. In quanto al digiuno, ve ne sono che durano dalle 24 ore alla settimana, considerati appropriati solo per i principianti. I discepoli più esperti in questa disciplina abitualmente digiunano per un mese, due, o persino sei mesi di seguito. I digiuni osservati dai discepoli della religione jainista sono famosi per la loro severità. Secondo alcuni resoconti, tra i discepoli di Niganta Nataputta, fondatore del jainismo, nove su undici digiunarono fino a morirne, e si crede che nel farlo abbiano ottenuto la liberazione finale. Leggendo le descrizioni di simili pratiche dolorose e inumane, ci si rende conto una volta di più di quali spaventose conseguenze possono derivare da una religione o un'ideologia che viene portata all'estremo. Tuttavia, come nel caso dei seguaci del jainismo, anche se le pratiche stesse possono sembrare dure ed estreme, di per sé non sono prive di significato filosofico. In sanscrito tali pratiche severe erano definite tapas, che letteralmente significa calore. Questa parola in origine si riferiva alla pratica in cui ci si sedeva o si stava in piedi nudi, esposti al calore del sole cocente, finché la pelle non si bruciava o si inarediva. Come ho già menzionato, si credeva che il corpo fosse contaminato mentre lo spirito fondamentalmente era puro, quindi solo dopo essersi sottoposti alla mortificazione della carne, lo spirito poteva ottenere il tipo di pace che rappresentava la definitiva liberazione. Simili a austerità venivano considerate un metodo importante da usare nella ricerca dell'illuminazione, e tradizionalmente si riteneva che chiunque avesse lasciato la propria famiglia e avesse abbracciato la vita religiosa dovesse necessariamente dedicarsi a quelle pratiche per poter sperare di raggiungere l'essenza della verità suprema. Per ottenere l'illuminazione che non riusciva a trovare attraverso la meditazione yoga, Shakyamuni si era quindi convinto di non avere altra alternativa se non dedicarsi a quelle pratiche severe. Nessuno può sfuggire alla propria epoca, e Shakyamuni, come altri del suo tempo, ritenne che senza la sperimentazione del dolore e della sprezza legata a simili pratiche, non vi fosse speranza di un vero progresso spirituale. Mi chiedo se non si possa dire lo stesso per tutti coloro che intuiscono qualche grande verità o compiono scoperte che cambiano il corso della storia. Il tipo di saggezza che permette a qualcuno di diventare un leader, attirando su di sé l'attenzione di un'intera epoca, non nasce mai da pratiche semplici o facili. Credo che anche Shakyamuni pensò che solo vivendo l'esperienza della sofferenza legata a simili discipline e affrontandole faccia a faccia avrebbe potuto ottenere una peculiare scoperta personale. Se non adottiamo almeno in parte questa interpretazione, infatti, è difficile capire perché per più della metà del periodo durante il quale cercò l'illuminazione, Shakyamuni si impegnò in pratiche di questo tipo, dieci anni secondo una versione, come abbiamo visto, sei secondo un'altra. In particolare quando si tratta di religione e ideologia, non si può sperare di afferrare l'essenza di una cosa se non la si penetra e non la si sperimenta direttamente. Oggi siamo tutti impregnati di spirito scientifico, con la sua forte tendenza ad applicare criteri oggettivi di misurazione e a esaminare le cose dall'esterno. Ma la ricerca della vera illuminazione non consente un simile approccio da spettatore esterno, il progresso in molti casi può essere ottenuto solo attraverso l'esperienza diretta. Possiamo essere certi che quando Shakyamuni entrò nella foresta vicina al villaggio di Sena praticò i vari tipi di discipline ascetiche con serietà e accuratezza. Le scritture tramandano che gli altri asceti intorno a lui rimasero stupiti dalla severità delle pratiche che intraprese, e a un certo punto credettero persino che ne fosse morto. Negli anni successivi, quando richiamò alla mente questo periodo della sua vita, egli ricordò che nessun brahmano o shramana nel passato aveva mai affrontato, né era probabile che lo facesse, il tipo di tortura autoinflitta che lui stesso aveva sopportato, anche se questo non gli aveva fatto ottenere l'illuminazione. La sicurezza che traspare da questa dichiarazione è importante, perché indica che era convinto di aver intrapreso queste pratiche ascetiche con determinazione e sincerità e le aveva portate avanti finché non era giunto a cogliere la vera essenza di tali pratiche. Quando, non riuscendo a ottenere l'obiettivo che perseguiva, in seguito abbandonò quelle pratiche, non lo fece per frustrazione o per mancanza di forza di volontà, ma solo perché aveva ormai penetrato la quintessenza dell'ascetismo e aveva capito che non era di alcuna utilità per lui. Questo è un punto importante, perché indica che l'illuminazione nel buddismo è raggiunta solo da quei cercatori appassionati che hanno affrontato le prove più severe. L'abbandono dell'ascetismo, Shakyamuni studiò dunque lo yoga e in particolare l'arte della meditazione, con due maestri, ma dopo aver padroneggiato le loro tecniche li lasciò. In seguito, dopo aver praticato le più rigide mortificazioni della carne, abbandonò anche queste pratiche e proseguì la sua strada alla ricerca di una saggezza più elevata. Questi due atti di rifiuto sono importanti, perché indicano con chiarezza che il buddismo non è un insegnamento che sostiene la pratica dell'ascetismo estremo, né una semplice filosofia meditativa e idealistica. È piuttosto una religione basata sul presupposto che le verità fondamentali possono essere spiegate a ogni singolo individuo attraverso il buonsenso. In altre parole è la religione della via di mezzo che rifiuta sia l'ascetismo sia l'edonismo, in quanto estremi parziali. Nel Sutra Dharma Shakra Pravartana, che tramanda il primo sermone pronunciato dopo l'illuminazione, Shakyamuni rivolge queste parole ai suoi primi cinque discepoli, ci sono due estremi in questo mondo, o biccu, che il viandante religioso dovrebbe evitare. Quali sono? La ricerca di desideri e l'indulgenza del piacere dei sensi, che è vile, bassa, depravata, ignobile e vana, e la ricerca della privazione e della tortura autoinflitta, che è dolorosa, ignobile e vana. Esiste una via di mezzo, o biccu, scoperta dal Tathagata, che evita questo due estremi. Porta in sé una visione e una percezione chiare, persegue la saggezza e conduce a tranquillità, risveglio, illuminazione e nirvana. Questa dichiarazione può essere considerata una sorta di compendio della propria vita da parte di Shakyamuni, sia come principe sia come asceta. Egli rifiuta come estremi indesiderabili sia la vita lussuosa che aveva condotto a palazzo, sia le severe pratiche ascetiche, e offre una sintesi ammirevole della sua filosofia e pratica che, nel rifiuto tanto dell'edonismo quanto dell'ascetismo, implica che corpo e mente sono inseparabili. Edonismo e ascetismo, anche se per molti aspetti sono poli opposti, condividono una caratteristica, sono entrambi prodotti del pensiero dualistico. Gli asceti, ad esempio, consideravano corpo e mente come due elementi tra loro in contrasto, da distinguere bene l'uno dall'altro. Il corpo è impuro e malvagio, lo spirito è puro e positivo. Secondo questo modo di pensare, solo annientando il corpo, o quantomeno assoggettandolo alla mortificazione estrema, lo spirito può essere libero. Gli insegnamenti dei jainisti sono tipici di questo punto di vista, e per questa ragione, quando i seguaci del jainismo digiunavano fino alla morte, si riteneva che avessero ottenuto il nirvana. Se il corpo è la fonte del male, non vi è altra scelta che annientarlo. Questo tipo di pensiero ha dato origine alle religioni che insegnano che questo mondo sarà sempre impuro finché le persone continueranno a essere gravate dal corpo, e che solo dopo la morte si può sperare di raggiungere la pura terra o il paradiso. In generale, sembra che dietro i dogmi delle religioni che sottolineano i concetti di una pura terra o di un paradiso ci sia sempre il dualismo, e il cristianesimo non fa eccezione. L'edonismo, va da sé, corrisponde all'estremo opposto. Rifiutando la purezza dello spirito e la vita dopo la morte in quanto mere finzioni dell'immaginazione, crede solo nell'esistenza del corpo e della materia e nell'importanza di soddisfare, per quanto possibile, tutti i desideri fisici. Agli occhi di un Buddha illuminato, naturalmente, i punti di vista dell'edonista e dell'asceta rappresentano entrambi degli estremi indesiderabili. Il tipo di abnegazione che si trova nell'ascetismo fu forse portato a conseguenze estreme e sistematiche nell'India antica, ma possiamo trovare approcci simili in quasi ogni epoca e zona geografica. Oggi molta attenzione si concentra sulla questione dell'ego umano. Poiché l'ego, o io, sembra essere responsabile di molti dei problemi che mettono in pericolo la nostra civiltà, come l'inquinamento ambientale e lo sviluppo delle armi nucleari, esiste una tendenza a considerarlo come intrinsecamente malvagio e a chiederne la negazione. Naturalmente è corretto essere consapevoli di questi problemi, ma tentare di negare radicalmente l'io pare un atto estremo. È mio parere che si debba piuttosto cercare di concepire l'entità definita come ego dal punto di vista della vita del genere umano nel suo complesso e tentare di determinare il modo appropriato in cui dovrebbe essere guidato e diretto. L'ideale di negazione di sé deriva spesso da una motivazione pura ed è un concetto che qualunque cercatore della verità deve a un certo punto affrontare. Anche il monaco buddista che conduce una vita raminga sta praticando il sacrificio, in un certo senso. Anche la rivoluzione umana, con il suo approccio alla vita buddista fondamentalmente laico e più peculiarmente moderno, è un processo in cui si sfida e si affronta la realtà aspra dell'io. Ma l'abnegazione non dovrebbe mai diventare un fine in sé stessa perché, se lo diventa, non ne deriva niente di costruttivo. All'epoca di Shakyamuni l'ascetismo tendeva a raggiungere posizioni estreme perché era basato sul pensiero dualistico e su un pregiudizio riguardante la vita e la natura umana. Nel corso della sue pratiche severe, Shakyamuni arrivò a rendersene conto con chiarezza e subito dopo abbandonò quelle stesse pratiche che aveva applicato per molto tempo. Nel farlo, compì il primo passo verso la fondazione di una nuova religione, totalmente diversa da tutte le tradizioni religiose che si erano sviluppate fino a quel momento. In questo senso, abbandonare l'ascetismo fu un importante momento di svolta nella sua vita, il cui significato è paragonabile alla precedente decisione di lasciare la propria famiglia e di abbracciare la vita religiosa. Dopo aver abbandonato quelle rigide pratiche, gli eventi si susseguirono rapidamente, e non passò molto tempo prima che Shakyamuni ottenesse l'illuminazione. Non è noto esattamente quanti giorni passarono, ma secondo la tradizione egli la ottenne poco dopo aver lasciato la foresta dove aveva praticato l'ascetismo. Questa foresta era un luogo di ritrovo per gli asceti bramani, quindi Shakyamuni non era stato solo mentre era impegnato nelle sue pratiche. Sicuramente aveva appreso i vari metodi da seguire dai suoi compagni, anche se non sappiamo se studiasse o praticasse con qualcuno in particolare. La leggenda afferma, tuttavia, che vi fossero cinque asceti con lui, uomini così impressionati dalla severità della sua disciplina da essere convinti che un giorno avrebbe raggiunto l'illuminazione. Fu a questi cinque asceti, o biccu, che Shakyamuni avrebbe rivolto il suo primo sermone, come vedremo. Ci sono diverse teorie su come questi uomini arrivarono ad accompagnare Shakyamuni negli anni in cui praticò le austerità. Secondo un'ipotesi erano bramani che erano stati mandati dal padre di Shakyamuni, preoccupato per il benessere di suo figlio. Un'altra afferma che non avevano legami con il regno di Scacchia, ma che decisero di unirsi ai Shakyamuni e di vivere con lui perché erano impressionati dal modo in cui praticava l'ascetismo. Una terza versione dichiara che furono mandati dal padre di Shakyamuni molto più tardi, quando gli arrivò la voce che il figlio rischiava di morire per la severità della sua disciplina, sperando quindi di evitare una simile sventura. Uno degli asceti porta un nome che indica che era nativo del regno degli Shakyamuni, e si sospetta quindi che questi bramani avessero un legame più che casuale con il regno d'origine di Shakyamuni. Anche se questi cinque bico erano stati in un primo tempo convinti che Shakyamuni avrebbe ottenuto l'illuminazione grazie alle sue pratiche severe, persero tutta la fede in lui quando le abbandonò. Dichiarando che Shakyamuni aveva adottato uno stile di vita e comodo e aveva abbandonato la lotta, lo lasciarono disgustati. Questo aneddoto serve a illustrare il grado di rispetto di cui godevano queste pratiche ascetiche tra le persone che si dedicavano alla vita religiosa, e il grande coraggio che Shakyamuni dimostrò nel lasciarle. possedendo una convinzione e una sicurezza incrollabili, egli ignorò le accuse e le calunnie di queste persone e proseguì con calma il suo cammino verso l'illuminazione. 4 L'illuminazione, Buddha Gaia, dopo aver messo in pratica tutte le più severe pratiche ascetiche conosciute nella sua epoca e non essere riuscito a ottenere l'illuminazione, Shakyamuni le abbandonò. Il suo passo successivo fu tentare di rimettersi in forze, che erano state notevolmente indebolite dalle privazioni che aveva sopportato. Le sculture buddiste che ritraggono Shakyamuni in questo momento della sua vita descrivono con dettagli terrificanti la condizione di magrezza spettrale a cui si era ridotto. Secondo la leggenda, quando abbandonò la sua vita di privazioni, Shakyamuni fece il bagno nel fiume nairaniana per lavare via la sporcizia che si era accumulata sul corpo, anche se era così indebolito dalle sofferenze da poter a stento risalire sulla sponda del fiume. Questa abitudine di fare il bagno in un fiume per ottenere purificazione fisica e spirituale è caratteristica dell'India e rimane molto diffusa anche oggi. L'abitudine del bagno purificatore nei fiumi sembra essere stata ampiamente praticata tra gli asceti al tempo di Shakyamuni e probabilmente era legata in origine all'antico credo indiano nelle divinità della natura che abitano i fiumi, gli alberi, la terra e altri elementi naturali. Quanto alla decisione di Shakyamuni di bagnarsi nel fiume, si può presumere che esemplifichi la sua determinazione a porre fine alle pratiche ascetiche e a ripartire con la propria ricerca della verità. Prima di procedere con quella ricerca, desiderò purificare sia il corpo sia la mente. Shakyamuni interruppe poi il suo lungo digiuno. Il cibo che assunse, ci viene tramandato, fu una farinata di riso bollito nel latte che gli fu offerto da Suyata, una giovane che viveva in un vicino villaggio. Ci sono varie leggende intorno a Suyata, secondo una di queste era la figlia del capo di Sena. Non è certo cosa la motivasse a offrire cibo a Shakyamuni, ma tutti i resoconti concordano sul fatto che, nutrito dal pasto che lei gli offrì, egli riacquistò le forze e la vitalità e, pieno di nuovo vigore, presto ottenne l'illuminazione. Varie fonti identificano il luogo in cui Shakyamuni raggiunse l'illuminazione con la città di Gaia nella regione di Uruvilva, non lontana dal villaggio di Sena. Per questo fatto fu poi chiamata Buddha Gaia, e oggi vi sorge un tempio. Analogamente, il grande albero sotto al quale Shakyamuni era seduto quando raggiunse l'illuminazione e in seguito venne chiamato albero della Bodhi, o dell'illuminazione. Era la varietà nota come Ashwatta, Pipal, o Fico Selvatico, che sembra crescesse abbondantemente in varie zone dell'India. Meditare sotto un albero era una consuetudine tra gli asceti indiani dell'epoca di Shakyamuni. Le scritture buddhisti e altri testi fanno spesso cenno da asceti seduti all'ombra silenziosa di un albero, immersi nella contemplazione e nella speranza di afferrare la natura del sé intrinseco o della realtà suprema. Il Pipali in particolare, con le sue radici estese e il fogliame lussureggiante, sin dai tempi antichi era considerato sacro e un luogo degno per meditare sull'immortalità. Non sorprende quindi che Shakyamuni avesse scelto di sedersi sotto questo tipo di albero quando abbracciò l'ultima fase della sua ricerca dell'illuminazione. Persino oggi a Buddagaya c'è un grande albero di Pipalo della Bodhi, anche se nessuno sostiene che sia realmente l'albero sotto cui si sedette Shakyamuni. Non sappiamo come fosse abbigliato il futuro Buddha quando prese posto sotto all'albero. Gli asceti di quel tempo usavano indossare durante le loro pratiche un indumento trasandato chiamato pansukulla, fatto di stracci di vecchi vestiti abbandonati nei cimiteri. Forse anche Shakyamuni indossava un indumento del genere, ma si tratta di una pura congettura. Viene riportato che prese posto su una stuoia di paglia stesa all'ombra dell'albero. Intrecciata di morbida erba munia, gli fu offerta da un agricoltore che viveva lì nei pressi. La tentazione di Mara, Shakyamuni si sedette sulla stuoia sotto il fico selvatico, determinato a conseguire l'illuminazione, e assunse la cosiddetta posizione del loto, che era il modo normale di sedersi durante la meditazione yoga. In questa posizione le gambe sono incrociate, ciascun piede appoggiato sulla coscia opposta con la pianta rivolta in alto. Le mani sono in grembo, la sinistra sulla destra, i palmi in alto e i pollici che si toccano. Era considerata la posizione più stabile e desiderabile per sedersi. Il trattato sulla grande perfezione della saggezza, Mahapranaparamita Pamesha, un commentario del grande filosofo buddista Nagarjuna, che visse circa 600 anni dopo la morte di Shakyamuni, elogia quella posizione perché fornisce la massima sensazione di fermezza e stabilità, assicura che le mani e i piedi siano tenuti sotto controllo e la mente non vaghi, colmando Mara di paura. Quest'ultima frase ci porta all'argomento del demone Mara, che le scritture ci descrivono in resoconti dettagliati come in procinto di tentare Shakyamuni mentre era seduto sotto l'albero della Bodhi. La tentazione di Mara è una questione di grande importanza per la comprensione del buddismo, poiché si diceva che Shakyamuni avesse ottenuto l'illuminazione solo dopo aver superato il potere del capo dei demoni e del suo esercito di discepoli. L'intero processo è noto nel buddismo giapponese con la frase Goma Jodo, oppure conquistare Mara e conseguire la buddità. Secondo le scritture Mara era allarmato alla prospettiva del trionfo di Shakyamuni e disse al futuro Buddha, emaciato e dal colorito grigio, sei in punto di morte. Le tue possibilità di sopravvivere sono una su mille. Dovresti vivere, perché solo da vivo è possibile per te compiere delle buone azioni. Comunque, i tuoi sforzi attuali sono vani e futili, perché la strada verso il vero Dharma è dura, dolorosa e inaccessibile. In questo modo Mara sulle prime tentò di intimidire Shakyamuni e, quando fallì, provò a indurlo in tentazione. Questo episodio aiuta a rivelare la vera natura di ciò che chiamiamo Mara, ora è demone. Di solito si tende a pensare al demone come a una sorta di essere misterioso e sovrannaturale o forse semplicemente come a una sorta di figura fiabesca, ma nel buddismo il concetto di Mara è piuttosto diverso. Mara è visto come una parte della vita che permea l'intero universo e, allo stesso tempo, esiste all'interno del cuore e della mente di ogni individuo. La vera natura di Mara, come rivela il suo epiteto consueto, rapinatore di vita, è impegnarsi in qualunque momento per privare gli esseri umani della loro forza vitale. In termini concreti, come si è visto nel passo delle scritture citati sopra, all'interno di una persona che sta avanzando verso l'obiettivo dell'illuminazione e la verità e sta impiegando tutte le proprie risorse per ottenere quell'obiettivo, Mara è ciò che scaturisce nel tentativo di bloccare un simile processo. La filosofia buddista parla dei tre ostacoli e dei quattro demoni. I quattro demoni sono 1, l'ostacolo delle cinque componenti, ostruzioni causate dalle funzioni fisiche e mentali, 2, l'ostacolo delle illusioni e dei desideri, ostruzioni provenienti dai tre veleni di avidità, collera e stupidità, 3, l'ostacolo della morte, o di una morte prematura, che impedisce la pratica buddista, e 4, l'ostacolo del redemone, che rappresenta l'oscurità fondamentale, cioè il fallimento nella comprensione della verità fondamentale della vita. Ma quando queste forze malvagie, Mara e i suoi eserciti, apparvero di fronte a Shachiamuni, lui le affrontò con coraggio e non cedette di un centimetro. Si dice che Shachiamuni si sia rivolto a Mara con queste parole, amico degli accidiosi, maligno, sei venuto qui per il tuo stesso bene. Io non ho minimamente bisogno di meriti. Mara dovrebbe predicare a coloro che hanno bisogno di meriti. Io ho fede, eroismo e saggezza. Perché chiedi di vivere a me, che sono così concentrato. Mentre la carne si logora, la mia mente si fa più tranquilla e salda. Mentre vivo così, dopo aver oltrepassato l'ultima sensazione, la mia mente non cerca i piaceri. Osserva la purezza del mio essere. I piaceri sono il tuo primo esercito, il secondo è chiamato avversione. Il tuo terzo esercito è fame e sete, il quarto brama. Il quinto è pigrizia e indolenza, il sesto viltà. Il tuo settimo esercito è il dubbio, l'ottavo ipocrisia e stupidità, guadagno, fama, onore e gloria falsamente ottenuti, la lode di se stessi e la condanna degli altri. Questo è il tuo esercito, maligno. Il vire non lo sconfigge, ma colui che vi riesce ottiene la felicità. Indossando erba munia, combatterò. Preferibile per me la morte in battaglia al dover vivere sconfitto. Alcuni asceti e bramani immersi in questa battaglia vengono conquistati, non conoscono la via lungo la quale si muovono i virtuosi, i buoni. Vedendo l'esercito da ogni lato, vado a incontrare Mara schierato con gli elefanti in battaglia. Non mi allontanerà dal mio traguardo. Così, secondo la tradizione, Shakyamuni affrontò Mara lottando con fierezza. Molti vedrebbero l'intero episodio dell'apparizione di Mara e dei suoi eserciti come un'aggiunta tarda alla leggenda, destinata semplicemente a conferire un certo aloni drammatico alla descrizione dell'ottenimento dell'illuminazione da parte di Shakyamuni. Ma secondo la mia opinione la funzione di questo racconto oltrepassa tale scopo, perché ci rivela la vera natura di Mara, o male, nel mondo. Possiamo interpretare i passi che trattano di Mara come descrizioni del reale stato mentale di Shakyamuni sul punto di raggiungere l'illuminazione e dell'agitazione che nutriva nell'intimo. Se una persona sta per raggiungere uno stato di grande illuminazione, non deve essere distratta e deviata da attraenti seduzioni o dai suoi stessi meschini desideri. Solo quando lotta contro queste forze nell'intimo e concentra tutti i suoi sforzi per raggiungere il suo obiettivo ha qualche speranza di successo. Quindi, anche se si dice che Mara sia apparso davanti a Shakyamuni, possiamo considerare l'episodio come descrittivo di qualcosa che in realtà avvenne nella mente di Shakyamuni. Secondo quanto ci viene raccontato, di fronte alla volontà di ferro e all'atteggiamento di sfida di Shakyamuni, Mara alla fine cedette e si ritrasse con il suo esercito di seguaci dichiarando, per sette anni ho seguito Shakyamuni passo dopo passo. Non sono riuscito a trovare alcuna apertura in quell'uomo illuminato, vigile. Come un corvo, che si è avventato su un sasso che sembrava una massa di grasso, scambiandolo per un boccone tenero, dolce e delizioso, e non trovandovi dolcezza se ne allontanato, come un corvo che attacca una sasso, lascio Gautama, disgustato e frustrato. Dopo aver seguito Shakyamuni per sette anni, alla vigilia dell'illuminazione di quest'ultimo Mara rivelò alla fine il suo vero aspetto. Si possono concepire i demoni come funzioni che permeano l'intero universo, ma essenzialmente risiedono nella mente delle persone. E solo quando li percepiamo nel loro vero aspetto, come rivelati nella nostra stessa mente, possiamo colpirli e distruggerli. La comparsa di Mara davanti a Shakyamuni alla vigilia della buddhità può essere interpretata come la percezione di questa verità da parte di Shakyamuni, e gli percepì nel loro vero aspetto i demoni che esistevano nella sua stessa mente. Ci sono scritture che affermano che Mara apparve ai Shakyamuni anche dopo l'ottenimento dell'illuminazione. L'esempio più famoso è quando Shakyamuni, immerso nella gioia della nuova verità rivelata dalla sua illuminazione, stava riflettendo se predicarla al mondo. A quel punto Mara apparve, assalendolo con i dubbi. Alla fine però il dio Brahma pregò Shakyamuni di predicare il Dharma per il bene dell'umanità, e Shakyamuni infine consentì. In questo caso, la comparsa di Mara con i suoi dubbi e quella di Brahma con i suoi appelli possono essere considerate la metafora del processo di esitazione e decisione finale che avvenne nella mente di Shakyamuni. Cos'è l'illuminazione? Dopo aver sconfitto Mara, Shakyamuni ottenne l'illuminazione. La tradizione dice che ebbe luogo alla fine della notte di luna piena di Vaishaka. La luna piena di Vaishaka secondo il calendario solare cade tra aprile e maggio, e in India l'8 aprile viene spesso considerata la data in cui questo evento ebbe luogo. A causa delle differenze di calendario e culturali, in Cina e Giappone si è giunti a ritenere che l'illuminazione di Shakyamuni sia avvenuta l'8 dicembre. Qualunque sia il giorno esatto, l'illuminazione di Shakyamuni avvenne all'alba, quando apparve la stella del mattino. Sotto l'albero della Bodhi egli rimase seduto in profonda meditazione mentre la notte faceva il suo corso. Con l'avvicinarsi dell'alba, l'occhio della sua saggezza acquistò una sublime chiarezza e quando la stella del mattino iniziò a brillare, egli sentì la propria vita spalancarsi e istantaneamente distinse la realtà ultima delle cose. In quel momento egli divenne un Buddha ed ebbe origine quella fede buddista destinata ad avere un impatto immenso sulla storia dell'umanità. Quale stato o condizione di illuminazione raggiunse Shakyamuni? È difficile rispondere a questa domanda. Per le persone dei nostri tempi, l'intero concetto di illuminazione può sembrare strano e alieno, ma io non credo che sia una condizione molto lontana dall'esperienza della vita quotidiana. Allo stesso tempo, è quasi impossibile da spiegare. Anche se fosse possibile esprimerla a parole, ci sono probabilmente poche persone in grado di comprenderla all'istante. Chiunque sostenesse di essere in grado di farlo dovrebbe essere un Buddha o una persona di enorme presunzione. Eppure l'illuminazione non è qualcosa di estraneo o alieno rispetto alla normale esistenza umana. La filosofia buddista descrive la vita che permea l'universo nei termini dei dieci mondi, ognuno dei quali contiene gli altri nove stati, e dei tremila regni in un istante. Ma dice anche che si può trovare lo stesso tipo di vita nella mente di ogni individuo. Nel caso di Shakyamuni, mentre il buio della notte iniziava a cedere il passo alle prime luci dell'alba, la condizione di buddità esistente nell'universo e la condizione di buddità innata nella vita stessa di Shakyamuni si fusero in comunione armoniosa e sbocciarono. L'illuminazione di Shakyamuni fu quindi una sorta di mutua risposta che ebbe luogo tra queste due condizioni di buddità. Questo tipo di mutua risposta non è limitato al caso di Shakyamuni. Sembra che Gesù abbia avuto un'esperienza simile. L'illuminazione di Cristo gli conferì il suo senso di missione e, in termini buddhisti, rappresenta una fusione della condizione universale di Bodhisattva con la condizione di Bodhisattva inerente alla nostra mente, perché il Bodhisattva è il Buddha potenziale che giura di salvare tutta l'umanità prima di penetrare in prima persona la buddità. Potremmo proseguire dicendo che molti grandi pensatori e persone di genio hanno probabilmente sperimentato illuminazione di tipo diverso. Cartesio ad esempio il 10 novembre 1619, quando era immerso nei suoi pensieri in un villaggio sul Reno, ebbe un improvviso lampo di ispirazione, secondo i suoi biografi, che gli rivelò una straordinaria scoperta e una scienza meravigliosa. Kierkegaard, filosofo esistenzialista del XIX secolo, mentre camminava perso nei propri pensieri, si dice abbia avuto un improvviso lampo di comprensione che scosse tutto il suo essere. In Occidente simili eventi sono noti come rivelazioni e tradizionalmente si crede siano trasmessi da un Dio che è assoluto e onnisciente. In termini di filosofia buddista uomini come Cartesio e Kierkegaard sarebbero considerati appartenenti alla categoria dei Pratyeka Buddha o risvegliati all'origine dipendente, il livello di esistenza subito inferiore a quella di Buddha e Bodhisattva. Il Pratyeka Buddha è un essere che, nel corso delle proprie meditazioni e senza far affidamento sull'insegnamento di altri, ottiene un certo grado di illuminazione. In senso lato qualunque persona di genio che, attraverso le proprie osservazioni dei fenomeni naturali, afferra qualche principio o fa qualche scoperta originale e si potrebbe dire che appartenga a questa categoria del risvegliato all'origine dipendente. Newton, che scoprì la legge di gravità dopo aver osservato una mela cadere da un albero, o Beethoven, che scrisse la sinfonia pastorale dopo aver fatto una passeggiata in campagna, sono esempi di persone che appartengono a questa categoria. Tutte queste persone di genio si trovavano in una condizione di samadhi, o profonda concentrazione, quando raggiunsero la loro illuminazione. Ne parleremo in maniera più esaustiva in seguito, qui voglio semplicemente sottolineare che l'illuminazione non appartiene a un livello mistico estraneo all'esperienza e alla capacità della persona. Non di meno, anche se i vari uomini di cui abbiamo parlato hanno tutti ottenuto un certo grado di illuminazione, c'è una differenza qualitativa tra l'illuminazione conquistata da Shakyamuni e quella ottenuta da filosofi e persone di genio e intelletto. I pensatori ottengono un certo grado di illuminazione nei loro rispettivi settori di attività, ma le verità che essi scoprono sono limitate e frammentarie. Non rappresentano il tipo di illuminazione che riguarda la realtà suprema e nasce in risposta alla forza vitale e fondamentale dell'universo. È questa la differenza essenziale. Per quanto grandi possano essere le verità scoperte da altri pensatori di genio, non sono universali, profonde o fondamentali al punto da trasformare il destino e la sofferenza dell'individuo che le coglie. La buddità, ottenuta attraverso l'illuminazione, è l'unica condizione vitale che può cambiare il destino di una persona e inaugurare un futuro infinito. Ecco perché Shakyamuni, dopo aver ottenuto la comprensione della verità, vi si dedicò completamente per il resto della vita. L'illuminazione che ottennerà presente il massimo livello possibile. L'essenza dell'illuminazione di Shakyamuni, dopo molti anni di pratiche severe e dopo essersi battuto e aver sconfitto Mara e i suoi eserciti, Shakyamuni ottenne dunque l'illuminazione. Aveva trenta o trentacinque anni nel momento del suo risveglio, a seconda della versione che si decide di accettare sull'età in cui egli abbracciò la vita religiosa. Le scritture fanno riferimento alla sua illuminazione con il termine sanscrito Anuttara Samyaksambodi, che significa suprema e perfetta illuminazione, il tipo di illuminazione grazie alla quale si è in grado di percepire la vera natura di tutti i molteplici fenomeni dell'esistenza. Cos'era esattamente questa saggezza senza uguali? Qual era la natura essenziale del mondo che Shakyamuni percepì quella notte sotto l'albero della Bodhi a Buddha Gaia? Le scritture descrivono in vari modi il contenuto dell'illuminazione di Shakyamuni, ma anche studiandole tutte non riusciamo a far svanire una certa confusione riguardo alla sua esatta natura. Secondo i Sutra Agama questa illuminazione si rivelò in tre fasi, corrispondenti alle tre veglie della notte, e Shakyamuni raggiunse lo stadio di suprema perfetta illuminazione durante la terza veglia. Prima di ciò sembra che Shakyamuni abbia attraversato i quattro stadi di diana, o intensa meditazione. Il primo stadio fu raggiunto staccandosi dagli oggetti dei sensi e dalle passioni. Il secondo fu contrassegnato da una concentrazione totale della mente e da una sensazione di gioia. Nel terzo stadio questa sensazione di gioia fu trascesa e Shakyamuni mantenne solo una sensazione di serenità e pace. Alla fine, nel quarto stadio, egli raggiunse una condizione di completa purezza che trascendeva ogni dolore o delizia, sofferenza o gioia. Questi quattro stadi di meditazione erano ampiamente praticati tra gli asceti al tempo di Shakyamuni e coloro che avevano la padronanza del terzo e quarto stadio erano considerati santi. Per i bramani e altri asceti questi quattro stadi erano considerati un fine, e quando qualcuno aveva la padronanza di tutti e quattro, si pensava che avesse raggiunto l'obiettivo ultimo. Nei termini del concetto buddista di triplice mondo, il mondo del desiderio, il mondo della forma e il mondo dell'assenza di forma, questi quattro stadi di meditazione permettevano solo di liberarsi dalle illusioni del mondo del desiderio e di entrare nel mondo della forma, quindi non rappresentavano una vera illuminazione. Per questa ragione Shakyamuni, dopo averli approfonditi, proseguì con determinazione nella sua ricerca della saggezza suprema. Dopo aver conquistato piena padronanza di tutti e quattro gli stadi della meditazione, la sua mente divenne chiara, pura, senza ombre, duttile e vigile. Egli entrò allora nella prima veglia della notte e nel primo stadio della sua vera illuminazione. Durante questa veglia, ci viene detto, egli concentrò la mente nel ricordare le sue esistenze passate. Egli ricordò la sua prima, seconda e terza esistenza, e via di seguito attraverso gli eoni infiniti del tempo e le definite formazioni e distruzioni dell'universo, ricordò il nome che aveva avuto in ogni esistenza, cosa aveva mangiato, quali gioie e dolori aveva conosciuto, che tipo di morte aveva subito e come era rinato. I passi nelle scritture che descrivono questo processo ci mostrano, in effetti, che Shakyamuni ebbe una chiara visione della sua vita in tutte le sue manifestazioni nel corso del tempo. Secondo la dottrina della trasmigrazione, adottata fin dai tempi antichi nel bramanesimo, la vita di un essere umano non è affatto limitata al presente. Shakyamuni, meditando sotto l'albero della Bodhi, si ricordò con chiarezza di tutte le precedenti nascite e percepì che la sua esistenza presente era parte della catena ininterrotta di nascita, morte e rinascita che si erano succedute da eoni incalcolabili nel passato. Non era qualcosa che gli arrivò come una sorta di intuizione, né qualcosa che percepì come concetto o idea. Era una chiara e concreta ricapitolazione, non dissimile, anche se su un piano molto diverso, dagli eventi profondamente sepolti nei recessi della nostra mente che improvvisamente ricordiamo quando ci troviamo in una condizione di estrema tensione o concentrazione. I Sutra Agama concludono la loro descrizione dell'illuminazione di Shakyamuni con le parole, l'ignoranza per rilasciando il passo alla realizzazione. Quando Shakyamuni bandì l'ignoranza e acquisì conoscenza e saggezza, riuscì a vedere con chiarezza perfetta le realtà dell'esistenza e la natura essenziale di questo mondo. Gli insegnamenti di Shakyamuni sono stati trascritti in un volume incredibile di testi e nelle epoche successive furono definiti gli 84.000 insegnamenti, ma in ultima analisi ciò che Shakyamuni dice è che finché si è immersi in una condizione di ignoranza, si continuerà all'infinito a rinascere in uno dei sei mondi, o stati dell'esistenza, attraverso cui passano continuamente gli esseri non illuminati. Se si riesce ad acquisire la vera visione e a vedere il mondo con la saggezza di un Buddha, tuttavia, allora si sperimenterà sicuramente la stessa beatitudine dell'illuminazione che percepì il Buddha e si raggiungerà la felicità assoluta. Io stesso l'ho sperimentato dice Shakyamuni, quindi desidero che tutti voi seguiate lo stesso cammino. Dopo aver sperimentato il primo stadio dell'illuminazione, Shakyamuni passò al secondo, quello della seconda veglia della notte, durante il quale acquisì saggezza riguardo al futuro, ho acquisito il supremo occhio celeste e osservato il mondo intero come se fosse riflesso in uno specchio immacolato. Ho visto la morte e la rinascita di tutte le creature in base alla retribuzione delle loro azioni, elevate o basse. Gli esseri viventi che hanno agito in modo colpevole passano alla sfera della miseria, quelli che hanno agito in modo benevolo guadagnano un posto nel triplice cielo. Mi è diventato chiaro che non si può trovare alcuna sicurezza nel mare del Samsara, e che la minaccia della morte è sempre presente. Shakyamuni apprese la legge del karma che governa le esistenze di tutti gli esseri senzienti nel passato, nel presente e nel futuro. Quando si percepisce con occhi davvero aperti, si comprende che tutte le persone trasmigrano attraverso i sei sentieri dell'esistenza dell'inferno, degli spiriti affamati, degli animali, degli asura, degli esseri umani e degli esseri celesti. Questo processo non è limitato al mondo presente, ma si ripete eternamente anche nel passato e nel futuro. L'umanità, però, racchiusa nel suo piccolo guscio, non affronta la realtà della trasmigrazione o la severità del fato, forse perché è semplicemente incapace di percepirla, non essendo dotata dell'intuizione di un Buddha. Ciò che fece Shakyamuni fu esaminare con saggezza e chiarezza la morte e la rinascita degli esseri viventi in ogni luogo? Credo che questo sia il modo in cui egli superò la seconda veglia della notte. La legge di causalità, dopo aver visto come gli esseri viventi sono destinati a rinascere costantemente nei mondi del passato, del presente e del futuro, Shakyamuni entrò nello stadio finale della sua illuminazione nella terza veglia della notte. Egli apprese la verità suprema sulla vita e sul mondo e completò il processo per diventare un Buddha. Ma cos'era esattamente questa verità finale? Le scritture in genere concordano sulla prima e sulla seconda veglia, ma differiscono notevolmente riguardo a ciò che Shakyamuni comprese durante la terza veglia. Una scrittura afferma che si trattò della do de cup la catena della causalità, mentre altre fonti parlano delle quattro nobili verità o dichiarano semplicemente che ottenne sublime serenità e pace al di là di invecchiamento, malattia, morte, ansia e contaminazione. C'è quindi discordia persino tra gli studiosi riguardo alla natura di quest'ultimo stadio di illuminazione, anche se l'opinione generale sembra indicare che riguardasse la legge di causalità. Il concetto di causalità, conosciuto in sanscrito come pratitya sammuttpada, o origini dipendente, spiega il processo fondamentale con il quale tutti i fenomeni nell'universo, inclusi gli esseri senzienti, nascono a seguito di cause. Tutte le cose nell'universo sono soggette a questa legge di causa ed effetto, e di conseguenza niente può esistere in modo indipendente o nascere spontaneamente. Per questa ragione la teoria della causalità è spesso spiegata come origine dipendente o con sorgere condizionato. Questa rete di causalità che lega tutte le cose è tanto temporale quanto spaziale, così che non solo tutte le cose che esistono al momento presente dipendono una dall'altra, ma anche tutte le cose che esistono nel passato e nel futuro. I resoconti dell'illuminazione di Shakyamuni fanno riferimento alla do de cup la catena della causalità, e i discepoli del buddismo Theravada sembrano accettare questa formula come una descrizione dell'intuizione di Shakyamuni legata alla legge di causalità. Questa può essere però un'eccessiva semplificazione. Shakyamuni aveva scelto la vita religiosa nello sforzo di trovare una soluzione ai problemi posti dalla nascita, dall'invecchiamento, dalla malattia e dalla morte. Il concetto di origine dipendente che scoprì al momento della sua illuminazione rappresenta una legge universale capace di risolvere questi problemi, ma è una legge estremamente profonda nel contenuto ed elaborata nella struttura, e quindi molto difficile da spiegare con un linguaggio semplice. Per fornire qualcosa che fosse di più immediata comprensione per le persone comuni, egli escogitò la formula nota come la do decupla catena della causalità. La formula inizia con la domanda, perché l'uomo è afflitto da vecchiaia e morte? I dodici collegamenti della catena, presentati qui in ordine inverso, procedono in questo modo, dodici, la nascita causa l'invecchiamento e la morte, perché senza nascita non ci sarebbe morte. Allora segue la domanda, come ha origine la nascita? 11, l'esistenza causa la nascita, 10, l'attaccamento dà origine all'esistenza, 9, il desiderio dà origine all'attaccamento, 8, la sensazione dà origine al desiderio, 7, il contatto dà origine alla sensazione, 6, i sei organi di senso danno origine al contatto, 5, il nome e la forma danno origine ai sei organi di senso, 4, la coscienza dà origine al nome e alla forma, 3, l'azione karmica dà origine alla coscienza, 2, l'ignoranza dà origine all'azione karmica. 1, l'ignoranza è quindi il collegamento finale nella catena, la sorgente da cui derivano tutto il dolore e la sofferenza. Se si riesce a cancellare l'ignoranza, i legami nella catena della causalità saranno spezzati a uno a uno finché la vecchiaia e la morte cesseranno di esistere. Questo è ciò che afferma Shakyamuni. Tendo a considerare questa formula poco più di un espediente per predicare la verità secondo cui l'ignoranza impedisce all'uomo di raggiungere la felicità. In effetti non credo che questa dottrina, almeno per come è espressa in questa formula, rappresenti l'essenza della verità ultima che Shakyamuni comprese ai piedi dell'albero della Bodhi. Quella realtà ultima colta da Shakyamuni può essere meglio descritta, a mio parere, come legge della vita, o il mondo per come esiste, in uno stato di costante cambiamento. Quando osserviamo con imparzialità il grande universo intorno a noi, troviamo che ciò che ha una prima occhiata sembra una condizione di calma sconfinata, in realtà pulsa costantemente di creazione e cambiamento. Lo stesso è vero per gli esseri viventi, invecchiano, muoiono, rinascono, e muoiono ancora. Niente, nel mondo della natura o in quello della società umana, conosce un solo momento di stagnazione o riposo. Tutte le cose nell'universo sono in continuo mutamento, nascono e muoiono, compaiono e scompaiono, catturate nel ciclo infinito dei cambiamenti che è condizionato dalla legge di causalità che opera sia nel tempo sia nello spazio. Tale è la natura della realtà ultima. La mia convinzione è che l'illuminazione di Shakyamuni sia stata un grido di stupore per quell'entità misteriosa chiamata vita, le cui molteplici manifestazioni sono unite l'una all'altra dai legami di causa ed effetto. Ma le persone comuni sono inconsapevoli di questa verità e si illudono di esistere in modo indipendente dagli altri esseri. Un'illusione del genere le allontana dalla legge della vita, che è la verità suprema, e le porta a diventare prigionieri del desiderio. Dai desideri derivano sofferenza, tragedia e sfortuna. Portati alla deriva dall'ignoranza, che è una forma di male, non vi è via d'uscita per loro se non affrontare questo male che si annida nella loro mente. Questi, credo, furono i pensieri passati della mente di Shakyamuni, per quanto sia possibile ipotizzarli per un uomo comune con me. Dopo aver ottenuto l'illuminazione, lui stesso fu libero dall'ignoranza che accecava gli altri esseri umani e poteva vivere in accordo con la vera legge della vita. Che gioia deve aver provato. Ciò che Shakyamuni ottenne sotto l'albero della body fu una comprensione intuitiva dell'essenza della vita. In ultima analisi il contenuto della sua illuminazione è la legge stessa della vita. Ma se Shakyamuni avesse provato a insegnare questa legge della vita con la sua struttura estremamente intricata e la sua ricchezza di sottigliezze filosofiche, le persone comuni non lo avrebbero compreso. Egli era consapevole del bisogno di rendere la legge accessibile a tutti i comuni mortali che erano ancora vittime di dolore e sofferenza. Per prima cosa doveva insegnare loro il modo in cui curare la propria sofferenza. Fu così che Shakyamuni si presentò all'umanità in qualità di sommo medico e predicò varie leggi o dottrine secondo i sintomi manifestati dai suoi pazienti. Questi insegnamenti, insieme alle spiegazioni e ai commenti aggiunti dai suoi discepoli, con il tempo andarno a formare i cosiddetti 84.000 insegnamenti. V. Shakyamuni il maestro, la decisione di propagare la legge, dopo aver ottenuto l'illuminazione, Shakyamuni dedicò il resto della sua vita alla propagazione del Dharma, la legge, creando in tal modo una nuova religione. Ma come abbiamo visto, esitò prima di decidersi a farlo. Secondo quanto è stato tramandato, sebbene Shakyamuni si fosse impegnato duramente negli anni di studio e di pratica ascetica per riuscire a conseguire l'illuminazione, il suo scopo iniziale non era la salvezza del genere umano, e sulle prime rimase alquanto incerto se predicare quella legge ad altri. Ma questa ipotesi sembra contraddire la teoria generalmente accettata secondo cui egli rinunciò alle sue prerogative regali per dedicarsi alla salvezza di tutta l'umanità. Descrivendo l'episodio dell'illuminazione, i Sutra Agama riportano che Shakyamuni rimase seduto per qualche tempo limitandosi ad assaporare la beatitudine della comprensione. Poi fu colto da improvviso turbamento, non sapendo se doveva o no rivelare ad altri la nuova saggezza appena acquisita. Fu in quel momento che Mara e Brahma fecero la loro comparsa. La tendenza interiore che gli suggeriva che non fosse necessario predicare la legge assunse le sembianze di Mara, ma Shakyamuni fu più forte e allontanò quell'apparizione. In lui sgorgò la determinazione altruistica di condividere la sua illuminazione con tutte le persone, rappresentata nelle scritture come la preghiera di Brahma. La mia sensazione personale è che Shakyamuni abbandonò la sua casa e la famiglia non tanto con l'obiettivo consapevole di salvare l'umanità, ma con la speranza di trovare una solida e fondamentale verità interiore. Questo, a dire il vero, capita a molte persone, che intraprendono una pura e disinteressata ricerca della verità e che poi, nel corso di tale ricerca, scoprono qualche importante legge o principio vitale. Di conseguenza prendono consapevolezza della propria missione e passano il resto della loro vita a proclamare questo nuovo principio con tutta la loro energia, lasciandosi alle spalle la fama di grande leader o pensatori religiosi. È il corso che anche Shakyamuni finì per seguire. Sarebbe tuttavia esagerato affermato che all'inizio egli non pensasse minimamente alla salvezza dei suoi simili. Dopo tutto, l'atto stesso di abbandonare la famiglia e di abbracciare la vita religiosa dimostra la sua angoscia per le sofferenze dell'umanità, e i suoi appassionati tentativi di trovare una soluzione a questi problemi già indicano un desiderio di salvezza universale. Alcuni studiosi, osservando questa fase della vita di Shakyamuni e tentando di analizzarla nell'ottica dei dieci mondi, o dieci condizioni dell'esistenza umana, affermano che quando Shakyamuni era ancora immerso nell'iniziale beatitudine della sua illuminazione, si trovava nel regno di Pratyeka Buddha, colui che ottiene l'illuminazione grazie ai propri sforzi, e che nel momento in cui decise di propagare la legge, entrò nel regno dei Bodhisattva. Shakyamuni è tuttavia più frequentemente classificato come Bodhisattva nel periodo in cui lasciò la sua famiglia e si impegnò nella pratica di un severo ascetismo, e come Buddha dopo che conseguì la saggezza assoluta. La prima visione probabilmente rappresenta il riflesso del pensiero buddista Mahayana, che pone grande enfasi sulla figura del Bodhisattva e sull'importanza della pratica religiosa. Non basta conquistare la comprensione della legge, la cosa importante è metterla in pratica cercando di salvare gli altri. Ecco perché, da questo punto di vista, quando Shakyamuni decise di propagare la legge, passò dalla condizione di Pratyeka Buddha a quella di Bodhisattva. Lo studioso buddista Fumio Masutani ha affermato che l'esitazione di Shakyamuni riguardo alla predicazione della legge aveva radice nella solitudine del vero Illuminato. La legge era nota solo a lui, nessun altro ne era consapevole. E se avesse dovuto tentare di esporla, le persone comuni avrebbero avuto difficoltà a comprendere e accettare le sue parole. Shakyamuni, percependo lo straordinario divario tra il radioso mondo di saggezza nel suo intimo e la condizione illusoria degli uomini, fu quindi assalito da una sensazione di solitudine e isolamento. Ecco perché esitò. La persona illuminata conosce sofferenze note solo a lui, o a lei, nella solitaria consapevolezza della saggezza ottenuta. Tutti i grandi pionieri e i maestri della storia hanno sperimentato questo problema. La persona dallo spirito di Leone è sempre sola, perché è l'unica a comprendere la verità e la sua missione è quella di esporla. Solo quando quella persona si alza nella determinazione di raccontare al mondo la verità che alberga nell'intimo, questa sensazione di solitudine comincia a dissolversi. Mettere in moto la ruota della legge, sembra che trascorresse un mese o più tra il momento in cui Shakyamuni ottenne l'illuminazione il giorno in cui pronunciò il primo sermone a Sarnat, nei pressi della città di Varanasi. Varanasi è a circa 200 chilometri da Buddha Gaia, dove Shakyamuni conseguì appunto l'illuminazione. Oggi si può compiere quel tragitto in circa quattro ore di treno. Shakyamuni deve aver impiegato più di dieci giorni a piedi. Ci viene raccontato che Shakyamuni scelse Varanasi e non il Magada come luogo del suo primo sermone, perché desiderava predicare ai cinque Bikku, o Asceti, con i quali aveva sperimentato in precedenza le pratiche ascetiche e che ora vivevano a Varanasi. Ricordiamoci che questi cinque uomini erano rimasti profondamente impressionati dalla severità delle pratiche ascetiche di Shakyamuni, e avevano predetto che avrebbe sicuramente ottenuto l'illuminazione. Quando però Shakyamuni aveva abbandonato quelle pratiche iniziando di nuovo a nutrirsi, lo avevano rimproverato per i suoi costumi molli e avevano lasciato il villaggio di Sena. Non ci viene riportato il motivo per cui i cinque asceti si recarono a Varanasi dopo aver lasciato Sena. Si presume che, come il Magada era un rinomato luogo di riunione per pensatori dalle idee nuove e originali, così Varanasi doveva essere ritenuta un luogo dotato di un'atmosfera religiosa e filosofica particolarmente potente. Il sito di Sarnat, alle porti di Varanasi, dove Shakyamuni pronunciò il suo primo sermone è noto come Parco dei Cervi, per via dei Cervi che vi erravano liberi. Nel pensiero orientale si riteneva comunemente che i Cervi si radunassero intorno alle persone dall'indole devota, e possiamo quindi immaginare che il Parco dei Cervi fosse particolarmente prediletto dalle persone che nutrivano una forte propensione religiosa. In ogni caso, Shakyamuni venne a sapere che i suoi cinque amici asceti si erano sistemati là e decise di raggiungerli e di farne i destinatari del suo primo discorso. Conoscendoli bene, grazie agli anni di vita ascetica che avevano trascorso insieme, sicuramente desiderava prima di tutto condividere con loro l'illuminazione appena ottenuta. È stato anche ipotizzato che Shakyamuni sentisse di poter avere maggiore successo nel diffondere i suoi insegnamenti se prima convertiva qualcuno degli uomini già dediti alla vita religiosa, invece di portare il suo messaggio direttamente alla gente comune. Ma una spiegazione più semplice potrebbe essere che si rese conto che, per quanto potessero essere magnifici i concetti che aveva in mente, se non riusciva a spiegarli in maniera convincente alle persone con cui era già in rapporti familiari, non sarebbe mai riuscito a insegnare la verità alla gente in generale. A mio parere, il fatto che avesse scelto i suoi antichi compagni come primi ascoltatori del suo sermone è un'indicazione della sua umanità generosa. Quando però Shakyamuni comparve di fronte a loro per pronunciare il suo primo discorso, fu accolto con una certa freddezza. Ecco il nostro amico Gautama, l'amante dei piaceri, che lasciò le pratiche austere per abbracciare le comodità devono essersi detti. Non dobbiamo alzarci per salutarlo. Le scritture riportano che quando però egli si avvicinò verso di loro, quella loro decisione vacillò, e di fatto lo salutarono mostrando un certo rispetto. Essendo tuttavia persuasi che non avesse ottenuto una vera illuminazione, si rivolsero a lui con un linguaggio colloquiale. Risulta anzi che Shakyamuni li abbia rimproverati per essersi rivolti in quel modo a un Tatagata, o colui che così è venuto, titolo che identifica colui che ha raggiunto una condizione di perfetta illuminazione. Poi annunciò loro che, dato che aveva ottenuto la perfetta saggezza, dovevano prestare ascolto ai suoi insegnamenti. I suoi amici però non erano ancora persuasi e chiesero se fosse mai possibile che qualcuno che aveva abbandonato le pratiche ascetiche per vivere nelle comodità riuscisse a raggiungere una saggezza completa. Shakyamuni rafforzò la propria dichiarazione e annunciò che avrebbe predicato loro la legge, ma questi continuarono a porre obiezioni. Alla fine, per terminare la discussione, egli chiese loro se lo avessero mai visto così raggiante e risplendente o se lo avessero mai sentito parlare in quel modo prima. Alla fine i cinque gli diedero ragione e accettarono di ascoltare i suoi insegnamenti. È indubbio che nell'aspetto e nel comportamento di Shakyamuni ci fosse un'area di sicurezza e autorità che alla fine risvegliò i cinque ascetti e li convince a dar retta alle sue parole. Tuttavia è significativo notare che, anche se ascoltarono i suoi insegnamenti, non gli concessero in alcun modo un'immediata approvazione. Shakyamuni e i suoi cinque amici intrapresero una vita in comune a Sarnat, Shakyamuni predicava la legge a due o tre ascetti mentre gli altri andavano a chiedere l'elemosina per sostenere il gruppo. Al momento erano sufficientemente interessati da accogliere le sue parole, ma fu necessario del tempo prima che riuscissero a comprendere pienamente i suoi insegnamenti. Dopo un considerevole periodo trascorso vivendo in comune, Caundinia acquisì quella capacità che gli permise di comprendere gli insegnamenti di Shakyamuni, e quindi divenne il primo vero discepolo del Buddha. Presto, uno dopo l'altro, anche gli altri quattro ottennero chiarezza e saggezza, nacque così il Sangha, o ordine buddista. Qual era esattamente il contenuto del Dharma, o legge, che Shakyamuni predicò ai suoi primi discepoli? In generale si afferma che egli iniziò spiegando la via di mezzo ed esortando a rifiutare tanto un edonismo quanto un ascetismo estremo. Dopo aver chiarito la propria posizione su questo aspetto, egli proseguì insegnando le quattro nobili verità e l'ottuplice sentiero. Ci sono però grandi divergenze tra gli studiosi riguardo l'affidabilità di questo resoconto, alcuni sostengono che insegnò solo l'ottuplice sentiero, altri che gli insegnamenti iniziali del Buddha coprivano solo le quattro nobili verità, mentre la via di mezzo e l'ottuplice sentiero furono aggiunti più tardi. Non possiamo che fare congetture su quale sia l'ipotesi corretta. È ragionevole ipotizzare che dopo aver ottenuto l'illuminazione sotto l'albero della Bodhi, Shakyamuni abbia lavorato a lungo e con coscienza sulla forma precisa con cui presentare per la prima volta i propri insegnamenti al mondo. Per spiegare il regno della suprema e misteriosa saggezza in modo intellegibile a tutti, doveva portare le sue spiegazioni a un livello popolare e tradurre i principi dell'illuminazione in termini facili, comprensibili e accettabili da chiunque. Se accettiamo l'ipotesi secondo cui Shakyamuni insegnò per prima le quattro nobili verità, dobbiamo innanzitutto notare che queste rappresentano una dottrina molto realistica e pratica. Essa inizia definendo il problema e dichiarando che, 1, l'esistenza è dolore e che, 2, il dolore è causato da un desiderio egoistico. Poi continua offrendo la soluzione al problema della sofferenza, dichiarando che, 3, il desiderio egoistico può essere stirpato e che, 4, si può farlo seguendo l'ottuplice sentiero. Ugualmente, l'ottuplice sentiero è una lista estremamente chiara e concreta di principi da seguire per ottenere l'emancipazione. In pratica, si tratta dell'osservanza di, 1, corretta visione, 2, corretto pensiero, 3, corretto discorso, 4, corretta azione, 5, corretto stile di vita, 6, corretto sforzo, 7, corretta consapevolezza e, 8, corretta meditazione. Grazie alla natura semplice e pratica di queste dottrine, i cinque asceti furono in grado di comprenderle con relativa facilità. Per la stessa ragione, i discepoli del Buddismo Mahayana considerano queste prime dottrine, insieme ai Sutra Agama che le riportano, alla stregua di forme della legge che sono state adattate al livello di comprensione della gente comune e destinate a guidare le persone verso una comprensione dei principi più elevati della stessa legge. Ciò significherebbe che questo primo sermone non è tanto un'approssimazione dell'essenza dell'illuminazione di Shakyamuni, quanto un semplice programma di pratica religiosa mirato a condurre le persone a quell'illuminazione. La scuola Tientai di Buddismo cinese, che in seguito suddivise gli insegnamenti del Buddha in cinque periodi, ha un'interessante spiegazione riguardo la distanza filosofica che sembra sussistere tra l'essenza dell'illuminazione di Shakyamuni e le dottrine pratiche che egli espose nel suo primo sermone a Sarnat. Secondo la classificazione di Tientai, il primo sermone fu pronunciato non a Sarnat ma a Buddagaya, dove Shakyamuni aveva conseguito l'illuminazione. Questo primo sermone era costituito dal Sutra della Ghirlanda di Fiori, un testo molto elevato che riflette da vicino la vera essenza dell'illuminazione del Buddha. Gli uditori di Shakyamuni, però, non riuscirono a comprendere cosa stesse dicendo, per questo, quando si recò a Sarnat, egli scelse di predicare i Sutra Gama. Secondo la convinzione di Tientai, queste due occasioni rappresentano i primi due dei cinque periodi degli insegnamenti del Buddha. I rimanenti tre sono il periodo Vaipuglia nel quale insegnò gran parte dei Sutra Mahayana, e quelli in cui insegnò rispettivamente i Sutra della Saggezza e il Sutra del Loto. Anche se esistono pochissimi riscontri storici a sostegno di questa teoria, vi è in essa una certa logica. Quando Shakyamuni decise per la prima volta di predicare la legge, di certo elaborò diversi modi in cui offrire il contenuto generale della sua illuminazione al mondo e a questo scopo potrebbe anche aver considerato come possibile l'approccio costituito dall'intricato sistema di pensiero esposto nel Sutra della Ghirlanda di Fiori. Ma quando scoprì che questo, con la sua complessa dottrina dell'essenziale interdipendenza di tutte le cose nel regno della legge cosmica, era incomprensibile per le persone comuni, decise di provare con qualcosa di più semplice e pratico. Le dottrine dei Sutra Gamma, con il loro taglio fortemente etico e pratico, rappresentano il suo secondo tentativo. Ma lasciamo queste congetture e torniamo all'argomento del primo sermone, che comunemente si ritiene sia stato pronunciato a Sarnat. In realtà si trattò dell'annuncio al mondo della nascita di una nuova religione, e come tale viene spesso definito come la prima messa in moto della ruota della legge. In questa espressione l'immagine della ruota deriva da quella del re che mette in moto la ruota, il simbolo del governante ideale della mitologia indiana. L'espressione mettere in moto la ruota della legge deriva quindi da questo concetto e rappresenta il sermone delle supreme verità dell'universo pronunciato dal Buddha, l'essere dalla somma illuminazione. Mi chiedo se l'espressione messa in moto della ruota non simboleggi in un certo senso anche l'avvento di una nuova era o di una nuova società. È comunque sicuro che, con la comparsa di Shakyamuni e delle verità sull'esistenza umana che egli insegnò, era nata una nuova era nella storia della filosofia e della religione. I discepoli di Shakyamuni, dopo il primo sermone e la conversione dei cinque asceti, come andarno le cose con la nuova fede? Tutte le cronache indicano che si sviluppò e si diffuse a una velocità impressionante e alcuni sostengono che nell'arco di alcuni anni i discepoli di Shakyamuni arrivarono a superare il migliaio. Ci sono diversi fattori che aiutano a comprendere questa rapida crescita. Nell'India antica il tipo di individualismo che nella società di oggi diamo per scontato era sconosciuto, e quindi se il padre o il figlio adulto di una famiglia si convertiva al buddismo, l'intera famiglia era solita seguirne l'esempio e abbracciava quella fede. Il popolo indiano inoltre, come abbiamo visto, mostrava un caratteristico e profondo interesse per la religione e la filosofia, soprattutto nel periodo preso in esame, quindi se un giovane diventava discepolo di Shakyamuni, i suoi amici e conoscenti, spinti da naturale curiosità, andavano ad ascoltare di persona i sermoni del suo maestro. In virtù di questi fattori, fra i primi convertiti di Shakyamuni ci furono anche famiglie reali, come quella del re Bimbisara, e famiglie di mercanti, come quella del ricco Sudatta. Dopo la conversione dei cinque asceti, Shakyamuni e i suoi nuovi discepoli rimasero per un periodo a Varanasi, la capitale del potente regno di Kashi, situato a nord-ovest del Magada nell'India centrale. Prospera città commerciale, Varanasi si trovava in un punto strategico che dominava le rotte di trasporto via terra e via acqua e manteneva così vivaci rapporti d'affari con altri stati. Come Raiagria, capitale del Magada, Varanasi doveva aver portato alla ribalta una nuova classe di ricchi mercanti. Non a caso, il primo convertito di Shakyamuni dopo i cinque asceti fu Yashas, figlio di un ricco mercante di Varanasi. La storia della conversione di Yashas è interessante e ha un grande significato per noi oggi, poiché è un esempio di come la sola ricchezza materiale non sia in grado di soddisfare i bisogni spirituali. La vita di Yashas prima della sua conversione viene descritta con lo stesso tipo di termini simbolici usati anche per descrivere il primo periodo della vita di Shakyamuni. Allevato in condizioni di grande lusso, aveva tre case, una da usare durante la stagione delle piogge, una per l'estate e una per l'inverno. Sempre servito di tutto punto dalle domestiche, passava le sue giornate a banchettare e a divertirsi con musica e balli. Ma, nonostante un ambiente così piacevole, si sentiva irrequieto, perché con il tempo il suo sguardo verso quella vita di sensuale appagamento si era fatto disincantato, maggiore era l'allegria che lo circondava, più si faceva profonda in lui la sensazione di vuoto e disperazione. Infine, una notte uscì furtivamente dalla sua casa e iniziò a errare in cerca di pace spirituale. Fu allora che gli capitò di incontrare Shakyamuni. Shakyamuni stava infatti riposando a Sarnat quando sentì il giovane piangere angosciato. Lo chiamò al suo fianco, assicurandogli che non avrebbe avuto più motivo di angosciarsi in quel modo, e cominciò a predicargli la legge. Yashas, che fino ad allora aveva conosciuto solo il vuoto spirituale, reagì con gioia alle parole di Shakyamuni e si convertì alla nuova religione. A quanto sembra, la verità che Shakyamuni predicò a Yashas aveva le sue fondamenta nella legge del karma, o causalità, che in India era data per scontata, e nella necessità di sfuggire al ciclo di nascita e morte. Volendo giudicare da questo, sembrerebbe che Shakyamuni insegnasse secondo i bisogni e le capacità dei suoi ascoltatori, usando i punti di vista filosofici comunemente accettati e insegnando alle persone la via corretta per vivere secondo la legge di causalità. Egli non rigettò completamente la filosofia dell'Eupanishad, che a quel tempo era il pensiero religioso dominante in India, anzi nell'esporre la propria dottrina fece largo uso delle idee dell'Eupanishad stesse, ampiamente accettate. Shakyamuni desiderava guidare le persone nella pratica del buddismo offrendo i propri insegnamenti nella forma più chiara e ragionevole possibile, in modo da interessare il maggior numero di persone. Ci furono tuttavia circostanze in cui divenne necessario per lui chiarire distintamente le differenze dottrinali tra la sua legge e la filosofia dell'Eupanishad. Il grande filosofo buddista Nagarjuna classificò i metodi di divulgazione di Shakyamuni in quattro tipi, il primo metodo consisteva nel predicare alle persone in termini secolari, spiegando che il buddismo avrebbe realizzato i loro desideri, il secondo consisteva nel predicare secondo le capacità delle persone, mettendole in grado di aumentare il loro bagaglio di karma positivo, il terzo metodo aiutava le persone ad abbandonare le proprie illusioni e a liberarsi dai tre veleni di avidità, collera e stupidità, il quarto rivelava direttamente la verità suprema, portando la gente a comprenderla. Durante i 45 o 50 anni del suo ministero, Shakyamuni deve aver avuto molte occasioni per usare tutte e quattro le modalità di divulgazione. Nel caso di Yashas, sembra che Shakyamuni abbia adottato i primi due metodi, predicando in modo da incontrare i bisogni e i desideri spirituali del giovane, attento alle sue capacità intellettuali. Yashas, come abbiamo visto, rimase profondamente colpito dalle parole di Shakyamuni e decise di farsi monaco. Il suo ingresso nell'ordine buddista portò così il numero dei discepoli a sei. Ma la storia di Yashas non termina qui. Ci viene riportato infatti che suo padre, in ansia per la sicurezza del figlio, andò a cercarlo e, sentendo gli insegnamenti di Shakyamuni, si convertì anche egli, diventando un credente laico. In seguito invitò Shakyamuni a casa sua perché potesse predicare alla madre e alla moglie di Yashas, che a loro volta si convertirono. Non solo, gli amici di Yashas, che lo avevano sempre ammirato per la sua acuta intelligenza, vennero a fargli visita e a osservare la sua nuova vita di monaco e, ascoltando gli insegnamenti di Shakyamuni, si convertirono ed entrarono tutti nell'ordine, portando il numero di convertiti a un totale di 54. La storia di Yashas e della sua conversione illustra quale profondo effetto può esercitare la fede di un uomo di intelligenza e profondità spirituale sulla famiglia e sugli altri giovani della sua generazione. Indica anche come il minuscolo gruppo raccolto intorno a Shakyamuni iniziasse a diventare una comunità religiosa di una certa consistenza. Shakyamuni, dopo aver gettato le basi di una nuova organizzazione religiosa, lasciò Varanasi e si diresse a Uruvilva, il distretto in cui aveva ottenuto l'illuminazione, intraprendendo quello che sarebbe diventato un lungo giro di propagazione. È importante notare a questo punto che egli non portò con sé la comunità di circa 60 o più discepoli che si era riunita intorno a lui a Varanasi. Al contrario, ordinò ai suoi discepoli di mettersi in viaggio singolarmente, diretti in varie regioni, e di predicare la legge, mentre lui avrebbe proseguito da solo verso Uruvilva. Secondo i resoconti delle scritture, egli informò i suoi discepoli che, poiché avevano raggiunto la forma più alta di illuminazione, e per la pace e la felicità del mondo, era ora loro compito viaggiare di regione in regione, diffondendo quegli insegnamenti supremi e dando l'esempio di come metterli in pratica. Non dovevano muoversi in gruppi di due o tre, ma da soli, come lui stesso avrebbe fatto recandosi a Uruvilva, e dovevano trasmettere gli insegnamenti al maggior numero possibile di persone. A mio parere questo ci dice qualcosa di molto importante sullo spirito fondamentale del buddismo è sul forte accento dato alla pratica. La missione e l'impegno corretto di questi uomini che avevano ricevuto gli insegnamenti di Shakyamuni ed erano entrati nell'ordine buddista era quello di propagare la legge a tutte le persone per la pace e la felicità del mondo. Si potrebbe pensare che Shakyamuni fosse piuttosto severo verso i suoi discepoli nel mandarli da soli in missione di propagazione invece di permettere loro di rimanere in gruppo, ma dopo tutto il buddismo non è solo un sistema filosofico, né una religione per coloro che desiderano passare il proprio tempo assorti in silenziosa meditazione. Al contrario, il buddismo insegna che una volta raggiunta la via e la sua comprensione, diffonderne la conoscenza agli altri ed entrare in contatto con tutti gli esseri senzienti dovrebbe diventare la missione della vita. Questa pratica attiva e questa propagazione della fede costituiscono il nucleo della religione buddista, e questo è sempre stato vero, dall'epoca di Shakyamuni a oggi. La direttiva di Shakyamuni ai suoi discepoli di andare per la propria strada da soli e non in gruppo di due o tre indica inoltre l'importanza che egli assegnava all'abilità del credente di agire in piena autodisciplina e controllo. Nella pratica del buddismo, egli poneva l'accento su un atteggiamento positivo e attivo piuttosto che puramente passivo. Non desiderava che i suoi discepoli fossero semplici destinatari della legge, bensì energici propagatori della stessa, e che ciascuno insegnasse la legge a modo suo e di propria iniziativa, in modo non solo da diffondere il messaggio agli altri, ma da acquisire una comprensione e una fede più profonde. Questa pratica di viaggiare da soli per diffondere l'insegnamento illustra più di ogni altra cosa fino a che punto il buddismo sia una religione tipicamente basata sulla pratica. Propagazione a Uruvilva, congedendosi dal suo gruppo di discepoli, Sciacchiamoni si diresse da solo verso Uruvilva e quella che doveva rivelarsi una delle fasi più importanti del suo percorso di predicazione. Tra le persone che convertì in quel luogo vi furono numerosi discepoli ferventi e autorevoli che in seguito avrebbero dato un grande contributo alla crescita dell'ordine buddista. Tra di essi possiamo onnoverare il Rebbi Nbisara del Magada, i famosi discepoli Shariputra, Maud Gagliayana, Makashiapa, e i tre fratelli del clan Kashiapa. Questo sembra indicare che gli sforzi di propagazione di Sciacchiamoni a Uruvilva ottennero un notevole successo, le sue nuove dottrine religiose guadagnarono rapido consenso tra asceti, cercatori della via e uomini influenti e importanti che si sentivano insoddisfatti della filosofia e della religione tradizionale dell'epoca. Uno degli episodi più curiosi di questo capitolo della vita di Sciacchiamoni riguarda la conversione di circa trenta giovani coppie durante il suo viaggio a Uruvilva. Secondo la storia, Sciacchiamoni era seduto nel folto di una foresta a meditare, quando il gruppo si imbatte in lui. La maggior parte erano coppie sposate, ma una di esse era formata da un giovane scapolo e da una prostituta. Quando la prostituta scappò con i beni del giovane, tutto il gruppo si mise a cercarla e finì per imbattersi nel Buddha. Dopo aver ascoltato la loro storia, Sciacchiamoni li ammonì dicendo, invece di cercare una prostituta, non sarebbe meglio cercare il vostro vero io? Poi proseguì insegnando loro la legge e tutte le coppie si convertirono. Gli episodi relativi alla conversione di Yasha a sé delle trenta coppie hanno un caratteristico accento indiano, poiché evidenziano il grado di rispetto di cui godevano tradizionalmente in India pensatori, asceti e monaci. Allo stesso tempo indicano anche il modo ammirevole con cui Sciacchiamoni si avvaleva di ogni possibile opportunità per propagare la legge e testimoniano lo straordinario potere di attrazione personale che doveva esercitare su coloro che entravano in contatto con lui. Discepoli come Yasha se le trenta giovani coppie non erano assolutamente il tipo di persone che entrano in un ordine religioso perché non riescono a trovare un altro mezzo di sostentamento. Come molti altri tre discepoli di Sciacchiamoni, essi provenivano da una classe intellettualmente ed economicamente superiore alla media. Naturalmente, questo non significa che lo stesso Sciacchiamoni desse rilievo alle distinzioni di classe, sembra anzi che abbia trattato tutti i suoi discepoli con imparzialità, a prescindere da razza, casta, classe o condizione economica. Tuttavia, il fatto che molte persone di elevato livello intellettuale e posizione sociale fussero attratte da lui è un'indicazione del calore e del magnetismo personale di cui doveva essere dotato e che spiega in parte il grande seguito che si guadagnò e l'entusiasmo che suscitò. Pare che dopo aver raggiunto Uruvilva Sciacchiamoni abbia voluto confrontarsi con i seguaci del bramanesimo e in particolare con i prestigiosi fratelli Kashiapa, che appartenevano alla setta Yatila di Asceti Bramani. Questi fratelli, di nome Uruvilva Kashiapa, Nadi Kashiapa e Gaia Kashiapa, portavano i capelli legati secondo lo stile bramanico, compivano cerimonie religiose ed esercitavano grande influenza nella zona. Pare che avessero avuto rispettivamente un seguito di 500, 300 e 200 discepoli. A causa della fama di cui godevano nella zona i fratelli Kashiapa, è molto probabile che Sciacchiamoni avesse sentito parlare di loro quando arrivò per la prima volta a Uruvilva per esercitarsi nelle pratiche ascetiche nella foresta. Ma poiché essi veneravano Agni, il dio bramanico del fuoco, probabilmente aveva avuto la sensazione che i loro insegnamenti non si sarebbero accordati con la sua ricerca della verità e quindi non si era unito al loro gruppo di discepoli. Ora, tuttavia, in qualità di illuminato, desiderava confrontarsi con loro e rigettare le loro dottrine dal punto di vista dell'insegnamento buddista. Si suppone che in questo modo riuscisse a convertire ai suoi insegnamenti non solo persone singole, ma interi gruppi di credenti bramanici, facilitando di molto la diffusione del buddismo nella regione di Uruvilva. Le scritture contengono resoconti molto vivaci del confronto tra Sciacchiamoni e i tre fratelli Kashiapa. Sciacchiamoni, determinato a convertire Uruvilva Kashiapa, il maggiore e il più influente dei fratelli, andò a cercarlo a casa sua, chiedendogli con solennità il permesso di passare la notte nella sala del fuoco sacro, che era controllata dai fratelli Kashiapa. Sciacchiamoni fu avvertito che nella sala abitava un serpente velenoso che sicuramente lo avrebbe morso, ma insistette ugualmente nella sua richiesta e alla fine ottenne il permesso. Proprio come gli avevano preannunciato, un serpente velenoso fece la sua comparsa e tentò di attaccarlo, ma Sciacchiamoni mostrò un comportamento talmente benevolo e misericordioso verso il serpente da riuscire a soggiogarlo. Il mattino seguente, quando Uruvilva Kashiapa apprese ciò che era successo, rimase impressionato dai poteri di Sciacchiamoni. Tuttavia era ancora persuaso che le proprie abilità e doti fossero superiori. Allora Sciacchiamoni compì altri miracoli e diede altre dimostrazioni del suo potere mistico, finché convinse il maestro bramano a riconoscere la propria sconfitta. Si può naturalmente dubitare di questi riferimenti a poteri misteriosi e di racconti che è difficile accettare alla lettera. Sostanzialmente, questa storia va interpretata come espressione del fatto che Sciacchiamoni portò il rivale ad ammettere la propria sconfitta non attraverso una superiorità nel dibattito filosofico, ma attraverso il proprio reale potere e la propria efficacia come uomo di religione. In ogni caso, Uruvilva Kashiapa, riconoscendo la propria completa sottomissione di fronte a Sciacchiamoni, lo pregò subito di poter diventare suo discepolo. Si racconta però che Sciacchiamoni ammonì Uruvilva Kashiapa, in qualità di leader di un gruppo di cinquecento discepoli, non doveva decidere con troppa fretta su una questione tanto importante. Il maestro Bramano si consultò allora con i suoi discepoli e alla fine divenne seguaci del Buddha insieme all'intero gruppo di fedeli, tutti si tagliarono la treccia di capelli e la trattarono nel fiume insieme ai vasi e agli utensili usati nei riti sacrificali. Anche i fratelli minori, Nadi Kashiapa e Gaia Kashiapa, decisero di seguirne l'esempio, abbracciando la fede buddista insieme ai rispettivi gruppi di discepoli. Avvenne così che un'intera setta bramanica, che aveva esercitato una forte influenza religiosa nel distretto di Uruvilva e aveva annoverato un migliaio di aderenti, entrò a far parte dell'ordine di Sciacchiamoni. Una simile conversione di massa, difficile da immaginare oggi, testimonia sia l'abilità sia l'efficacia della propagazione e della pratica di Sciacchiamoni e la profonda serietà con cui gli antichi indiani prendevano in considerazione simili confronti religiosi e filosofici, oltre alla loro prontezza a porsi sotto la guida del maestro che ne usciva vittorioso. Infine, essa rappresenta un'importante pietra migliare nella storia dell'ordine, perché in questo modo il gruppo di seguaci di Sciacchiamoni divenne improvvisamente un gruppo religioso di una certa consistenza e nello stesso tempo facilitò la successiva propagazione del buddismo nel regno del Magada, dove grandi gruppi di persone si convertirono al buddismo per la venerazione che nutrivano per i fratelli Kashapa. Forse il più importante tra i convertiti di Sciacchiamoni nel Magada in quel periodo fu il re Bimbisara, il regnante. Va ricordato che il re si era recato ai piedi della collina per incontrare Sciacchiamoni quando questi passò per la prima volta nel Magada e, rendendosi conto che Sciacchiamoni non si sarebbe fatto influenzare da offerte di potere secolare o di ricchezze, aveva chiesto al giovane di promettergli che non appena avesse ottenuto l'illuminazione che stava cercando sarebbe tornato per rivelarla anche a lui. A quanto sembra il secondo incontro tra Sciacchiamoni e il re avvenne dopo la conversione dei fratelli Kashapa. La leggenda racconta che il re Bimbisara, sentendo che Sciacchiamoni era entrato a Rai Agria alla guida di un nuovo gruppo di mille convertiti, si affrettò ad andare a salutarlo insieme ai suoi ministri e servitori. Il re aveva sicuramente sentito dire che Sciacchiamoni aveva conseguito la buddità ed era felicissimo che l'illuminato non avesse dimenticato la sua antica promessa. Durante il loro incontro il re fu istruito direttamente da Sciacchiamoni e si convertì alla nuova fede. Bimbisara donò poi ai Sciacchiamoni e ai suoi mille discepoli un appezzamento di terra noto come boschetto di bambù perché fungesse da monastero che li ospitasse. In questo primo periodo, naturalmente, non esisteva niente di simile al tipo di disposizione formale degli edifici che in seguito divenne caratteristica per i templi buddhisti. Il monastero del boschetto di bambù, che era situato fuori dalla porta settentrionale della città, probabilmente non era niente più che un semplice rifugio destinato a proteggere i monaci dal vento e dalla pioggia. In ogni caso, Sciacchiamoni e i suoi discepoli passavano gran parte del tempo a chiedere l'elemosina in giro per le campagne, e quindi il monastero fu usato solo per riposo e meditazione durante la stagione delle piogge. Ma anche se il monastero del boschetto di bambù fu solo un modesto edificio, la sua esistenza e la conversione del Rebbe Nbisara che aveva portato alla sua costituzione furono importanti pietre miliari nella graduale crescita dell'ordine buddista, di portata forse maggiore, in termini di effetti, persino rispetto alla conversione di massa degli autorevoli fratelli Kashyapa e dei loro seguaci bramanici. V, i discepoli, Shariputra e Maud Gagliayana, oltre a Rebbe Nbisara ci furono molti altri importanti discepoli e credenti che si convertirono nel Magada e che in seguito avrebbero esercitato una decisiva influenza sull'ordine buddista. I più insigni tra loro furono Shariputra, Maud Gagliayana e Makasyapa, tre dei dieci principali discepoli di Shakyamuni. Tutti si convertirono quando Shakyamuni predicò la legge nel Magada. Prendiamo da prima in considerazione la storia di Shariputra e Maud Gagliayana. Nati nel Magada da famiglie bramane, erano amici intimi sin dall'infanzia e godevano di una buona reputazione come giovani di grande talento cresciuti secondo la tradizione bramanica. Insoddisfatti tuttavia degli studi ufficiali, i due iniziarono a cercare un maestro con la speranza di trovare una verità più elevata. Fu a quel punto che sentirono parlare di Sanyaia Belattiputta, uno dei sei maestri non buddisti attivi nel Magada. Sanyaia, ricordiamo, era noto per il suo nichilismo e scetticismo, e gli metteva in dubbio, se non li rifiutava nettamente, molti dei principi fondamentali del bramanesimo. Shariputra e Maud Gagliayana si unirono al gruppo dei 250 discepoli che studiavano con Sanyaia e, da amici rivali, si applicarono con impegno nel compito di conoscere a fondo i suoi insegnamenti. Presto divennero i principali discepoli di Sanyaia, e si dice che questi arrivò persino a considerarli i suoi successori. I due iniziarono però a sentire una certa insoddisfazione per la filosofia nichilistica del loro maestro, e cominciarono a guardarsi intorno, alla ricerca di una verità più positiva e convincente. A questo punto, si promisero l'un l'altro che chi dei due avesse scoperto per primo una verità di quel genere non avrebbe trascurato di informare l'altro. Come poi si vide, fu Shariputra ad avere per primo questa fortuna. Nella sua ardente ricerca di una verità più elevata, Shariputra entrò in contatto con il buddismo, anche se non si imbatté direttamente in Shakyamuni. Egli incontrò Ashwaite, un discepolo di Shakyamuni che a quel tempo chiedeva l'elemosina raiagria. Si dice che Ashwaite sia stato uno dei cinque biccu, o asceti, a cui Shakyamuni aveva rivolto il suo primo sermone. Le antiche scritture affermano che Shariputra rimase così impressionato dall'aspetto nobile e dall'area di padronanza di sé di Ashwaite che gli chiese chi fosse il suo maestro e quale dottrina insegnasse. L'incontro avvenne nei sobborghi di Raiagria, dove Ashwaite si era fermato a riposare durante la questua, e la risposta che diede a Shariputra è particolarmente importante. Egli rispose che il suo maestro era Shakyamuni, ma con modestia aggiunse che, poiché era entrato nell'ordine buddista solo di recente, non era in grado di fornire un'adeguata esposizione delle dottrine del suo maestro. Shariputra rispose che anche un'esposizione parziale sarebbe stata sufficiente e pregò ancora una volta Ashwaite di raccontargli qualcosa delle idee del suo maestro. Ashwaite allora lo accontentò raccontandogli la parte della legge che meglio comprendeva, con queste brevi parole, tutte le cose hanno origine da una causa. Il tatagata ha spiegato la causa, e anche come le cose cessano di esistere. Ciò che Ashwaite stava comunicando con queste parole, naturalmente, era la sostanza del primo sermone di Shakyamuni, cioè la legge di causa ed effetto, di origine e cessazione. L'aspetto straordinario di questo episodio è l'estrema onestà e integrità manifestata da Ashwaite. Un uomo di statura minore avrebbe sicuramente tentato di esporre la legge al suo interlocutore, anche se la sua conoscenza poteva essere inadeguata. Ma Ashwaite rifiutò di parlarne a lungo per rispetto degli insegnamenti del Buddha e per timore di poter in qualche modo trasmetterne un'impressione fuorviante o errata. Dopotutto la legge non è un insegnamento che possa essere compreso immediatamente non appena si entra nell'ordine monastico o nella comunità buddista. Come indica questo episodio, si deve passare molto tempo immersi nello studio e nella disciplina per approfondirne la conoscenza. Il secondo punto da notare in questo episodio è che Shariputra, saggio e percettivo com'era, fu attratto da Ashwaite non tanto per la sua eloquenza o per il potere intellettivo che manifestava, quanto per gli indizi di santità e profonda fede religiosa che risultavano evidenti nel suo atteggiamento e portamento. Questo, io credo, ci dice qualcosa sull'atteggiamento corretto che dovrebbe essere adottato da coloro che stanno tentando di propagare la legge. Ashwaite, pur essendo un novizio, sembrava possedere una comprensione corretta della teoria della causalità e della legge di origine e cessazione, e si può dire che una chiara comprensione di queste e della verità della vita costituiscano i pilastri della filosofia buddista. Viene riportato inoltre che, nel sentire l'esposizione di Ashwaite della legge di origine e cessazione, Shariputra capì immediatamente la grandezza della dottrina di Shakyamuni e si rese conto che lì finalmente avrebbe trovato la verità che stava cercando. Shariputra era un giovane di acuta intelligenza ed intuito filosofico, e percepì, ascoltando Ashwaite per la prima volta, la grandezza della legge. Ascoltando l'esposizione piuttosto breve che ne fece questi, la sua mente si aprì e degli acquisì un certo livello di comprensione. Nella terminologia buddista, e gli apparteneva alla categoria degli ascoltatori della voce, Shravaka, coloro che sono in grado di raggiungere l'illuminazione semplicemente ascoltando una spiegazione dei principi della legge. Non vi è da stupirsi che, tra i principali discepoli di Shakyamuni, egli fosse destinato a diventare famoso come il primo per saggezza. Dopo il suo incontro con Ashwaite, Shariputra, fedele alla promessa che aveva fatto al suo amico, raccontò a Maudgagliayana ciò che era successo. Anche Maudgagliayana percepì la grandezza della legge e insieme decisero di diventare seguaci di Shakyamuni. Essendo però i principali discepoli di Sanyaia, avevano il compito di supervisionare i 250 novizi che lo seguivano, e si rese quindi necessario per Shariputra e Maudgagliayana discutere di quella importante decisione con gli altri studenti. Si tramanda che, quando lo fecero, tutti e 250 chiesero di potersi unire a Shariputra e a Maudgagliayana e diventare discepoli del Buddha. Sanyaia, sentendo cosa stava avvenendo, fece tutto ciò che era in suo potere per dissuadere i due giovani ma questi furono irremovibili, come del resto i 250 studenti. Così, in un solo colpo, Sanyaia rimase privo del suo seguito e un'intera scuola, a eccezione del suo fondatore, si convertì alla fede buddista. Questo fu un episodio di straordinaria importanza, perché segnò il crollo di un'intera scuola che aveva suscitato notevole rispetto nel mondo intellettuale dell'epoca e la nascita di una nuova scuola di pensiero che prendeva il proprio posto accanto a quelle dei sei maestri non buddisti. Le persone di quell'epoca si resero conto che era nata una nuova, autorevole filosofia religiosa, con cui si dovevano confrontare. Gli studiosi di storia buddista attribuiscono un grande significato alla conversione di Shariputra e di Maudgalyayana. Dal punto di vista della storia del pensiero, essa dimostra che il buddismo era in grado di rigettare le tendenze scettiche e nichilistiche dell'epoca e di guadagnarsi il consenso tra la popolazione. Il buddismo è spesso frainteso e considerato una religione di rassegnazione o persino di negazione nichilistica, ma la conversione di Shariputra e degli altri discepoli di Sanyaia dimostra che le persone di quell'epoca non lo consideravano affatto tale. È importante ricordare che ciò che spinse Shariputra e Maudgalyayana a cercare altrove una verità più elevata e ad abbracciare il buddismo fu il disincanto verso lo scetticismo di Sanyaia. La loro conversione è di grande significato anche per il ruolo predominante che in seguito i due ricoprirono nello sviluppo e nell'organizzazione sistematica delle basi teoriche dell'ordine buddista. Shakyamuni li stimava moltissimo e vi sono molte tracce del loro straordinario contributo allo sviluppo della nuova religione. Secondo alcuni racconti, quando Shariputra e Maudgalyayana arrivarono per la prima volta con i loro 250 seguaci a chiedere di essere ammessi all'ordine buddista, Shakyamuni predisse che quei due uomini sarebbero diventati suoi più importanti discepoli. Sembra che il suo intuito avesse percepito le loro straordinarie qualità. Egli nutriva aspettative talmente grandi nei loro confronti che altri discepoli arrivarono a esserne gelosi. Tornando alla confutazione del nichilismo da parte del buddismo, è interessante notare il modo cui Shariputra acquisì l'illuminazione di un ascoltatore della voce. Secondo le scritture, questo avvenne quando Shariputra e uno dei suoi compagni bramani stavano ascoltando il discorso di Shakyamuni sullo scetticismo. Il bramano, essendo uno scettico, argomentò che, poiché tutta la verità è essenzialmente relativa, non ci può essere in alcun modo una verità oggettiva e quindi tutto il pensiero e la filosofia sono puramente soggettivi. Shakyamuni gli rispose che quella visione era di per sé contraddittoria perché, nel sostenere che tutta la verità è soggettiva o relativa, si postulava già un metro assoluto di giudizio. Usando questa modalità chiara e convincente, Shakyamuni non solo confutò le asserzioni degli scettici che erano in voga a quel tempo, ma diede anche un importante esempio dell'approccio tipico del buddismo nei confronti di questi interrogativi. A questo punto Shariputra, che stava assistendo al dibattito tra i due, raggiunse l'illuminazione e lo scettico bramano, come ci si potrebbe aspettare, si convertì. Quando nasce un nuovo sistema di pensiero, è naturale che esso non esponga solo le proprie idee ma tenti anche di confutare le dottrine più antiche o più popolari del tempo. È quanto vediamo compiere da parte di Shakyamuni. Che fosse impegnato in una autentica battaglia delle idee è dimostrato dal fatto che molti dei suoi convertiti, come i fratelli Kashiapa, Shariputra e Maud Gagliaiana, erano tra i maggiori intellettuali dell'epoca. Ci si doveva però aspettare che gli avversari di Shakyamuni passassero al contrattacco. Poiché influenti bramani e giovani promettenti di Raiagria e di altre città si stavano convertendo al buddismo in numero sempre crescente, furono sollevate varie accuse contro Shakyamuni, secondo le quali egli privava i genitori dei propri figli e le mogli dei propri mariti, causando la distruzione della famiglia. Tutti i giovani di buona famiglia nel Magada hanno aderito all'ordine buddista. Esclamava la gente allarmata, chiedendosi chi sarebbe stato il prossimo obiettivo di Shakyamuni, dato che era già riuscito a portare via i discepoli del grande Samyaya. Sicuramente la rapidità con cui il buddismo si diffuse nel Magada causò un sincero allarme tra le persone comuni, soprattutto quelle strettamente legate alle religioni dominanti, che lo consideravano una minaccia per l'impostazione tradizionale della società e persino per l'istituzione della famiglia. Non occorre dire che il buddismo non rappresentava una tale minaccia per la società. In realtà esso invoca una radicale riforma spirituale, ma allo stesso tempo mira a costruire una società migliore e una solidarietà familiare più stabile. Ma a molte persone dell'epoca di Shakyamuni, che si accontentavano di giudicare in base all'apparenza esterna, sembrava che la conversione dei discepoli ponesse una seria minaccia alla vita familiare e ad altre importanti istituzioni sociali. Per questi motivi Eli fu attaccato e diffamato. Si dice che Shakyamuni abbia liquidato simili critiche considerandole un fenomeno temporaneo e vi abbia perciò prestato scarsa attenzione. Proprio come aveva predetto, le accuse contro il buddismo alla fine si spensero e Shakyamuni arrivò a essere riverito come un grande leader religioso. Questo processo avrebbe richiesto molti anni, la vera legge è sempre bersaglio di opposizione e maldicenze. Nel propagare la legge, Shakyamuni nel corso della sua vita fu onorato e venerato da molti in qualità di risvegliato, ma fu anche criticato e attaccato da molti altri. Le sue cosiddette nove grandi sofferenze, di cui diremo di più in seguito, furono causate, anche se solo indirettamente, dall'ostilità e dalla gelosia dei suoi critici. Durante i suoi quarantacinque anni o più di predicazione, egli fu spesso frainteso e trattato con pregiudizio da chi gli stava intorno. Nonostante tali ostacoli e fraintendimenti, tuttavia, egli perseverò nei suoi sforzi e alla fine riuscì a fare del buddismo una religione universale. Makashiapa, tra i dieci principali discepoli di Shakyamuni fu incluso anche Makashiapa, che ebbe fama di severo e inflessibile ricercatore della via. Tra i discepoli di Shakyamuni era considerato il primo nelle pratiche ascetiche. Va notato che sebbene Shakyamuni rigettasse in quanto inutile la pratica di un ascetismo radicale sostenuta da molti uomini religiosi del suo tempo, tollerava il Duta, un insieme di precette ascetici piuttosto blandi che comprendevano alcune limitazioni alimentarie nel vestire e il guadagnarsi da vivere esclusivamente grazie alle elemosine. Erano questi i precetti che Makashiapa osservava con particolare impegno. Dopo la morte di Shakyamuni egli presedette il primo concilio buddista e supervisionò la creazione del canone buddista, ricoprendo così un ruolo di primaria importanza nelle prime fasi dell'ordine. A quanto si racconta, prima di incontrare Shakyamuni era stato, come molti tra i primi discepoli del Buddha, un seguace del bramanesimo. Generalmente si ritiene che si sia convertito durante il periodo trascorso da Shakyamuni nel Magada, anche se non si conosce il momento esatto. Fu chiamato Makashiapa dopo il suo ingresso nell'ordine buddista, il prefisso onorifico ma, che significa grande, fu aggiunto al suo nome per distinguerlo dai tre fratelli Kashiapa di Uruvilva. Ci sono stati tramandati moltissimi aneddoti che riguardano Makashiapa, diversi dei quali sono legati alla sua osterità e severità. Egli incuteva soggezione all'interno dell'ordine per la sua estrema severità, ma era anche criticato da alcuni. Secondo un resoconto, quando raggiunse il livello di Aratz, o di colui che ha ottenuto il più alto dei quattro livelli che gli ascoltatori della voce possono raggiungere, in segno di gratitudine donò la propria veste a Shakyamuni e in cambio ricevette quella vecchia di quest'ultimo. Ma Kashiapa poi continuò a indossare quella veste già consumata, finché non fu ridotta a brandelli. Questo episodio, e altri del genere, indicano che era un uomo di grande sincerità e integrità, ma non è difficile capire perché alcuni degli altri monaci, non riuscendo a comprendere perché indossasse un indumento lacero, lo trattassero con sdegno. Un altro episodio riguarda il modo impeccabile in cui Ma Kashiapa praticava la questua. L'elemosina aveva un doppio scopo, da una parte forniva sussistenza quotidiana ai membri dell'ordine e dall'altra offriva l'opportunità ai laici di acquisire meriti religiosi e di stabilire un legame con il Buddha attraverso le loro offerte. I principi etici che regolano l'elemosina decretavano che i membri dell'ordine dovessero mangiare, e senza gettare nulla, qualunque cibo venisse loro offerto. Non di meno, essendo esseri umani, i mendicanti spesso trovavano poco appetitoso il cibo loro donato dai poveri e dagli umili. Questo non deve sorprendere se si considera che molti dei monaci erano giovani provenienti da famiglie benestanti. Di conseguenza si dice che tendessero a camminare con una certa lentezza di fronte alle case dei ricchi, attirando l'attenzione sulla loro presenza, per poi passare rapidamente davanti alle case dei poveri. Makashiapa, tuttavia, costituiva un'eccezione, e gli incarnava nella forma e nella sostanza gli insegnamenti del Buddha e dell'emosinava dignitosamente, senza mostrare traccia di parzialità tra ricchi e poveri. Quando le loro sincere motivazioni sono comprese, le persone rigorose integre come Makashiapa in genere sono trattate con il dovuto rispetto. Ma quando le loro intenzioni non sono del tutto comprese, esse sono spesso soggette a malintesi e gelosie, e Makashiapa non fece eccezione. Un'altra ragione per la freddezza o addirittura l'antagonismo di cui Makashiapa fu oggetto da parte di alcuni poteva essere dovuta al fatto che non era un abile predicatore. Se uomini come Shariputra e Maud Gagliaiana si distinguevano come brillanti teorici della nuova organizzazione religiosa, Makashiapa si distingueva principalmente per l'intensità e la devozione con cui seguiva gli insegnamenti di Shakyamuni e li metteva in pratica. Per questa ragione non godeva di grande popolarità. Allo stesso tempo era indispensabile all'ordine in materia di amministrazione, sovrintendenza ed esposizione della pratica. Non è quindi un caso che abbia giocato un ruolo centrale alla guida dell'ordine dopo la morte di Shakyamuni. Lo stesso Shakyamuni sembra aver tenuto in alta considerazione Makashiapa, anche se era consapevole della critica, della gelosia, e persino dell'odio, che Makashiapa suscitava in alcuni discepoli. Una leggenda dice che in una circostanza Shakyamuni riunì i suoi discepoli per difendere Makashiapa dalla critica crescente che veniva espressa contro di lui, e in quell'occasione, per mostrare la grande stima nei suoi confronti, divise con Makashiapa la sua stessa sedia. Pare che Makashiapa fosse l'unico uomo a cui fu mai concesso l'onore di dividere la sedia con il Buddha. Questo evento mostra la grande fiducia che Shakyamuni riponeva in lui e la sua preoccupazione che Makashiapa fesse messo in condizioni di sviluppare le sue buone qualità senza critiche e interferenze da parte di altri. Shakyamuni intuiva i diversi caratteri dei suoi discepoli, in particolare i cosiddetti dieci principali discepoli, e nel guidarli e istruirli alla propagazione della legge concesse a ognuno la piena libertà di sviluppare le proprie abilità e talenti. Da questo possiamo intuire con chiarezza quanto fosse grande la sua comprensione delle persone e la sua abilità come leader. Gli aneddoti che riguardano Makashiapa illustrano bene anche un aspetto importante nel Buddismo, e cioè che esso non cerca di creare un'immagine fissa della persona ideale e non pretende che tutti si conformino a un particolare stereotipo. Al contrario, nell'abbracciare il senso di missione di base, il Buddismo incoraggia i suoi aderenti a lasciare campo libero alle proprie abilità e caratteristiche individuali. Oltre a Makashiapa e agli altri principali discepoli, un gran numero di persone si convertì al Buddismo nel Magada, tra cui capi tribù, capi famiglia, figli di ricchi cittadini e donne. Nell'abbracciare la nuova religione queste persone furono probabilmente influenzate dall'esempio del re Bimbisara, dei fratelli Kashiapa e dei discepoli di San Giaia. Gli insegnamenti di Shakyamuni sicuramente provocarono un notevole fermento nel Magada, risvegliando il regno a un nuovo senso di dinamismo e stupore spirituale. Abbiamo parlato in precedenza del secondo incontro che ebbe luogo tra il re Bimbisara e Shakyamuni quando questi, diventato un Buddha e accompagnato dai fratelli Kashiapa, fece ritorno nella città di Raiagria. Si tramanda che i ministri e i nobili di corpi del re avessero ipotizzato che Shakyamuni fosse un discepolo degli illustri fratelli Kashiapa e rimasero sorpresi quando appresero che in realtà era vero il contrario. L'arrivo di Shakyamuni provocò di certo una profonda impressione nella popolazione del Magada, persuadendola che stesse sorgendo una nuova religione che con il tempo avrebbe sostituito le religioni del passato. Questa atmosfera di aspettativa e la sensazione di un imminente cambiamento promossero la propagazione della fede e facilitarono il consenso generale nei confronti del Buddismo. Sudatta, i discepoli e i convertiti laici che abbracciarono gli insegnamenti di Shakyamuni mentre era in vita provenivano da tutti i settori e le classi della società indiana. All'interno dell'ordine buddista essi furono trattati senza discriminazioni, a prescindere dalla loro posizione nella società secolare. Certe caste o gruppi di classe, tuttavia, ebbero ruolo particolarmente importante nella diffusione degli insegnamenti buddhisti, in particolare i membri degli Kshatriya, la classe guerriera, e quella dei ricchi mercanti. Sembra infatti che i mercanti, che stavano acquistando importanza nella società, fossero particolarmente attratti dalla nuova religione. Insoddisfatti della rigidità del vecchio ordine sociale, desideravano una maggiore libertà di movimento e l'opportunità di esercitare la propria iniziativa nelle questioni personali e sociali. Fu per questa ragione che essi accolsero il buddismo, così diverso nella sua liberalità e flessibilità rispetto al rigido convenzionalismo del bramanesimo, e ne fecero il fondamento spirituale della propria esistenza. Si dovrebbe notare che il buddismo non solo consente agli aderenti laici di sviluppare le proprie attività e affari, ma ne sottolinea l'importanza in senso positivo. Quei credenti che avevano lasciato la vita familiare e si erano fatti monaci, avevano naturalmente rinunciato a tutte queste attività e conducevano la vita dei mendicanti erranti, ma coloro che erano rimasti nella società laica erano incoraggiati a praticare operosamente e frugalmente per provvedere al sostegno delle loro famiglie e dei parenti. Secondo il buddismo anche se le verità fondamentali della religione si pongono su un piano totalmente diverso rispetto alle attività sociali ed economiche quotidiane, quelle stesse verità sono indispensabili per il benessere delle persone impegnate in simili attività. Dalla prospettiva del buddismo la religione non dovrebbe tentare di indirizzare l'attività sociale, ma dovrebbe esercitare un'influenza spirituale su coloro che portano avanti quell'attività. Il buddismo esercitò una fortissima influenza su un gruppo particolarmente attivo nella società come quello dei ricchi mercanti, che in quell'epoca di rapidi cambiamenti stavano venendo sempre più alla ribalta. Il più famoso dei mercanti che abbracciarono il buddismo fu Sudatta. Era un abitante di Shravasti, città del Kosala, il potente stato che si trovava a nord-ovest e dominava la patria di Shakyamuni, ma fu nella città di Raiagria nel Magada che ebbe luogo la sua conversione. Sudatta stava visitando Raiagria, forse in viaggio d'affari, e alloggiava casa di un ricco mercante che si era già convertito al buddismo e che aveva invitato Shakyamuni e i suoi discepoli nella propria casa il giorno seguente. Sudatta, osservando il trambusto dei preparativi che coinvolgevano i membri della famiglia e i domestici del suo amico, gli chiese quali ospiti stesse aspettando, al che il mercante rispose, domani mattina arriva un Buddha. Sentendo la parola Buddha, Sudatta fu colto di sorpresa. Era un uomo rinomato per la sua grande ricchezza, ma era anche ben conosciuto in quanto generoso dispensatore di beneficenza, e si era guadagnato il nome di Anathapindada, o sostenitore dei bisognosi, per via delle sue donazioni ai poveri. Era chiaramente un uomo religioso ed era difficile che non rimanesse stupefatto alla notizia che un Buddha, o illuminato, figura ideale del pensiero religioso indiano, dovesse presentarsi il mattino dopo proprio nella casa in cui stava alloggiando. Profondamente colpito, attese con impazienza la fine della notte. Quando arrivò l'alba, sgattaiolò presto fuori dalla casa e si avviò verso il boschetto dove Shakyamuni era seduto in meditazione. Si dice che Shakyamuni gli abbia predicato e che Sudatta abbia subito deciso di diventare un seguace della nuova religione. La conversione di Sudatta possiede un notevole significato, perché si ritiene che abbia preparato la strada per la propagazione della legge nello stato del Kosala. In seguito egli donò all'ordine buddista un parco e un monastero a Shravasti. Costruito sulla terra che Sudatta aveva acquistato dal principe Geta, l'erede del sovrano del Kosala, era noto come Getavana Viara, o monastero di Getavana. Il nome è ben conosciuto nella letteratura giapponese per il famoso passo di apertura del romanzo epico Heike Monogatari, i racconti della famiglia Taira, che descrive il suono delle campane del monastero, viste come simbolo dell'impermanenza della vita. Ma immagino che sarebbe pedante sottolineare che, secondo alcuni studiosi, all'epoca di Shakyamuni le campane non erano usate nei monasteri buddhisti. La visita di Shakyamuni a Kapilavastu, la conversione di Sudatta, l'uomo più ricco del Kosala, sicuramente suscitò scalpore persino negli altri regni, in particolare nel paese nativo di Shakyamuni, Kapilavastu, che dipendeva politicamente dal Kosala. Si dice che Shakyamuni sia tornato a casa per la prima volta dopo aver completato la propagazione della legge nello stato del Magada. Ma come avviene spesso con gli eventi della sua vita, fonti diverse indicano per quella visita date molto diverse, una la pone due anni dopo la sua illuminazione, altre sei o persino dodici anni dopo. Tutto quello che possiamo dare per certo è che tornò a casa dopo aver passato del tempo a predicare nel Magada, dopo aver assistito a un'ampia accoglienza della legge in quella zona e aver gettato solide basi del suo nuovo ordine religioso. Quella non fu l'unica volta che Shakyamuni visitò Kapilavastu, naturalmente. Durante i 45 o 50 anni della sua predicazione, vi si recò sicuramente molte volte, soprattutto in virtù del fatto che continuava le sue attività di propagazione nel vicino stato del Kosala. Queste visite successive, comunque, non potevano eguagliare, per significato e impatto emotivo, il suo primo ritorno, sia per lui sia per i membri della sua famiglia. Stava tornando a casa ad affrontare suo padre e i parenti non da uomo comune, ma da Buddha, da illuminato. A quanto pare la notizia del suo conseguimento della buddità aveva raggiunto Kapilavastu prima di lui. Ma gli Shakyamuni erano per natura un popolo piuttosto orgoglioso e inflessibile, conservatore nella visione religiosa e incline a mantenere salde le convenzioni del bramanesimo e dei culti locali della regione. Anche se la famiglia di Shakyamuni e i capi tribù accolsero con calore e cortesia quest'uomo che una volta era stato il principe e l'erede del loro regno, non sembrarono molto ricettivi rispetto alle dottrine che insegnava. Secondo le scritture, egli convinse i suoi parenti ad ascoltare seriamente ciò che aveva da dire solo dopo aver dato dimostrazione di vari poteri mistici. Poi si mise a propagare la legge a ciascuno di loro e alla fine riuscì a convertirne un buon numero. Il primo a convertirsi fu il padre di Shakyamuni, il re Shudodana, insieme al figlio di Shakyamuni, Raula, e al fratellastro più giovane, Nanda. Nelle successive visite nella regione, Shakyamuni si conquistò altri importanti discepoli, come Upali, Aniruddha, Ananda e Devadatta, di cui parleremo in seguito. Raula era ancora adolescente al tempo della conversione, in seguito divenne un importante discepolo e fu apprezzato come il primo tra coloro che amano praticare l'autodisciplina. Poiché era solo un bambino piccolo quando Shakyamuni rinunciò alla famiglia e se ne andò da Capilavastu, non aveva alcun ricordo del padre. Si tramanda che sia stata la principessa Yashodara a organizzare il suo incontro con il padre, anche se lei stessa rifiutò di parlare con l'ex marito. Shakyamuni affidò il figlio alle cure di Shariputra, che lo stava accompagnando nella sua visita a casa, e Raula fu nominato novizio dell'ordine. In seguito si unì al padre nella predicazione della legge e ricoprì un ruolo molto attivo nella diffusione della nuova fede. Un terzo membro della famiglia di Shakyamuni, il fratellastro minore Nanda, si convertì in occasione della sua prima visita a Capilavastu. Dopo che Shakyamuni ebbe rinunciato alla vita secolare e se ne fu andato dal regno, Nanda aveva preso il suo posto come erede del re Shuddodana, e stava per sposare la bella principessa Sundari quando Shakyamuni riapparve a Capilavastu per predicare la legge. Le circostanze in cui fu convinto a rinunciare alla sua pretesa al trono, ad annullare l'imminente matrimonio e a entrare nell'ordine buddista non sono del tutto note, anche se non si può evitare di provare un po' di dispiacere per il giovane, considerando il modo repentino in cui la sua vita fu sconvolta dalla comparsa del fratello maggiore. Si dice che dopo essere diventato monaco egli non riuscì a eliminare i pensieri del mondo secolare dalla mente e fu tormentato dal dubbio, questo suggerisce che forse la decisione di entrare nell'ordine non era stata presa del tutto liberamente. Con l'aiuto dell'attenta guida e istruzione di Shakyamuni, comunque, alla fine Nanda si liberò dai desideri terreni e dedicò tutte le sue energie alla pratica della via. A Nanda, nel tempo, parecchi membri della tribù Shakyamuni divennero discepoli e ardenti sostenitori di Shakyamuni. Ananda, Anruddha e Devadatta si convertirono all'ordine dopo la prima visita di Shakyamuni nel paese natale. Tutti e tre erano suoi cugini, e Ananda e Devadatta erano fratelli. A quanto sembra, praticamente tutti i membri più giovani della tribù Shakyamuni e divennero buddhisti. Il più illustre dei tre fu Ananda, che divenne il discepolo prediletto di Shakyamuni e suo fedele accompagnatore per gli ultimi venticinque anni della sua vita. Definito il primo nella protezione della legge, Ananda era dotato di una memoria infallibile, che gli permetteva di recitare a mente i sermoni e le dichiarazioni del Buddha. Non è noto il momento esatto in cui Ananda si convertì, ma data la sua relativa giovinezza, difficilmente pote avvenire durante la prima visita di Shakyamuni a Kapilavastu. Più probabilmente avvenne circa vent'anni dopo l'illuminazione di Shakyamuni. Ananda al tempo aveva poco più di vent'anni. Poiché fu tra i discepoli più importanti, ci sono molti aneddoti che lo riguardano. Insieme a Makashyapa, egli giocò un ruolo fondamentale nelle attività dell'ordine dopo l'ingresso del Buddha nel Nirvana ed è particolarmente famoso per aver recitato tutti i sutra a memoria durante il primo concilio buddista. L'aspetto peculiare di questo episodio è che Ananda sulle prime fu escluso dal concilio col pretesto che lui solo, tra tutti e cinquecento i discepoli del Buddha che si erano riuniti per riordinare gli insegnamenti del loro maestro, non aveva raggiunto la condizione di Arath. Ananda, profondamente angustiato, si abbandonò a una intensa meditazione e si dice che sia diventato un Arath la mattina del giorno in cui il concilio doveva iniziare i suoi lavori, grazie a questo evento fu subito ammesso da Makashyapa. Questo aneddoto ci fa capire che Ananda era trattato con un certo distacco e freddezza dai membri più anziani ed esperti dell'ordine. Ci viene anche riportato che proprio il meticoloso Makashyapa era critico sulla condotta di Ananda, egli lamentava che, nel suo ruolo di servitore personale di Shakyamuni, Ananda non riuscisse a manifestare la reverenza dovuta nei confronti del Buddha. Makashyapa lo rimproverava anche per il ruolo che aveva avuto nell'accettazione delle donne nell'ordine. È probabile che ci fossero aspetti della personalità e del comportamento di Ananda che giustificavano simili critiche. Sono incline a credere, tuttavia, che almeno parte dell'animosità mostrata nei confronti di Ananda dai membri più anziani dell'ordine fesse motivata dal fatto di essere il fratello di Devadatta. Devadatta, come vedremo, causò immensi problemi a Shakyamuni e all'ordine nel suo insieme, arrivando infine ad attentare persino alla vita del Buddha. Forse fu una naturale conseguenza che gli altri membri dell'ordine, nonostante i suggerimenti della loro natura più illuminata, nutrissero sentimenti negativi verso Ananda. Un altro fattore che può aver contribuito al sentimento generale di diffidenza fu la gelosia che egli suscitava per il suo stretto legame con il Buddha. Ma bisogna anche considerare l'atteggiamento di Ananda verso le donne. Le scritture dicono che spesso ponesse domande a Shakyamuni riguardo sulle donne, e fu grazie alle sue costanti richieste che le donne alla fine furono ammesse nell'ordine e fu creata la categoria della Bikkuni, o monaca buddista. Questo, non occorre dirlo, rese Ananda molto popolare tra le monache, se permettete l'espressione forse un po' frivola, ma è possibile che i membri maschi più anziani dell'ordine non abbiano digerito la cosa. In ogni caso, qualunque sentimento di indidia, disapprovazione oppura soggezione Ananda possa aver suscitato tra i compagni monaci, egli rimase costantemente al fianco di Shakyamuni come suo discepolo prediletto. Se il suo atteggiamento verso le donne e le accuse sollevate da Amakashiapa contro di lui indicano nel suo temperamento un certo anticonformismo e una mancanza di misura, al tempo stesso sono certo che egli fosse una persona cordiale e dalla natura mite. Altrimenti avrebbe difficilmente potuto ricoprire il ruolo di assistente personale di Shakyamuni per 25 anni. Shakyamuni aveva avuto altri assistenti prima di Ananda, ma non li aveva tenuti con sé per molto tempo. Non vi è dubbio che tra tutti i suoi assistenti, Ananda fu quello al quale si sentì più legato. Upali e Aniruddha, gli altri eminenti discepoli provenienti dal regno degli Shakyamuni Upali e Aniruddha, entrambi considerati tra i dieci principali discepoli del Buddha. Upali fu apprezzato come il primo nell'osservazione dei precetti Vinaya, mentre Aniruddha fu il primo nella percezione divina. Upali era un'eccezione tra i dieci principali discepoli per una ragione precisa. Mentre gli altri erano tutti ex studenti di Brahmanesimo o provenivano dalla famiglia reale degli Shakyamuni, Upali proveniva da un ambiente e una condizione sociale molto più umini, essendo stato in origine un barbiere alla corte di Kapilavastu. Si racconta che Shakyamuni nutrisse un'alta considerazione per Upali e lo trattasse con grande rispetto, un fatto che mi sembra importante sottolineare. Hiromoto Mizuno, insieme ad altri studiosi buddisti, ha ipotizzato che Shakyamuni avesse deliberatamente adottato un atteggiamento rispettoso e quasi protettivo verso Upali nel tentativo di combattere i pregiudizi profondamente radicati verso le persone comuni. Pregiudizi che erano diffusi nel clan degli Shakyamuni. Shakyamuni desiderava dimostrare che il buddismo è fondamentalmente egualitario e che nell'ordine buddista le tradizionali distinzioni di classe e casta non trovano riconoscimento. Le uniche differenze di grado tra i discepoli erano quelle basate sull'anzianità di appartenenza all'ordine. I monaci che erano stati ordinati all'inizio della missione di propagazione di Shakyamuni avevano quindi la precedenza su quelli che erano entrati nell'ordine in seguito. Tra Upali e i tre giovani nobili della famiglia Shakyamuni, Aniruddha, Ananda e Devadatta, che si convertirono in gruppo, Upali fu il primo a ricevere l'ordinazione e quindi era considerato più anziano di Aniruddha e Ananda. Questo ci fa capire che Shakyamuni verificava con attenzione che il basilare principio buddista dell'uguaglianza si riflettesse nel funzionamento dell'ordine. In risposta a un simile trattamento premuroso, Upali fece del suo meglio per essere all'altezza delle aspettative di Shakyamuni, diventando con il tempo un membro straordinario dell'ordine e distinguendosi per lo zello senza uguali con cui osservava le regole della disciplina. Insieme a Upali, anche Aniruddha fu una figura di straordinario interesse. Fu definito il primo nella percezione divina, perché, seppur cieco, aveva straordinari poteri di discernimento. Vi è un resoconto interessante, anche se in un certo senso curioso, sul modo in cui perse la vista. Cugino di Shakyamuni, era entrato nell'ordine pieno di ardore e determinazione. Un giorno, ascoltando una predica del Buddha sulla legge, si addormentò e per questo fosse veramente rimproverato da Shakyamuni. In seguito a quell'episodio determinò di non commettere mai più una simile offesa, non sappiamo esattamente quale metodo impiegò per assicurarsi di non addormentarsi mai, ma deve essere stato piuttosto drastico, perché Aniruddha lo portò avanti con una determinazione talmente inflessibile da arrivare alla cecità. Non posso dire fino a che punto sia da considerarsi credibile una storia del genere. Se è vera, indica sicuramente che nelle questioni relative alla legge, Aniruddha fu una persona dalla determinazione inflessibile. Gli altri discepoli membri della famiglia degli Shakyamuni, ma a Praia Pati, prima monaca a essere ammessa nell'ordine, e suo cugino Devadatta, che in seguito gli si rivoltò contro e sul quale avremo molto da dire nei capitoli che seguono. 7 Lo sviluppo dell'ordine, gli altri discepoli principali, abbiamo già parlato della maggior parte dei dieci principali discepoli di Shakyamuni. Ne rimangono però altri tre che vale la pena di menzionare, Purna, Katiaiana e Subotti. Purna era apprezzato come il primo nel propagare la legge. Senza rivali per l'eloquenza con la quale riusciva a esporre la dottrina, proveniva da un ambiente piuttosto diverso da quello di gran parte degli altri discepoli principali. Non era né un bramano, né un aristocratico, ma come Sudatta apparteneva alla classe dei ricchi mercanti e aveva accumulato un'enorme fortuna grazie al commercio e agli scambi. Purna non era nativo dell'India centrale, dove si concentravano le attività di propagazione di Shakyamuni, ma proveniva da una città portuale dell'India occidentale situata a nord della città odierna di Mumbai e quindi lontana dal raggio di influenza buddista dell'epoca. Ci si potrebbe chiedere in che modo un uomo impegnato nel commercio, e che viveva in una zona così lontana dall'attività buddista, potesse essere diventato un discepolo di Shakyamuni. Si racconta che l'incontro con il buddismo avvenne in questo modo, Purna era ben conosciuto tra i mercanti, e la sua fama era arrivata fino a Shravasti, la capitale del Kosala. Alcuni mercanti di Shravasti, conoscendo la sua reputazione, si presentarono a casa sua sulla costa per chiedergli se voleva unirsi al loro gruppo per un viaggio d'affari. Sicuramente avevano pensato che grazie all'esperienza di Purna avrebbero potuto ricavare un grande profitto. Purna consentì subito e il gruppo partì. Si dà il caso che quei mercanti di Shravasti fossero tutti laici convertiti al buddismo e durante il viaggio si riunivano regolarmente in gruppo per recitare le loro preghiere. Non sappiamo esattamente quale forma di devozione ci fosse a quel tempo, anche se si presume che includesse una recitazione reiterata degli insegnamenti di Shakyamuni. Purna, spinto dalla curiosità, chiese cosa stessero facendo, e i mercanti gli raccontarono di Shakyamuni e dei suoi insegnamenti. Purna rimase profondamente colpito e al termine di quel viaggio partì subito per Shravasti, dove sentì personalmente il Buddha predicare e decise di diventare un membro dell'ordine. Non si può fare a meno di domandarsi se la provenienza dal mondo dei commerci di Purna avesse qualcosa a che fare con la sua abilità, ampiamente riconosciuta, nel predicare la legge. La sua grande esperienza nel commercio, a quel tempo un campo sicuramente difficile, gli aveva probabilmente insegnato molto sulla natura umana e, come ogni buon uomo d'affari, aveva imparato a leggere i pensieri delle persone con cui trattava. Negli anni successivi, quando si dedicò alla propagazione della legge, utilizzò queste abilità adattando con perizia i suoi discorsi alle capacità del suo pubblico ed esponendo gli insegnamenti del Buddismo in modo tale da lasciare su chi ascoltava un'impressione profonda. Era un leader persuasivo che, essendo cresciuto tra le persone comuni ed essendosi guadagnato da vivere in mezzo a loro, sapeva bene come far giungere il messaggio del Buddha fino a loro. Katiajana, noto anche come Ma Katiajana, era nativo di Uyayini, la capitale dello Stato dell'Avanti. Bramano di nascita, occupava la posizione di consigliere religioso e segretario particolare del sovrano di quello Stato. Non abbiamo indicazioni che lo stesso Shakyamuni si sia mai recato nell'Avanti, situato nella parte occidentale dell'India centrale, eppure questo Stato è menzionato spesso nei Sutra e in altre scritture buddiste, probabilmente a causa delle attività di Katiajana. Fu il primo nativo dell'Avanti a diventare un discepolo del Buddha ed era considerato il primo nei dibattiti. Come Purna, anche egli si convertì a Shavrasti, dove era stato mandato dal regnante dell'Avanti, che aveva sentito parlare del Buddha. Al monastero di Getavana ebbe occasione di ascoltare Shakyamuni predicare la legge e ne fu colpito al punto di decidere sul momento di diventare un membro dell'Ordine. Shakyamuni successivamente lo rimandò nell'Avanti, dove Katiajana riuscì a convertire il re e molti altri alla nuova fede, sembra sia stato un abile teorico, particolarmente esperto nel categorizzare e sistematizzare i vari discorsi del Buddha e nel presentarli in una forma lucida e penetrante. Subuti, l'ultimo dei grandi discepoli di cui parlerò in questo capitolo, al confronto degli altri membri del gruppo viene stranamente presentato come privo di contorni e di personalità. Si potrebbe onestamente dire che il suo tratto distintivo sia la mancanza di caratteristiche particolari. Scarseggiano gli aneddoti legati alla sua persona, e ci si potrebbe chiedere come possa essere finito nel novero dei dieci principali discepoli. Nei secoli successivi fu considerato il primo nella comprensione della dottrina della non sostanzialità sciugnata, anche se mi chiedo se questo sia esatto. Nei Sutra della Saggezza, che trattano di questa dottrina, Subuti è definito dal Buddha come colui che ha compreso nella maniera più chiara la dottrina della non sostanzialità. E tuttavia, in confronto a uomini come Shariputra e Maud Gagliaiana, non si può dire sia stato una figura autorevole nell'ordine, come invece sarebbe dovuto essere se era davvero il primo nel comprendere la dottrina della non sostanzialità. Per spiegare questa evidente discrepanza, il noto studioso buddista Fumio Masutani suggerisce che Subuti fosse un discepolo illustre non tanto perché avesse compreso profondamente la dottrina metafisica, quanto per la sua personalità equilibrata e compiuta. Era nipote di Sudatta, il ricco filantropo che donò il monastero di Getavana a Shachiamoni e ai suoi seguaci, ma nonostante questa relazione, il suo ruolo nelle attività dell'ordine sembra essere stato modesto. Forse, circondato da uomini di maggior vivacità intellettuale e forza di carattere, il tollerante e mite Subuti ebbe una funzione di ammortizzatore all'interno dell'ordine. È possibile che Shachiamoni abbia deliberatamente elevato quest'uomo gentile e modesto a modello per gli altri membri dell'ordine, sperando che il suo esempio esercitasse un'influenza benefica. Anche se possiamo basarci solo su leggende e aneddoti sparsi per formarci un'opinione, esaminando i resoconti relativi a questi grandi discepoli di Shachiamoni non possiamo far a meno di rimanere colpiti dalla natura disparata delle loro personalità, dalla diversità dei loro talenti e risorse e dal modo straordinario in cui Shachiamoni riuscì a valorizzarli. Le persone tendono naturalmente a gravitare intorno a quelle figure di cui apprezzano la personalità o che possiedono abilità e tratti simili ai propri. Ma nessuno che, anche solo inconsciamente, riveli una simile parzialità può essere definito un leader nel vero senso della parola. Il vero leader è colui che sa abilmente sviluppare il potenziale di ogni tipo di persona, persino in coloro che differiscono radicalmente da lui o che sono incompatibili con il suo carattere, e che è in grado di valorizzare ogni individuo per creare una comunità ben equilibrata e armoniosa. Shachiamoni fu uno straordinario esempio di leader di questo tipo, proprio perché, a mio parere, il suo metodo per sviluppare le diverse risorse delle persone che lo seguivano era basato su una comprensione d'insieme della natura umana in tutti i suoi molteplici aspetti. La città di Shravasti, Purna, Katiajana e Subuti furono tutti convertiti da Shachiamoni nella città di Shravasti, anche se solo Subuti era nativo di quella città. Gli altri due erano invece arrivati da lontano per ascoltare i sermoni di Shachiamoni. Questo suggerisce il ruolo importante che la città stessa giocò come centro delle attività buddiste. Le traduzioni cinesi delle scritture parlano dei 300.000 di Shravasti, anche se è argomento di dibattito se questo possa essere considerato un conteggio preciso della popolazione. Si dice che un terzo della popolazione di Shravasti frequentò i sermoni di Shachiamoni, un terzo ne ascoltò gli insegnamenti anche se non lo vide mai, e un terzo non lo vide ne ebbe mai sue notizie. Questo suggerisce che ben oltre la metà della popolazione della città si fosse convertita o fosse comunque ben disposta verso il buddismo, e questa congettura è avvalorata da altre fonti, possiamo quindi dedurre che l'opera dell'ordine buddista ebbe un grande impatto sulla città. Perché il buddismo era così diffuso e accettato a Shravasti? Shachiamoni e i suoi discepoli sulle prime avevano concentrato la loro attività sulla città di Raya Gria nel Magada, per poi allargarla a Shravasti, più a nord, in un periodo successivo. Secondo una teoria, il rapido sviluppo del buddismo a Shravasti fu inizialmente dovuto in gran parte agli sforzi del ricco mercante Sudatta, che tornò in città dopo essersi convertito a Raya Gria. In qualità di primo credente buddista della città, egli gettò le basi su cui sarebbe poi fiorita e si sarebbe diffusa la fede. Abbiamo visto che egli comprò un appezzamento di terra dal principe ereditario dello stato e vi costruì il monastero di Getavana, fornendo un luogo dove i membri dell'ordine potevano trascorrere la stagione delle piogge. Vi è una netta demarcazione tra la stagione secca e la stagione delle piogge in India, ed è pratica comune calcolare il tempo in base alle stagioni delle piogge invece che agli anni. Dopo che Sudatta ebbe costruito per loro il monastero di Getavana, Shakyamuni e i suoi discepoli iniziarono a trascorrere abitualmente lì la stagione delle piogge, studiando e meditando. Negli anni successivi questo ritiro monsonico a Shravasti divenne un centro per le attività di propagazione di Shakyamuni. Ma, come attestano le fonti, si dovettero affrontare molte difficoltà e imprevisti prima che il buddismo riuscisse a diventare la religione dominante a Shravasti. Shakyamuni affrontò numerosi attacchi e persecuzioni nel corso della sua vita, le più conosciute delle quali sono le cosiddette nove grandi persecuzioni. Queste includono la sleale macchinazione ordita da Devadatta e le azioni ostili rivolte contro l'ordine durante i primi giorni a Shravasti. Sono stati formulati vari motivi del perché Shakyamuni fosse soggetto a simili persecuzioni, ma non vi è dubbio che doveva avere a che fare con la situazione religiosa nel Kosala a quell'epoca. Poco prima dell'avvento di Shakyamuni sia il Kosala sia il Magada avevano improvvisamente acquisito importanza politica. Nelle loro capitali arrivavano i leader delle nuove sette bramaniche, come i sei maestri non buddhisti che risiedevano a Raya Gria, e vari asceti erranti. La scena religiosa era dominata dal fermento delle loro nuove idee e teorie. Allo stesso tempo, i bramani tradizionali continuarono a essere estremamente rispettati alle corti dei regnanti di quegli stati, anche se le loro attività erano diventate convenzionali e in prevalenza riguardavano questioni rituali. In simili circostanze non sorprende che Shakyamuni incontrasse l'opposizione degli altri gruppi religiosi a causa dei suoi sforzi di propagazione della legge. Anche se Shakyamuni e i suoi discepoli avevano posto la base delle loro attività presso il monastero di Getavana, l'atmosfera che li circondava non era assolutamente amichevole. Anzi, i bramani ricorsero a ogni genere di espedienti per screditare Shakyamuni e i suoi insegnamenti. Uno di questi complotti coinvolse una cortigiana di nome Kinsha, che finse di essere incinta e sostenne che Shakyamuni era il padre del bambino. In un altro episodio i bramani, dopo aver diffuso voci che collegavano Shakyamuni a una cortigiana di nome Sundari, fecero uccidere la donna e sparsero la diceria che la sua morte fosse opera dei monaci buddhisti. A tanto erano disposti ad arrivare nello sforzo di mantenere il proprio potere e la propria posizione, combattendo ciò che consideravano una minaccia per sé stessi. Tuttavia, Shakyamuni riuscì a sopportare e superare tali ostacoli, conquistando le persone con il potere della verità e della ragione e aprendo la strada alla propagazione della legge. Ogni rivoluzione ha la sua controrivoluzione, e ogni nuova religione umanistica è destinata ad affrontare attacchi inauditi da parte dei poteri costituiti che dominano la società. I maestri di una nuova religione, tuttavia, devono avanzare con determinazione, fiduciosi nel futuro e pronti a perseverare di fronte alla critica e all'ingiuria. I resoconti delle attività Ashravasti, dove, alla fine, la maggioranza degli abitanti accolse gli insegnamenti buddisti, mostrano che l'ampia propagazione fu dovuta agli sforzi coraggiosi di Shakyamuni e dei suoi discepoli. Le scritture registrano un altro aneddoto che illustra il tipo di opposizione e ostilità che la nuova religione si trovò ad affrontare da parte dei gruppi religiosi più radicati. Esso riguarda il confronto tra Shakyamuni e un bramano che viveva Ashravasti e venerava il dio del fuoco Agni. Costui era noto per essere estremamente rigido nelle questioni riguardanti le caste. Quando vide Shakyamuni chiedere l'elemosina, lo definì immediatamente un monaco indegno e modesto, come era solito fare ogni volta che incontrava un mendicante non bramano. Shakyamuni rispose alle sue parole di offesa dicendo, «Nessuno è bramano per nascita, nessun immarginato lo è di nascita. Un immarginato diventa tale con le proprie azioni, un bramano diventa tale con le proprie azioni». A mio parere questa risposta riassume molto bene l'atteggiamento buddista verso il sistema di caste e classi. Un emarginato diventa tale con le proprie azioni, un bramano diventa tale con le proprie azioni, in altre parole, il vero valore di una persona è determinato non in base alla nascita, ma al tipo di vita che conduce. Questa dichiarazione dimostra che 2500 anni fa veniva predicata un'etica molto pragmatica, dall'accento estremamente moderno. Indica anche chiaramente che, secondo il buddismo, lo stile di vita di un individuo ha la priorità su qualunque distinzione gerarchica imposta dal sistema sociale dell'epoca. Alcuni studiosi, notando che Sciacchiamuni rigettava le distinzioni dettate dal sistema di caste, si chiedono perché non abbia fatto un passo oltre e non si sia attivamente impegnato per rovesciare quel sistema. Trovano anche piuttosto riprovevole che non si sia dimostrato più risoluto nel suo rifiuto di caste e classi. Ma simili critiche non prendono in considerazione la vera natura della missione di Sciacchiamuni. In fondo egli non era un agitatore sociale o un riformatore, ma il fondatore di una nuova religione, la cui principale preoccupazione era la propagazione della legge. Egli cercò di guardare oltre la facciata della struttura sociale e dell'organizzazione per osservare i mali fondamentali che assediano l'umanità ed escogitare alcuni mezzi efficaci con cui liberare le persone dalle loro sofferenze. Con questo obiettivo in mente, avviò un sistema universale di verità e valori etici che trascendeva la società e l'epoca in cui visse. Il sistema, o forse si dovrebbe dire lo stile di vita, che egli insegnò negava la validità delle distinzioni di classe e caste che dominava nella società indiana dell'epoca, ma questo non significa necessariamente che lo stesso Sciacchiamuni fosse obbligato a portare avanti un programma di riforme sociali. Egli si concentrò sulla definizione dei principi e delle premesse di base secondo cui le persone avrebbero dovuto vivere e lasciò ai suoi seguaci il compito di riflettere se quei principi potessero essere adatti all'ordine sociale esistente o se necessitassero di qualche tipo di riforma sociale. Troppo spesso, mi sembra, noi cerchiamo di comprendere l'individuo riferendoci esclusivamente alla società e al periodo che lo generò, invece di operare in maniera opposta. Così, con Sciacchiamuni, ci interroghiamo sul suo atteggiamento verso le istituzioni sociali e i mali del suo tempo e, sulla base delle risposte a cui arriviamo, tentiamo di ipotizzare che tipo di persona fesse. Nel caso di Sciacchiamuni, e in senso più ampio di tutti i grandi leader religiosi, un approccio di questo tipo è inappropriato. Sciacchiamuni e gli uomini come lui sono principalmente interessati non alle istituzioni sociali, ma ai problemi fondamentali dell'esistenza e del valore umano. Solo quando li consideriamo alla luce delle loro risposte a queste domande essenziali possiamo valutarli correttamente. È bene ricordare che Sciacchiamuni non solo espresse apertamente la sua disapprovazione per le tradizionali distinzioni di classi e caste, ma all'interno dello stesso ordine religioso da lui fondato applicò un approccio fortemente egualitario. Come dimostrato in precedenza, nell'organizzazione e nel funzionamento quotidiano dell'ordine buddista le questioni di razza, casta o classe erano completamente ignorate. Tutti i membri si trovavano sullo stesso piano, a prescindere che fossero nati i bramani, Kshatriya, Vaishya o Shudra. Anche se Sciacchiamuni non provò a realizzare una radicale riforma sociale che spazzasse via il sistema vigente, egli fondò all'interno della società dell'epoca un'organizzazione che rifiutava qualsiasi distinzione di classi e caste, sicuramente un atto che può essere considerato un passo avanti nella direzione di una futura riforma sociale. Tornando all'argomento delle attività buddiste nella città di Shravasti, dovremmo notare che oltre al monastero di Getavana esisteva alla periferia della città un'altra sede buddista. Era la sala di Marigara Matri, che si trovava a est del monastero di Getavana. La sala fu donata all'ordine da una devota di nome Vishaka. Figlia di un uomo ricco dello stato di Anga, da giovanissima divenne una fervente devota del buddismo. In seguito sposò un ricco mercante di Shravasti. In occasione del suo matrimonio, lo sposo invitò 500 asceti bramani nudi affinché contribuissero a rendere solenne la cerimonia, ma lei sollevò forti obiezioni e li fece mandare via. Poi iniziò a esporre allo sposo e ai genitori di lui gli insegnamenti di Shakyamuni e convertì l'intera famiglia. Deve essere stato piuttosto insolito in quei giorni che una sposa che entrava per matrimonio in una famiglia di fede religiosa differente parlasse con tale coraggio, e che oltre a ciò riuscisse a conquistare tutti i suoi parenti acquisiti grazie alla propria convinzione. Era chiaro che era una donna di forte carattere e un modello di dedizione alla propagazione. La famiglia del marito, il cui cognome era Marigara, rimase profondamente impressionata dal suo fervore religioso e la definì matri, ovvero madre, per la sua maggiore anzianità nella fede. Così lei arrivò a essere conosciuta come Marigara matri persino tra i comuni cittadini di Shravasti, dai quali era ammirata e rispettata. Con il tempo e con l'aiuto di sostenitori devoti come Sudatta e Marigara matri, l'ordine buddista superò le iniziali opposizioni e ostilità e diffuse i suoi insegnamenti tra i cittadini di Shravasti. Un episodio che contribui in maniera diretta a questo processo, e che ci dà molto da pensare ancora oggi, fu la conversione del re Prasenait, il sovrano del Kosala. Sembra che si fosse convertito al buddismo relativamente presto e che divenne un devoto mecenate di questa fede dopo aver osservato lo straordinario rispetto e reverenza con cui Shakyamuni veniva trattato dalla gente comune del suo regno. Nell'India antica il livello più alto di rispetto era tradizionalmente riservato ai capi di stato e ai sacerdoti bramani. Tuttavia, come osservò con i suoi stessi occhi il re Prasenait, Shakyamuni era stato capace di ispirare tra i suoi seguaci un amore di un rispetto che trascendevano di gran lunga quello riservato a qualunque monarca terreno. Alla fine il re si ritrovò a provare per il Buddha dei suoi insegnamenti lo stesso tipo di reverenza. Questa è un'ulteriore prova che la legge è in grado di penetrare nel cuore delle persone e di appassionarle in un modo che la sola ricchezza e l'autorità temporale non saranno mai in grado di fare. Ci sono molti altri racconti sulle attività di proselitismo di Shakyamuni a Shravasti, e questo non sorprende dato che molti dei suoi abitanti erano stati conquistati dal Buddismo. Tra le storie più vivaci venne una che tratta della conversione del famigerato brigante Angulimala. Nelle traduzioni cinesi delle scritture viene spesso definito collana di dita, un nome curioso che deriva dal fatto che era solito indossare una collana ornamentale composta dalle dita mozzate delle persone che aveva ucciso. Bramano di nascita in precedenza studente di Bramanesimo, si diceva che fosse stato ingannato e tradito dal suo maestro e dalla moglie di questi e che in seguito si fosse dedicato a una vita malvagia, disseminando terrore tra la popolazione del tempo. Le scritture danno un resoconto estremamente drammatico di come Shakyamuni, determinato a salvare il giovane, andasse a cercarlo. Il giovane tentò di aggredire Shakyamuni, ma questi si difese con vari poteri magici e alla fine lo convertì. La storia di Angulimala ha sicuramente lo scopo di illustrare che persino la persona più malvagia e immorale può essere salvata grazie alla grande compassione del Buddha. Indica anche che la vera religione non porta solamente consolazione allo spirito, ma è una forza attiva e vitale che non esita a tuffarsi in mezzo ai pericoli e alle brutture del mondo reale per salvare le persone di ogni tipo dalla sofferenza. Gestione dell'ordine, dopo aver fissato il punto di riferimento presso il monastero di Getavana Ashravasti, l'ordine buddista pare essersi diffuso in una zona molto ampia dell'India. Numerose fonti indicano che, oltre Ashravasti e Raya Gria, il buddismo era ben sviluppato a Shacheta, Varanasi, Vaishali, Kaushambi e Uyaini, tutti centri situati lungo i tratti centrali del fiume Gange. Da questo si può dedurre che Shakyamuni e i suoi discepoli fecero proselitismo soprattutto nell'India centrale, insegnando nelle città e nei villaggi lungo le rotte delle carovane. Nelle città appena menzionate i cittadini sostennero il buddismo, anche se forse non con lo stesso entusiasmo degli abitanti di Shravasti, e donarono monasteri. Questi ultimi includono il Saptaparnagua, o Caverna delle Sette Foglie a Raya Gria, dove in seguito si tenne il primo concilio buddista, il monastero della Grande Foresta vicino a Vaishali e il monastero del Parco dei Cervi a Varanasi. Da ciò si può ipotizzare che queste città funsero da centri per la propagazione del buddismo nell'India centrale. Mentre i convertiti e i monaci erranti crescevano di numero e altri centri di attività buddista venivano inaugurati, divenne necessario stabilire regole e precetti per la gestione dell'ordine. Si dice che negli anni della maturità Shakyamuni, pur continuando a propagare la legge, abbia molto riflettuto sui problemi amministrativi legati alla gestione dell'ordine buddista. Inizialmente l'ordine era semplicemente una comunità di monaci, poi si aggiunsero le monache e infine altri due gruppi, quelli dei credenti laici, uomini e donne. Così l'ordine arrivò a essere costituito da quattro assemblee, i biccu, monaci, le biccuni, monache, gli upasaca, laici, e le upasica, laiche. Non sappiamo con certezza quali regole e precetti Shakyamuni ideò esattamente per gestire l'ordine. Le fonti elencano 250 precetti per i monaci e 500 precetti per le monache, ma sembra che questi siano stati compilati in seguito. È dubbio che regole di disciplina così complicate esistessero al tempo di Shakyamuni, anche se vi erano sicuramente regole dettagliate per la nomina di monaci e monache e per le altre cerimonie dell'ordine. Sappiamo ad esempio che tutti i membri dell'ordine avevano la prescrizione di osservare il massimo rispetto verso i tre tesori, cioè il Buddha, la legge e la comunità dei credenti, sangha, mentre nella pratica religiosa era posta enfasi sulla meditazione e sulla coltivazione della praina, o saggezza, come anche sull'osservanza dei precetti. Per i credenti laici furono fissati cinque precetti. Essi ordinavano al credente di non uccidere, non prendere ciò che non gli veniva donato, non commettere adulterio, non dire bugie e non assumere sostanze inebrianti. Ma questi precetti sembrano essere soprattutto misure morali che i credenti erano tenuti a osservare, piuttosto che una forma di pratica religiosa. La pratica religiosa fondamentale del credente, possiamo ipotizzare, comprendeva la contemplazione della legge, la coltivazione della saggezza e la riforma e il miglioramento personale. A giudicare dagli insegnamenti di Shakyamuni e da ciò che sappiamo del suo modo di propagare la legge, il suo approccio sembra essere stato piuttosto indulgente e tollerante. È quindi difficile credere che abbia prescritto i duecentocinquanta precetti per i monaci e i cinquecento per le monache che si ritrovano nelle scritture. Queste regole minuziose e talvolta intransigenti furono probabilmente redatte dopo il suo ingresso nel nirvana, forse perché i membri dell'ordine sentirono che solo in questo modo si sarebbe potuta mantenere una disciplina appropriata. Sfortunatamente quelle regole hanno indotto alcuni a ritenere erroneamente che il buddismo esiga dai suoi discepoli un comportamento severo. Shakyamuni stesso sembra essere stato un uomo dai pochissimi desideri e necessità, ma quando predicava agli altri non li costringeva a praticare un rigido ascetismo o a negare tutti i desideri. Al contrario, egli insegnò ai suoi discepoli a seguire una vita di moderazione, evitandosi all'edonismo sia una rinuncia estrema. La via di mezzo, come abbiamo visto, è una dottrina fondamentale del buddismo. E anche se ci si aspettava che il monaco o la monaca osservassero uno stile di vita più austero rispetto al credente laico, non ci si aspettava che né il monaco né il laico si distaccassero da questa idea centrale di moderazione. Nel primo periodo della predicazione di Shakyamuni, come abbiamo accennato in precedenza, le donne non erano ammesse all'ordine. Anche se un numero crescente chiedeva di potervi entrare, Shakyamuni aveva rifiutato quelle richieste e solo negli ultimi anni fu persuaso a cambiare idea grazie agli sforzi di Ananda. La prima donna a entrare nell'ordine Fuma a Praia Patti, la zia di Shakyamuni che fin dall'infanzia era stata per lui come una madre. Dato che durante l'intera vita Shakyamuni aveva insegnato l'uguaglianza di tutti gli esseri umani e ripudiato le tradizionali distinzioni di caste e classi, ci si chiede perché avesse una visione così chiaramente prevenuta verso le donne, escludendole per lungo tempo dall'ordine. Si tratta di una domanda difficile, che richiede senza dubbio uno studio approfondito da parte degli esperti prima di trovare una risposta adeguata. La mia sensazione personale è che egli non disprezzasse le donne nelle guardasse dall'alto in basso. In nessuno dei suoi insegnamenti troviamo una dichiarazione generale sulle donne o un qualunque segno che fossero da classificare a parte rispetto agli uomini. È interessante notare ciò che, secondo la tradizione, Shakyamuni aveva dichiarato riguardo ai doveri di un marito e di una moglie. Aveva osservato che una moglie avrebbe dovuto gestire la casa con competenza, trattare gli amici e i conoscenti del marito con rispetto, prendersi cura della proprietà ed essere virtuosa e diligente. Ma aveva anche dichiarato che era dovere di un marito essere gentile e fedele verso la moglie, riconoscerle la dovuta autorità nella gestione delle questioni di famiglia e comprarle abiti e ornamenti. Lungi dal suggerire che Shakyamuni avesse un qualunque pregiudizio di base verso le donne, la sua sembrerebbe una visione molto comprensiva e illuminata del ruolo della donna nel rapporto matrimoniale, perlomeno rispetto all'epoca. Si dovrebbe tenere presente che nell'antica India la posizione delle donne era in genere molto bassa. Persino nelle famiglie facoltose erano trattate appena meglio degli schiavi una volta che non procreavano più. E se non riuscivano ad avere eredi maschi, i loro mariti potevano divorziare con facilità. In una società che sottolineava costantemente la superiorità degli uomini rispetto alle donne, l'atteggiamento di Shakyamuni era innegabilmente progressista. Non di meno, quando si arrivò alle domande di ammissione alla posizione delle donne nell'ordine, la reazione di Shakyamuni fu sorprendentemente severa. Forse voleva proteggere i suoi discepoli dalla distrazione e assicurarsi che non ci fosse disturbo nella disciplina quotidiana e nella pratica religiosa. Era ansioso che i suoi seguaci, una volta diventati monaci, raggiungessero il livello di illuminazione che lui stesso aveva raggiunto, ma sapeva che questo richiedeva grande sforzo e concentrazione. I monaci avevano rinunciato alla vita secolare e avevano imboccato la strada verso una comprensione più alta. Per questa ragione dovevano essere protetti da qualunque influenza che potesse frustrare i loro sforzi e distoglierli dal loro percorso. A mio parere fu per questo tipo di preoccupazioni che Shakyamuni esitò così a lungo ad ammettere le donne nell'ordine. Nella letteratura buddista si trovano spesso allusioni alle donne come incarnazione dell'animalità o causa dei cinque ostacoli, ma queste espressioni, per quanto iperboliche, probabilmente avevano il semplice scopo di avvertire i monaci di evitare qualunque coinvolgimento sconveniente con le donne. Sappiamo dalla letteratura indiana del tempo che le donne erano considerate lussuriose e litigiose per natura. Infine, nelle scritture delle scuole buddiste mayana e in particolare nel Sutra del Loto, troviamo dichiarazioni esplicite sul fatto che le donne siano in grado di conseguire la buddita. È mio parere che questa dottrina abbia radici negli insegnamenti dello stesso Shakyamuni, che sottolineò l'uguaglianza di tutti gli esseri umani come verità fondamentale dei suoi insegnamenti. E il fatto che, su insistenza di Ananda, egli accolse le donne nell'ordine lo attesta con chiarezza. La rivolta di Devadatta, con l'ammissione di Maproyapati, l'ordine arrivò a includere monaci e monache, e il numero delle monache crebbe notevolmente negli anni della vecchiaia di Shakyamuni. Tra le più degne di nota ci furono Chema, la moglie del re Bimbisara, che tra le monache fu considerata la prima in saggezza, Utpalavarna, figlia di un mercante di Shravasti, ed Ammadina, che fu considerata la prima nella predicazione. Nel corso della crescita e dello sviluppo dell'ordine, avvenne un episodio molto grave. Si tratta della rivolta di Devadatta, che causò al Buddha una notevole ansia nei suoi ultimi anni. Devadatta era tra i nobili della tribù degli Shakyamuni visitò Kapilavastu. Cugino di Shakyamuni e fratello del famoso discepolo Ananda, Devadatta si convertì quando era appena ventenne e quindi aveva circa trent'anni meno di Shakyamuni. Lungi dall'essere un sovillatore, fu utile, insieme ad altri giovani nobili del clan degli Shakyamuni, per instillare vigore nell'ordine. I primi segni del suo tradimento vennero alla luce subito dopo una visita compiuta nella regione occidentale di Kaushambi. Sembra che Shakyamuni abbia compiuto diversi viaggi a Kaushambi, ma questo in particolare ebbe luogo trent'anni dopo la sua illuminazione. A quel tempo Devadatta, che in precedenza era stato schietto e onesto nella sua pratica religiosa, si fece corrompere da pensieri di ricchezza e celebrità. Ambizioni del genere hanno spesso corrotto le menti delle persone devote e Devadatta, nonostante la sua precedente onestà, dimostrò di non essere un'eccezione. Ossessionato dal sogno di strappare a Shakyamuni le redine dell'ordine, iniziò ad avvicinare Ayatashatru, figlio di Bimbi Sarare del Magada. Devadatta sapeva che il principe Ayatashatru era geloso del prestigio di cui godeva il padre e che era scontento perché questi non voleva lasciargli il trono. Così manipolò abilmente la frustrazione del principe e riuscì a conquistare la sua fiducia. Il giovane, a sua volta, fece molti regali a Devadatta, che causarono l'invidia degli altri membri dell'ordine. Shakyamuni ammonì subito i suoi discepoli per la loro meschinità. Ricordando loro che la passione per la fama e la ricchezza andava contro lo spirito buddista, predisse che i doni e le onorificenze del principe alla fine sarebbero stati la rovina di Devadatta. Shakyamuni aveva interpretato bene le ambizioni di Devadatta. In un primo tempo semplicemente invidioso dell'adulazione universale di cui godeva Shakyamuni da parte della gente che lo circondava, Devadatta era diventato sempre più geloso del Buddha e convinto di dover assumere in prima persona la guida dell'ordine. In presenza degli altri discepoli era persino arrivato a chiedere a Shakyamuni di ritirarsi e lasciare a lui la responsabilità dell'ordine buddista. Shakyamuni lo aveva rimproverato duramente, dichiarando che era fuori questione, non avrebbe affidato un simile ruolo neanche a discepoli straordinari come Shakyamuni, ancora meno a una persona come Devadatta. Fu un duro colpo per l'orgoglio dell'ambizioso Devadatta, in particolare rimase ferito perché Shakyamuni gli aveva detto che Shariputa e Maud Gagliaiana erano come torce luminose, mentre la sua mediocre intelligenza spargeva meno luce di una lampada notturna. Non essendo riuscito a ottenere la posizione che agognava, sembra che abbia perso del tutto la ragione e il buonsenso e che abbia iniziato a ordire complotti per sbarazzarsi di Shakyamuni. Per prima cosa, Devadatta incitò il principe Ayatashatru a ribellarsi contro il padre, mecenate e fedele i seguaci di Shakyamuni. Convinto che la longevità del padre gli avrebbe interdetto il trono per sempre, il principe fece imprigionare il vecchio re e lo lasciò morire di fame prendendo il suo posto come regnante del Magada. Secondo una versione alternativa della storia, il re scoprì in anticipo la cospirazione e, vedendo quanto il figlio fosse ansioso di regnare, gli lasciò volontariamente il trono. In ogni caso, grazie alle macchinazioni di Devadatta, Ayatashatru divenne il re del Magada e mecenate e sostenitore entusiasta di Devadatta. Il passo successivo di Devadatta fu un piano per attaccare Shakyamuni. Convinse il re ad assoldare degli assassini per uccidere Shakyamuni, ma quando gli assassini videro il Buddha, caddero ai suoi piedi in segno di venerazione. Devadatta tuttavia si fece ancora più spavaldo e, scegliendo il momento in cui Shakyamuni si trovava sul monte Gridracuta, conosciuto anche come picco dell'avvoltoio o dell'aquila, gli scagliò addosso una pietra dalla vetta. Solo un frammento della roccia colpì Shakyamuni, ferendolo superficialmente a un piede, ma l'episodio è significativo in quanto fu il primo tentativo di uccidere il Buddha compiuto dallo stesso Devadatta. Un'altra leggenda riporta che Devadatta liberò un elefante impazzito nella strada in cui Shakyamuni chiedeva l'elemosina, ma l'elefante, come prima i sicari, fu intimorito e soggiogato dalla presenza del Buddha e non gli fece alcun male. L'offesa più grave di Devadatta, comunque, fu il tentativo di seminare discordia nell'ordine, che fino a quel momento aveva goduto di grande armonia e unità di intenti. Devadatta patrocinò regole monastiche più severe di quelle ideate da Shakyamuni e in questo modo cercò di apparire superiore al Buddha. Tra le diverse fonti ci sono in proposito alcune discrepanze, ma i precetti a cui si richiamava Devadatta sono più o meno i seguenti. 1. I devoti dovevano dimorare nella foresta, lontani da villaggi o città, coloro che entravano nei villaggi o nelle città commettevano un'offesa. 2. I praticanti dovevano vivere solo di elemosina, coloro che accettavano inviti a banchetti commettevano un'offesa. 3. I praticanti dovevano vestirsi di stracci, coloro che accettavano abiti in dono commettevano un'offesa. 4. I praticanti dovevano dimorare sotto gli alberi e non sotto un tetto, coloro che si avvicinavano a una dimora con un tetto commettevano un'offesa. 5. I praticanti non dovevano mangiare la carne di animali o pesce, coloro che infrangevano questo precetto commettevano un'offesa. Il fatto che Devadatta potesse avanzare queste proposte è un chiaro segno del fatto che, come abbiamo detto prima, l'ordine buddista non praticava né giustificava pratiche austere o forme di disciplina estreme. In particolare, la prima proposta era una critica indiretta all'ordine, che usava il monastero di Getavana, il monastero del Boschetto di Bambù e altre strutture simili come sedi e rifugi durante la stagione delle piogge, mentre la seconda esprimeva disapprovazione per le considerevoli donazioni che venivano spesso offerte all'ordine da ricchi e influenti credenti mentre la fama di Shakyamuni si diffondeva tra la popolazione. Come indicano le sue proposte, avendo fallito con gli altri complotti, Devadatta stava cercando di creare dissenso all'interno dell'ordine fingendo di essere favorevole a pratiche molto più austere di quelle poste in essere fino a quel momento e spingendo i monaci e le monache a sostenere i suoi suggerimenti. Quello di Devadatta era un piano molto intelligente. Come aveva previsto, Shakyamuni non autorizzò l'applicazione di regole così severe e liquidò bruscamente le proposte. Devadatta, fingendo sdegno, si appellò allora agli altri membri dell'ordine perché lo sostenessero. Attratti dai principi di purezza e austerità a proposti dall'infido di Scepolo, sappiamo che circa 500 membri appena nominati lasciarono l'ordine e seguirono Devadatta sul monte Gaiashirsa, fu il primo scisma nella storia dell'ordine buddista. La morale di questo episodio è che gli uomini ambiziosi, proclamando principi altisonanti e cercando di apparire più puri nella fede delle persone intorno a loro, sono in grado di ingannare e deviare gli altri. Questo conferma il detto secondo cui non si può giudicare un uomo solo dalle sue parole. È una sfortuna che nella storia dell'umanità gli appelli a una maggiore purezza e alla fedeltà a principi più elevati siano così spesso impiegati da persone ipocrite come strumenti per fuorviare altri e portare avanti i propri piani. Sfruttando con intelligenza le debolezze psicologiche delle persone, Devadatta provocò uno scisma temporaneo all'interno dell'ordine. Shakyamuni, tuttavia, inviò i suoi più fidati discepoli, Shariputra e Maud Gagliaiana, a predicare ai dissidenti, e i 500 monaci compresero il vero obiettivo di Devadatta e tornarono presto all'ovile. Secondo la leggenda, quando Devadatta lo venna sapere, si infuriò a tal punto da tossire sangue, poco dopo morì. A causa dell'enormità delle sue azioni e del fatto che alla fine fallì miseramente, l'argomento della rivolta di Devadatta è ampiamente trattato nelle scritture buddiste. Nel capitolo Devadatta del Sutra del Loto, tuttavia, Shakyamuni predice la salvezza e l'illuminazione per il reprobo, dando avvio alla dottrina secondo cui anche la persona più malvagia può conseguire la buddhità. Nel Sutra del Loto il personaggio di Devadatta è usato per simboleggiare ciò che in realtà costituisce una tendenza universale degli esseri umani. L'ambizione e la passione per gli onori e la ricchezza che Spencer Devadatta a comportarsi in modo malvagio sono latenti anche nelle nostre menti, in quanto innate nella natura umana. Accettati dall'ambizione, anche noi rischiamo di perdere l'autocontrollo e una prospettiva corretta. Possiamo persino tentare di soddisfare i nostri desideri con l'inganno o le azioni malvagie. Allo stesso tempo il Sutra del Loto ci insegna che anche noi siamo certi di conseguire la buddhità se riusciamo a imparare a contemplare e a comprendere la nostra stessa natura e a dedicarci completamente a obiettivi più elevati. Il problema che abbiamo di fronte è come tenere sotto controllo il Devadatta che dimora nei profondi recessi della nostra mente e risvegliare invece la buddhità innata in noi. Questo è il punto più essenziale della pratica buddista, ed è attraverso l'impegno per la risoluzione di questo problema che sviluppiamo una vera forza di carattere. Per questa ragione l'episodio di Devadatta è di grande significato per noi oggi e ci dà l'opportunità di pensare profondamente alla nostra stessa fede e al nostro stile di vita. Quanto al mecenate di Devadatta, il Rayatashatru, si dice che si sia gravemente ammalato a causa delle azioni malvagie che aveva commesso. A quel punto si pentì e divenne un devoto buddista, dopo la morte di Shakyamuni continuò a impegnarsi per la propagazione della fede e in seguito guadagnò una certa notorietà per il suo contributo nel raccogliere e ordinare le scritture buddiste. 8 L'ingresso nel Nirvana, i tristi eventi degli ultimi anni di Shakyamuni, le circostanze della morte di Shakyamuni o, usando un linguaggio più appropriato, del suo ingresso nel Nirvana, sono diffusamente raccontate nel Sutra del Mapare Nirvana, Sutra del Grande e Completo Nirvana. A differenza dei racconti sull'ottenimento dell'illuminazione, che sono presentati per lo più sotto forma di ricordi dello stesso Shakyamuni, l'ingresso nel Nirvana è tramandato sotto forma di ricordi dei suoi discepoli. Secondo questa versione Shakyamuni, accompagnato da Ananda e da altri 500 seguaci, lasciò il picco dell'aquila vicino a Raya Gria e si diresse a nord. Morì in un bosco di alberi di sal vicino alla città di Kushinagara, nella terra dei Malla. Il Sutra copre un arco di circa sei mesi prima e dopo l'evento, inclusi il funerale, la cremazione del corpo e la suddivisione delle ceneri tra le persone in lutto. Ma prima dell'ultimo viaggio avvennero in rapida successione due eventi che causarono un profondo dolore a Shakyamuni, innanzitutto la morte dei suoi discepoli più fidati, Shariputra e Maudgagliaiana, poi la caduta della tribù degli Shakyamuni. Shariputra e Maudgagliaiana costituivano i veri pilastri dell'ordine. Come abbiamo notato in precedenza, essi erano identificati rispettivamente come il primo in saggezza e il primo nei poteri sovrannaturali, ed erano anche rinomati per la profonda e duratura amicizia che li legava. Erano così importanti e influenti che una fonte della religione jainista identifica Shariputra e non Shakyamuni come guida dell'ordine buddista. Durante gli ultimi anni di vita di Shakyamuni questo due discepoli predicarono ed esposero il Sutra al posto del loro maestro, e quando l'ordine affrontò la sua prima grande crisi per lo scisma causato da Devadatta, furono inviati da Shakyamuni perché riconquistassero i monaci in dissenso. Anche se Shakyamuni non indicò mai chiaramente chi doveva essere il suo successore, doveva aver considerato Shariputra e Maudgagliaiana come promettenti candidati per il ruolo, poiché erano universalmente riconosciuti sia per la loro saggezza sia per la loro scrupolosità nella pratica religiosa. Con gran dolore di Shakyamuni, però, entrambi questi uomini straordinari lo precedettero nella morte. Shariputra contraste una malattia e morì nel suo villaggio natio di Nalaka, di Maudgagliaiana si tramanda che si è stato ucciso da un bramano mentre chiedeva l'elemosina. Si percepisce un collegamento misterioso nel destino di questi due intimi amici, dato che morirono quasi nello stesso momento. Una delle scritture ci riporta un segno del dolore che afflisse Shakyamuni per la perdita dei suoi più grandi discepoli, quando esclamò, poiché Shariputra e Maudgagliaiana sono morti, questa riunione mi sembra vuota. Percependo anche la propria morte come imminente, Shakyamuni provò sicuramente una tristezza profonda. Anche se l'affetto per i discepoli era così grande da portarci a pensare che avrebbe potuto pronunciare quelle stesse parole per la morte di chiunque di loro. Non di meno, egli non permise che quel triste fatto lo sopraffacesse ma anzi, superando il suo dolore, si impegnò più che mai per far crescere e sviluppare l'ordine buddista. Una fonte a testa che rimproverò i discepoli sconfortati dalla perdita di Shariputra, dichiarando, che motivo avete per addolorarvi? Cosa avete perso con la morte di Shariputra? Molte grandi cose sarebbero accadute all'ordine in futuro, perché l'essenza di questo mondo è l'impermanenza e il cambiamento perpetuo. La cosa importante, comprese Shakyamuni, era costruire una forza di carattere salda e indistruttibile, che mettesse ogni persona in grado di comprendere la vera natura del cambiamento e di sopravvivere. Qui si trova l'essenza del buddismo, e Shakyamuni si aspettava che i suoi discepoli, in quanto uomini e donne che si erano impegnati a propagare e proteggere la fede buddista, lo comprendessero. Questo, io credo, è ciò che aveva in mente quando rimproverò i discepoli addolorati per la morte di Shariputra. Sapeva anche che non era lontano il giorno in cui avrebbero dovuto affrontare il dolore del suo stesso decesso. Contemporaneamente alla morte dei suoi principali discepoli, Shakyamuni ricevette la notizia del crollo del clan degli Shakyamuni. La sua vita, che era stata assediata da difficoltà sin dal momento della sua illuminazione, continuò a essere travagliata persino negli ultimi anni. Fu Virudaka, il nuovo re del Kosala, ad attaccare e distruggere gli Shakyamuni. Figlio del re Prasenait, si impadronì del trono nel momento in cui il padre era assente per una visita nello stato degli Shakyamuni. Al tempo, il vecchio re aveva 80 anni. Così due re mecenati del buddismo, Prasenait e Bimbisara, subirono entrambi lo stesso destino in tarda età. Prasenait si recò a Raya Gria in cerca di aiuto da parte di Ayatashatru, il re del Magada, ma morì durante il viaggio. La storia che si cela dietro l'attacco di Virudaka contro gli Shakyamuni è ben nota. In pochi anni lo stato del Kosala aveva accresciuto la sua potenza sotto la guida di Prasenait. Il re, sperando di incrementare il prestigio della famiglia reale, aveva deciso che gli sarebbe piaciuto avere una moglie del clan degli Shakyamuni, noto per il suo antico e nobile lignaggio e per il mecenatismo culturale. Gli Shakyamuni erano troppo orgogliosi per consegnare senza discutere una delle principesse della famiglia reale a un uomo che consideravano di rango inferiore. D'altra parte erano un regno vassallo soggetto al controllo del più potente Kosala e quindi non erano nella condizione di ignorare la richiesta. Il re degli Shakyamuni scogitò quindi un piano invece di una principessa di sangue reale, consegnò al re Prasenait una figlia illegittima, che aveva avuto da una serva. Il re Prasenait sposò la ragazza, e presto lei gli diede un figlio maschio, Virudaka. Virudaka fu educato nel regno degli Shakyamuni, dove fu addestrato nelle arti militari. Rozzo violento di temperamento e animato da una vena di brutalità, egli fu avversato dagli Shakyamuni, che lo guardavano con disprezzo e lo umiliavano apertamente per il fatto che la madre era una umile serva. Virudaka nutrì a lungo un desiderio di vendetta e, non appena si fu impadronito del trono, marciò contro il regno degli Shakyamuni. Secondo alcune fonti, in occasione di un primo attacco si imbatté in Shakyamuni, che a quel tempo stava visitando la propria famiglia, e fu convinto dal Buddha a fermare l'esercito. Virudaka invase il regno vassallo molte altre volte, ma ogni volta tu trattenuto da Shakyamuni. Alla fine però quest'ultimo si rese conto che il suo paese era destinato alla distruzione, così si rimise in viaggio diretto alla tappa successiva del suo giro di predicazione. Dopo la sua partenza il re vendicativo tornò ancora una volta e annientò il piccolo stato degli Shakyamuni. Ripercorrendo questi eventi, notiamo che negli ultimi anni di vita un'aura di tristezza sembra aver circondato Shakyamuni. L'impermanenza del mondo fenomenico, che era arrivato a comprendere grazie alla sua illuminazione e aveva tentato di insegnare agli altri, si manifestò in una drammatica serie di eventi. Non di meno, o forse proprio a causa di queste vicende, egli portò avanti i suoi sforzi per risvegliare le persone alla vera natura della realtà, predicando la legge con instancabile energia fino al momento della propria morte. L'ultimo viaggio, dopo il crollo del suo clan, Shakyamuni tornò a Raiagria, dove rimase per qualche tempo. A Raiagria di solito si sistemava nel monastero del Boschetto di Bambù, ma quando non era la stagione delle piogge andava spesso al picco dell'Aquila, situato alla periferia della città. Secondo varie fonti era uno dei suoi luoghi preferiti nel Magada e spesso vi si recava in compagnia dei suoi numerosi discepoli. Il picco dell'Aquila non è una montagna alta e quindi è abbastanza facile raggiungerne la cima. È un monte per lo più roccioso e prende il nome da una formazione in cima che somiglia a un trapace. Nei pressi c'è una sorgente calda, rara in India, e la vetta domina un'ampia distesa di foreste. Deve essere stato un luogo ideale per la meditazione, e si può anche immaginare che Shakyamuni utilizzasse le sue visite in quel luogo per predicare ai suoi discepoli. Fu infatti al picco dell'Aquila che predicò il Sutra del Loto. E dal picco dell'Aquila partì per quello che doveva essere il suo ultimo viaggio. Prima di intraprendere quel viaggio, Shakyamuni si riposò per un po'. A quel tempo aveva 80 anni, ma non permise che l'età lo distogliesse dalla predicazione, fatto che fu fonte di ispirazione per i suoi discepoli nei secoli successivi. Fino all'ultimo momento della sua vita si impegnò per diffondere la verità a beneficio di tutta l'umanità. E grazie alla sua devozione e alla purezza del suo proposito, rimase giovane e vigoroso nello spirito. Fisicamente, tuttavia, Shakyamuni a quel tempo era diventato piuttosto magro e debole, come lui stesso sapeva bene. Disse ad Ananda, che lo accompagnava nel suo ultimo viaggio, sono vecchio ora, Ananda, mi sono fatto debole. Il mio viaggio si avvicina alla fine, e io ho raggiunto la somma dei miei giorni, perché ho 80 anni. Proprio come un logoro carretto può muoversi solo se viene tenuto insieme da cinghie di cuoio, così il mio corpo funziona solo con l'aiuto di cinghie. Si dice che l'ultimo viaggio di Shakyamuni ebbe termine a Kushinagara, ma dopo aver esaminato la mappa sono incline a pensare che, dopo aver attraversato il Gange, in realtà fosse in viaggio verso Capilavastu, più a nord. Probabilmente voleva mettere piede ancora una volta sul suolo natale prima di morire. La morte lo colse mentre era ancora in viaggio. Dal picco dell'Aquila si diresse al villaggio di Patali, dove attraversò il Gange ed entrò nella terra dei Ivri. Lungo la strada predicò a varie persone, come era sua abitudine, e secondo i resoconti molti rimasero colpiti e si convertirono alla fede. Numerosi discorsi che pronunciò in quel periodo sono riportati nelle scritture. C'è un famoso aneddoto riguardante il discorso che Shakyamuni pronunciò in una foresta alla periferia di Vaishali, la capitale del regno. Questa foresta era proprietà di una cortigiana di nome Ambapali, convertita al buddismo. Sentendo che Shakyamuni era arrivato nella sua foresta, si affrettò sul posto e ascoltò il suo discorso. Profondamente toccata, quando egli ebbe finito lo invitò a cena. Egli accettò, trattandola con lo stesso rispetto riservato ai nobili che erano ugualmente venuti a sentirlo. In seguito anche alcuni nobili lo invitarono a cena, ma Shakyamuni rifiutò cortesemente, dichiarando di avere già un impegno con Ambapali. Questo episodio illustra prima di tutto l'imparzialità con cui Shakyamuni trattava uomini e donne di tutte le classi sociali, ma mostra anche che era il tipo di persona che rispettava le regole comuni del comportamento sociale. Mantenendo la sua promessa ad Ambapali, Shakyamuni si recò il giorno dopo a casa sua a cena e, dopo cena, le predicò la legge. Lei rimase profondamente colpita, e una leggenda dice che in quell'occasione donò la foresta e la residenza all'ordine. Dopo quell'episodio Shakyamuni, accompagnato da Ananda, si ritirò in un luogo chiamato Beluva per la durata della stagione dei Monsoni, mentre gli altri discepoli si sparpagliarono, cercando rifugio in altri luoghi. Durante l'ultimo ritiro Shakyamuni si ammalò gravemente. L'esatta natura della malattia non è nota, ma risulta che gli abbia causato notevole dolore. Per pura forza di volontà, comunque, alla fine la superò. Ananda naturalmente si allarmò, ma non sapeva cosa fare per alleviare la malattia del suo maestro. Alcune fonti dicono tuttavia che non fosse eccessivamente preoccupato per l'esito della malattia, perché si sentiva sicuro che Shakyamuni non sarebbe spirato prima di aver lasciato istruzioni per l'ordine. Da questo si può capire che i discepoli di Shakyamuni erano del tutto dipendenti da lui, soddisfatti semplicemente di realizzare i suoi ordini. Osservando quest'attitudine di completa dipendenza da parte di Ananda e consapevole che la fine si stava avvicinando, Shakyamuni rivolse al suo discepolo queste parole, cosa si aspetta l'ordine da me, Ananda? Ho insegnato la legge senza fare distinzione tra dottrine esoteriche ed esoteriche. Con il perfettamente risvegliato non c'è posto per cose simili al pugno chiuso del maestro che nasconde alcune cose ai suoi discepoli. Gli stava dicendo che aveva già insegnato ai suoi seguaci tutto quello che c'era da sapere sulla legge e che era inutile che si aspettassero altro da lui. Da quel momento in poi dovevano solo vivere secondo la legge e diffonderla. Quanto al suo atteggiamento verso l'ordine, continuò dicendo, se vi è qualcuno che pensa guiderò io il Sangha o il Sangha dipende da me, questa persona dovrebbe dare istruzioni ai Bikku. Tuttavia il Tatagata non pensa sarò io a guidare il Sangha, o i Bikku dipendono da me. Nella sua visione Shakyamuni non era il capo dell'ordine, ma solo uno dei suoi membri, in cerca della verità come tutti gli altri. Queste parole indicano l'umiltà di Shakyamuni e servono anche a riassumere tutta la sua vita. Il suo atteggiamento verso i discepoli era quello di un amico e compagno che, come loro, era impegnato verso lo stesso obiettivo e riconosceva la stessa filosofia di vita. Con queste parole desiderava sicuramente cancellare il profondo sentimento di dipendenza che Ananda e gli altri discepoli nutrivano verso di lui. Li stava ammonendo di dipendere dalla legge, non da Shakyamuni. In seguito, quando si rese conto che stava per morire, Shakyamuni lasciò le seguenti istruzioni relative all'ordine e alla condotta dei monaci, dovete essere la vostra stessa isola. Prendete il vostro io come rifugio. Non rifugiatevi in nient'altro se non voi stessi. Aggrappatevi alla legge come a un'isola e non cercate rifugio in qualcosa di diverso da voi stessi. Con queste parole Shakyamuni definì appropriatamente lo spirito fondamentale con cui i monaci dovevano portare avanti la loro pratica religiosa e assumersi la responsabilità di se stessi. Si tende a pensare all'io come a qualcosa di fragile e inaffidabile, e può sembrare sorprendente scoprire che il Buddha vi ponesse una simile enfasi. Con io qui comunque egli non intende l'io comune che è soggetto a improvvisi cambiamenti dovuti all'influenza di cause esterne, ma l'io che aspira a una condizione di permanenza attraverso la legge. Una volta che una simile io ha una base solida, allora uno degli obiettivi fondamentali del Buddismo è stato raggiunto e l'individuo è libero di dedicare il resto del proprio tempo alla salvezza degli altri e alla perpetuazione della legge. Nel Buddismo non si cerca la dipendenza dagli altri e non si aspetta aiuto dagli altri. L'individuo deve costruirsi una solida comprensione, luminosa e chiara come uno specchio, e proseguire il cammino accompagnato esclusivamente da quella comprensione. La legge è la base su cui costruire un io di questo tipo. E la legge è innata nella vita di ogni singolo individuo, non esiste al di fuori dell'io. Questo, io credo, è ciò che il fondatore della scuola buddista Tient'A in Cina intendeva quando, spiegando i principi fondamentali del Buddismo, parlava degli insegnamenti del Buddha praticati all'interno della tua mente. In ultima analisi, nessuna religione pone maggiore enfasi sulla dignità dell'individuo e sulla natura soggettiva del Buddismo. Questa è la differenza essenziale tra il Buddismo e gran parte delle altre religioni. Molte religioni, al contrario del Buddismo, riconoscono l'assoluto come esistente al di fuori dell'io. Nel Buddismo l'unico assoluto è il Dharma, o legge della vita, che non può che esistere nell'io. All'individuo non resta che divenire consapevole di questa verità e manifestare il Dharma che vi è contenuto. In altre parole, si trasforma l'io presente mutevole nell'io che è in perfetta armonia con la legge. Questo umanesimo, che si può anche chiamare rivoluzione umana, costituisce la vera essenza del Buddismo. Shunda il Fabbro, Shakyamuni passò l'ultima stagione dei monsoni della sua vita a Beluva nei dintorni di Vaishali. Un giorno, alla fine delle piogge, riposando sotto un albero di Shatala, si dice che abbia osservato, questo mondo è meraviglioso, è una gioia viverci. Siamo sempre curiosi di sapere come appaia il mondo a una persona che sta affrontando la morte. Si racconta che il noto romanziere giapponese Ryunosuke Akutagawa abbia osservato proprio prima di suicidarsi, la natura mi sembra più bella che mai. Questo perché vi poso gli occhi per l'ultima volta. Shakyamuni vide questa stessa bellezza intorno a sé, ma le sue parole non rivelano la minima traccia di incerto attaccamento al mondo. Piuttosto esprimono un senso di appagamento, di una vita realizzata. Shakyamuni avrebbe sperimentato la morte serena e composta di un vero saggio. Lasciandosi alle spalle la bella regione del Vaishali, Shakyamuni continuò il suo viaggio verso nord in compagnia di Ananda. Dopo aver oltrepassato una serie di villaggi, dove insegnò la legge, egli proseguì verso un luogo chiamato Pava. In questo villaggio Shakyamuni e i suoi discepoli si fermarono in un bosco di mango di proprietà di un uomo di nome Shunda. Anche se era solo un umile fabbro, Shunda finì involontariamente per rimanere coinvolto nell'ingresso del Buddha nel Nirvana. Salutando Shakyamuni con calore, egli ascoltò i discorsi del maestro e pose varie domande, a cui questi rispose con attenzione. Profondamente colpito, Shunda invitò il Buddha e i suoi discepoli a cena nella sua casa e, sentendosi gioioso e riconoscente, fece preparare un pasto speciale per loro, il cui principale ingrediente sembra sia stato un tipo di fungo. Shakyamuni accettò con gentilezza la sua ospitalità e parlò con il fabbro con la stessa cortesia che avrebbe riservato a un principe o a un bramano. Sportunatamente per Shakyamuni, che si trovava già in una condizione di debolezza, il pasto ebbe terribili conseguenze. Dopo aver mangiato Shakyamuni iniziò ad avere violenti dolori e si ammalò gravemente. La natura della malattia non è nota ma si presume che sia stata dissenteria, poiché si tramanda che fosse accompagnata da diarrea ed emorragia intestinale. Ananda, nella sua angoscia, rimproverò Shunda, ma Shakyamuni lo trattenne, affermando che grandi ricompense sarebbero arrivate a quell'uomo per il pasto che aveva offerto con tutto il cuore. Shakyamuni si rese conto che, anche se il pasto aveva riacutizzato la sua precedente malattia, non toglieva niente allo spirito di reverenza e gratitudine con cui era stato allestito. Shunda non doveva essere biasimato. Shakyamuni percepì che era nella natura umana a condannare Shunda, ma sottolineò la follia di un comportamento del genere. Pari nirvana, nonostante i forti dolori che lo attanagliavano, Shakyamuni insistette a proseguire il suo giro di predicazione con Ananda al suo fianco come al solito. Ma era troppo indebolito dall'età e dalla malattia per proseguire a lungo. La sua ultima fermata fu Kushinagara. Kushinagara è situata a sud-est di Capilavastu. Anche se era ancora lontana, Shakyamuni si stava trascinando verso la casa natale, passo dopo passo, ma arrivò il giorno in cui non poté più proseguire. Dopo aver raggiunto Kushinagara si ritirò in un bosco di alberi di sal, dove gli fu preparato un giaciglio sotto gli alberi. Pare che nei tempi antichi gli alberi di sal crescessero numerosi nella zona di Kushinagara e che siano presenti ancora oggi. Riposando sul giaciglio che Ananda gli aveva preparato, Shakyamuni comprese con chiarezza che la morte stava arrivando, e chiese ad Ananda di informare le persone della tribù dei Malla che vivevano nella città di Kushinagara che il Buddha stava per entrare nel Nirvana. I Malla arrivarono subito a rendergli omaggio. Tra loro c'era una sceta che chiese di essere ammessa alla presenza del Buddha per poterlo interrogare sulla legge. Ananda, preoccupato per le condizioni del suo maestro, cercò di respingere la richiesta, e tra i due nacque una discussione. Sentendoli, Shakyamuni chiese alla sceta di avvicinarsi al suo capezzale e, dopo aver risposto alle domande sulla legge, lo ammise nell'ordine. Poi Shakyamuni si rivolse ai monaci riuniti intorno al giaciglio, dicendo, «La decomposizione è inerente a tutte le cose composite. Lavorate diligentemente per assicurarvi la salvezza». Secondo le fonti sono state le sue ultime parole. Verso mezzanotte dello stesso giorno ebbe luogo l'evento noto nella terminologia buddista come pari nirvana, o nirvana finale. In Giappone l'anniversario dell'ingresso di Shakyamuni nel Nirvana si celebra il 15 febbraio, data calcolata sulla base della leggenda che riporta che ebbe luogo alla fine della notte della luna piena di Vaishaka, come nel caso della sua illuminazione. Una delle scritture ci riporta il seguente resoconto drammatico della scena, l'albero di sale esplose in piena fioritura fuori stagione, si piegò sul Tatagata e fece piovere fiori sul suo corpo, come a rendere supremo omaggio al Buddha. Fiori celestiali piovero e si disseminarono sul Tatagata come a rendere supremo omaggio al Buddha. E il mondo era come una montagna la cui vetta era stata ridotta in frantumi da un fulmine, era come il cielo senza la luna. Qualunque cosa possa essere accaduta, possiamo essere certi che fu la fine adeguata di una vita costantemente caratterizzata dall'impegno per creare gentilezza, armonia, serenità e pace. I discepoli in lutto eressero una pira funeraria il corpo del Buddha fu cremato, sette giorni dopo la morte. Le sue ceneri, che vennero considerate sacre reliquie, furono divise tra i rappresentanti dei vari gruppi tribali e il re Ayatashatru del Magada. La morte di un uomo davvero grande spesso segna l'inizio, piuttosto che la fine, di un'era in termini di progresso dello spirito umano. La differenza sta nel fatto se quella persona è vissuta essenzialmente per la propria gloria o se ha dedicato la vita alla ricerca dei principi eterni e alla vera felicità di tutta l'umanità. Shakyamuni apparteneva alla seconda categoria e il suo messaggio, invece di morire con lui, fu trasmesso dai suoi discepoli alle genti delle epoche successive. Diede inizio a una nuova era nella storia spirituale dell'umanità, non solo nel paese della sua nascita, ma in tutto il continente asiatico. Anche se la storia del buddismo era solo cominciata, desiderò concludere questo lavoro laddove si concluse l'esistenza del suo fondatore.